Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Enrico Mattei, stratega del petrolio, di Nico Perrone. Questa è una storia italiana, sì lo sappiamo tutti che è una storia italiana, Enrico Mattei, personaggio italiano. Ma è una storia italiana perché in questa storia ci sono molte caratteristiche del nostro paese e delle nostre vicende, caratteristiche che abbiamo visto, rivisto, in parte anche patito. E si può dire che nella storia di Enrico Mattei e dell'ente nazionale idrocarburi ci sono un po' tutti gli elementi che poi si rivedranno, si ritroveranno dopo. E che magari dopo arriveranno a conclusioni forse anche diverse rispetto a quelle verso cui Mattei aveva orientato. Mattei aveva orientato il paese alla rinascita, il paese alla ricostruzione, aveva orientato la nostra Italia ad avere un ruolo nelle relazioni internazionali. È un paese sconfitto l'Italia, siamo negli anni dell'immediato dopoguerra, siamo dopo il 1945. L'Italia non conta più nulla al mondo. L'Italia non ha materie prime. L'Italia ha perduto la guerra per molte ragioni, ma una delle ragioni era anche la mancanza di petrolio. Ed era un'antica aspirazione italiana quella di acchiappare il petrolio da qualche parte, a riuscire a estrarlo in qualche paese, in qualche colonia, nel nostro sottosuolo o in qualche paese lontano. Ed era un'aspirazione italiana quella di avere non soltanto combustibile per le automobili, ma avere anche un combustibile che potesse servire per mandare avanti le aziende. E questo sarà il metano, il metano che Mattei porterà in superficie attraverso la sua grande organizzazione dell'ENI, che non si chiamava ancora allora ENI. Ma sono questi gli scopi che Mattei si prefigge. Quello di cambiare un paese agricolo, che agricolo non può essere più perché il mondo è cambiato, perché da paese agricolo sarebbe schiacciato, non conterebbe nulla nel mondo. Cambiarlo in un paese industriale, in un paese capace di sviluppo, di avere un'industria sua, in un paese capace di creare dei prodotti che possano essere competitivi nel mondo. Per fare tutto questo, materia prima essenziale, la materia prima che manda avanti, fa camminare le aziende, fa camminare poi le automobili che servono per i trasporti e i treni anche, è il petrolio. E il petrolio l'Italia non ce l'ha, non lo ha cercato, non lo ha trovato. Rimane non soltanto un'aspirazione ma una necessità, una necessità per esistere. Senza petrolio l'Italia sconfitta non esisterebbe, non conterebbe nulla nel mondo. E allora ecco che Mattei parte da un'intuizione, intuizione che viene dalla necessità antica mai soddisfatta. L'intuizione è quella di poter riuscire a trovare il petrolio nel sottosuolo italiano, oppure trovarlo a qualche altra parte se nel sottosuolo italiano non è possibile. E riuscire a trovarlo inserendosi nel grande gioco petrolifero internazionale che è regolato da poche potenze che si dividono tutta la torta petrolifera. Questa è la necessità che Mattei sente e questo è l'avvenire che vuol dare al suo paese. Non è facile realizzare un programma di questo genere, ci sono delle difficoltà di ordine interno ma ci sono soprattutto delle difficoltà di carattere internazionale, perché i paesi che hanno una loro capacità petrolifera consolidata nel tempo non accettano di buon grado di avere concorrenti e non accettano di avere concorrente un paese sconfitto come è stata l'Italia. Ecco che quindi l'impegno deve essere ancora maggiore, ecco che le difficoltà sono ancora maggiori. Quindi una storia italiana, come abbiamo detto, che cerca di rispondere ad aspirazioni antiche e una storia che non si improvvisa ma che vuole realizzare un progetto molto faticoso, molto ardo al quale lavora un uomo, Enrico Mattei. Possiamo cominciare questa storia con le parole di Amintore Fanfani. Siamo nel 1986, quindi tanti anni fa, Fanfani disse «Forse l'abbattimento dell'aereo di Mattei è stato il primo gesto terroristico nel nostro paese». Fanfani parlato di abbattimento, non c'erano assolutamente dubbi. E Fanfani allora aveva responsabilità di governo, doveva sapere come stavano le cose. Ma si è taciuto, per tanti anni, per tanti decenni, si è taciuto, non si è saputo come stessero effettivamente i fatti. Ma Fanfani è ben convinto di quello che ha detto. Torna su questo argomento nel 1991, ai margini di un congresso, e parla di qualcosa che forse non si può dire sulle circostanze della morte di Mattei. E qualcosa che non si può dire soprattutto sulla crisi dei missili di Cuba. Fanfani dunque ha collegato la fine di Mattei alla crisi dei missili di Cuba. Sono fatti molto, molto lontani. La crisi di Cuba mise il mondo sulle soglie della Terza Guerra Mondiale. La tensione fra i blocchi, allora il mondo era diviso in blocchi. C'era il blocco dei paesi comunisti e c'era il blocco dei paesi occidentali, che si riconoscevano nella Nato. E la tensione continua era fortissima fra questi due blocchi. E ci fu un momento di crisi particolare. Successe all'indomani della scoperta della costruzione di basi missilistiche sovietiche sull'isola di Cuba. Insomma, i sovietici con quelle basi potevano portare per la prima volta un attacco sul suolo americano. Su questi argomenti un'altra personalità, un altro ministro di quegli anni, Devo Cristiano, anche lui, Paolo Emilio Taviani, ha rilasciato delle dichiarazioni. Concordano, concordano assolutamente con quello che diceva Fanfani. E aggiungono qualche cosa di più. Parlano della possibilità che scoppiasse una guerra mondiale nei giorni della crisi di Cuba. Quindi il nervosismo, la tensione, la paura, la corsa alla difesa e alle armi da una parte di un blocco e da parte dell'altro blocco non ammetteva assolutamente soste, non ammetteva incertezze. Gli elementi di disturbo dovevano essere messi da parte, dovevano essere eliminati, dovevano essere messi nella condizione di non nuocere. E' la logica delle grandi potenze. Si possono avere delle riserve, ma le grandi potenze si reggono sulla base di logiche di questo genere. Si reggono sulla base di un equilibrio che deve rimanere. Deve rimanere a difesa della pace, a difesa della situazione che esiste nel mondo e che nessuno dei due blocchi ha interesse a modificare. Questa storia di Enrico Mattei va ricordata in tutti i suoi dettagli, tuttavia. E non può essere imperniata soltanto sul momento finale, sul momento della morte, momento drammatico per la storia del nostro paese, momento drammatico per la storia dell'ente nazionale idrocarburi che Mattei appunto aveva concepito e aveva fondato. E bisogna tornare allora all'Italia di quegli anni, all'Italia del 1945, all'Italia dell'immediato dopoguerra, dopoguerra partigiana. Ed ecco che Enrico Mattei viene sulla scena proprio il 18 aprile 1945, quando c'è la grande sfilata dei partigiani. I partigiani hanno vinto. Sono i partigiani di tutte le formazioni politiche, i partigiani dell'estrema sinistra, i comunisti e i socialisti, ma ci sono anche quelli delle formazioni centriste, ci sono anche soprattutto i partigiani cattolici. Enrico Mattei si era l'istinto fra i partigiani cattolici. E in quanto riconosciuto comandante dei partigiani cattolici, ha l'onore di aprire insieme agli altri leader politici la grande sfilata di Milano del 18 aprile 1945. La sfilata delle forze partigiane che hanno lasciato le armi e si propongono sulla scena politica, perché loro dovranno reggere le sorti del paese. Ed ecco che la storia dei partigiani vincitori si intreccia a un'altra storia molto importante per il nostro paese, la storia dell'energia, la storia del petrolio in modo particolare. E sul petrolio vanno fatti alcuni passi indietro per capire di che cosa si trattasse. L'Italia non aveva risorse petrolifere, aveva dovuto combattere e perdere la seconda guerra mondiale fidando sul petrolio che gli veniva dagli eleati, che gli veniva dalla Germania e non soltanto dalla Germania, ma non aveva il controllo di significative fonti petrolifere proprie. E questo aveva influito sulla guerra e influiva soprattutto sullo sviluppo del paese. L'Italia era un paese condannato a uno sviluppo limitato, a uno sviluppo che si strozzava perché dipendeva dall'estero per la fonte essenziale dell'energia, per il petrolio, appunto. E la ricerca del petrolio c'era stata durante il fascismo. Il fascismo aveva cercato petrolio nelle colonie, aveva cercato petrolio nel nord Italia, ma non aveva mai avuto fortuna. Era arrivato sempre molto vicino a fonti petrolifere importanti, ma non era mai riuscito a sviluppare delle significative estrazioni. E questo è il problema vero dell'Italia. Non è più il problema di guerra, perché la guerra non c'è più, ma è il problema dello sviluppo del paese. È chiaro che oramai il petrolio assume un ruolo centrale nello sviluppo di tutti i paesi occidentali, non soltanto dell'Italia. Altri paesi occidentali importanti ce l'hanno il loro petrolio, hanno fonti dirette o hanno accesso a fonti petrolifere. L'Italia non soltanto è stata sconfitta nella guerra e quindi si trova in una grande posizione di inferiorità rispetto a chi la guerra l'ha vinta, ma si trova in posizione di inferiorità anche perché non ha accesso diretto alla principale fonte energetica. La circolazione automobilistica allora non era quella di oggi, certamente. I grandi trasporti su strada che oggi attraversano le autostrade non erano ancora la realtà che conosciamo oggi, ma non ci voleva molto a prevedere che lo sviluppo dell'Italia sarebbe andato in quella direzione. Era lo sviluppo dell'Occidente. E quindi ecco che il discorso torna sempre sul petrolio. Un petrolio che un paese sconfitto non possiede e in quanto sconfitto non riesce a ottenere dai vincitori, se non ha le condizioni e secondo le esigenze, secondo le opportunità valutate dai vincitori. E' qui che comincia a muoversi nella testa di un manager industriale, era stato un piccolo industriale per conto proprio, ma aveva la mentalità del manager, aveva la mentalità del capo, ecco che nella mente di Enrico Mattei comincia a prendere un posto fondamentale la ricchezza ritenuta basilare per lo sviluppo italiano, la ricchezza petrolifera. Mattei era un piccolo industriale, aveva una fabbrichetta intorno a Milano, aveva trasferito la sua casa a Milano, una fabbrichetta che gli andava anche bene, una fabbrichetta di prodotti chimici per le tintorie e per altre lavorazioni di questo genere. Piccola cosa evidentemente nel quadro industriale italiano, ma grande fabbrica per l'economia personale di Mattei, che era riuscito a essere il solo in questo campo. E quindi Mattei dal punto di vista economico era assolutamente tranquillo, non aveva dei problemi, aveva però delle grandi ambizioni, aveva l'ambizione di giocare un ruolo nello sviluppo dell'Italia. Aveva fatto il partigiano, ma non aveva fatto il partigiano per nulla, aveva fatto il partigiano perché era parte del grande processo partigiano di cambiare l'Italia, di fare un'Italia diversa, di fare un'Italia politicamente diversa, ma un'Italia che anche economicamente avesse una sua consistenza, una sua forza e se necessario anche una forma di aggressività sul quadro internazionale. Perché un paese o si regge così o non si regge, o si regge così oppure ha la dipendenza delle altre potenze. E se le altre potenze sono le potenze vincitrici, come era appunto nel caso dell'Italia, del dopoguerra, il discorso si fa molto duro e lo sviluppo del paese risulta strozzato sin dall'inizio. Nel panorama del petrolio erano altri i paesi che contavano, l'Italia mai aveva contato. Erano gli Stati Uniti d'America, era l'Inghilterra, era la Francia, perché riusciva attraverso il suo impero coloniale, allora in liquidazione, tuttavia ancora esistente, riusciva a controllare delle fonti petrolifere. L'Italia non aveva assolutamente nulla in questo campo. Non aveva fonti petrolifere e non aveva neanche quelle fonti collegate al petrolio che diventeranno poi molto importanti nella storia italiana. Parliamo del metano, che è un gas che si estrae insieme, fa parte della grande lavorazione, della grande estrazione del petrolio ed è ritenuto lo strato superiore rispetto a quello nel quale è contenuto il petrolio. Ma tuttavia sono pregiati entrambi, pregiato in modo particolare il petrolio, pregiato anche il metano. E poi vedremo in una delle prossime puntate l'uso che del metano si è fatto in Italia e quanto il metano è servito allo sviluppo industriale del nostro paese e non soltanto allo sviluppo industriale. Ma torniamo al petrolio. Dunque il problema è il petrolio. Staccare questo paese dalla dipendenza rispetto agli Stati Uniti, in modo particolare rispetto all'Inghilterra e agli altri paesi occidentali che avevano vinto la guerra. Esisteva in Italia un'azienda petrolifera che si chiamava Agip, Azienda Generale Italiana Petrolli. Questo è lo svolgimento della sigla. Una società che era stata costituita durante il fascismo e che era controllata al 100% dallo Stato italiano. Era una società che si doveva occupare appunto delle ricerche petrolifere in Italia e all'estero perché l'Italia aveva avuto un impero coloniale. L'Italia aveva avuto la possibilità di affacciarsi in paesi stranieri dell'Europa orientale, per esempio, e anche lì aveva cercato del petrolio. E chi conduceva le ricerche, chi aveva la responsabilità di questo per lo Stato italiano durante il fascismo era appunto l'Agip, l'azienda generale italiana Petroli. L'Agip nel dopoguerra era un'azienda sfasciata nelle sue strutture industriali perché buona parte delle sonde erano state danneggiate o distrutte. Era un'azienda che non aveva più l'accesso alle fonti petrolifere nell'Europa orientale perché l'Italia aveva perso la guerra e si accingiva a non avere più accesso neppure alle fonti petrolifere nelle colonie perché l'Italia non aveva ancora perduto le colonie immediatamente dopo la guerra ma era chiaro che si avviava a perderle. Quindi l'Agip era una sorta di azienda inutile che aveva avuto un grande programma che aveva fallito in quel suo programma e che non aveva futuro. E si era parlato di liquidazione dell'Agip. Venivano ogni tanto anche in sede governativa all'ordine del giorno questi problemi liquidare l'Agip ma erano problemi che venivano anche dai paesi vincitori della guerra. Si voleva che l'Agip, azienda al 100% di proprietà dello Stato italiano, fosse privatizzata, passasse nelle mani dei privati e quindi perdesse questa sorta di monopolio pubblico sulla principale fonte energetica. Ed è qui che il discorso di Mattei comincia a toccare il nodo principale che è quello dell'approvvigionamento petrolifero e quello del reperimento delle fonti petrolifere e del reperimento in Italia visto che tutti i tentativi dell'Agip all'estero erano completamente falliti e non potevano avere futuro per la condizione politica dell'Italia. Il mercato petrolifero a quel tempo, negli anni dell'immediato dopo guerra, era dominato da sette grandi società internazionali. Diciamo internazionali perché erano in parte americane, in parte inglesi, in una piccola parte anche olandesi, ma l'Italia era assolutamente fuori del business petrolifero. Non esisteva una grande società italiana che facesse parte di questo concerto di potere, di potere economico, di potere energetico. E nell'Italia, nelle condizioni di paese sconfitto, poteva aspirare ad entrarci, era assolutamente assurdo. Bisogna rendersi conto che queste società avevano un potere immenso che derivava dal denaro, derivava da una gran massa di denaro che in sua volta derivava dalla vendita petrolifera, ma era soprattutto un potere anche di carattere politico, perché le guerre, perché il potere dei paesi, perché la consistenza dei paesi si fanno anche su queste basi. La disponibilità di materie prime essenziali, come il petrolio era, significa potenza per un paese. E l'Italia non aveva nulla di tutto questo. Non era riuscita, abbiamo già visto, durante il fascismo a ottenerlo. Dipendeva per quello che aveva potuto dalla Germania durante la guerra. E a guerra finita dipendeva dai paesi occidentali che le ricchezze petrolifere le avevano, le controllavano, le sviluppavano e le centellinavano, le facevano pesare. Entrare in questo business, entrare, ma non soltanto nell'affare del petrolio, entrare anche nella disponibilità del petrolio, che servisse per il nostro sviluppo, era uno scopo che l'Italia doveva prefiggersi, ma il governo italiano non poteva pensarci, perché era alle prese con dei altri problemi. Tranne un'intuizione, ci fu un'intuizione da parte di De Gasperi, che pur dovendo seguire tante altre cose, ebbe immediatamente la perfetta valutazione di quanto fossero importanti le ricerche che Enrico Mattei voleva portare avanti in campo petrolifero, di quanto fosse importante il consolidamento dell'Italia in questo campo portante dell'energia. Quindi le figure sono due, la figura dell'industriale, del manager, che concepisce di dare all'Italia il controllo di fonti petrolifere, e il politico, Alcide De Gasperi, l'intelligente, sensibile, capace, uomo di governo, forse dopo Cavour, il più capace che abbiamo mai avuto in Italia, il quale asseconda Enrico Mattei perché si rende conto che effettivamente l'Italia del petrolio ha bisogno. Ha bisogno non per diventare una grande potenza, perché non se ne parla neppure in quegli anni, ma per la propria sopravvivenza, per la propria ricostruzione, per avere anch'essa una circolazione automobilistica all'altezza dei tempi, per avere un'energia che possa servire a far camminare l'industria, per avere un'energia che possa servire a riscaldare le case. Sono questi i problemi legati al petrolio che il governo di quel tempo sente, che De Gasperi in modo particolare assiconda, e che Mattei interpreta alla grande, e che Mattei realizza sul piano industriale, sul piano della capacità di dare in concreto al nostro paese una sua rete petrolifera e un suo accesso alle fonti energetiche internazionali. Perché le fonti energetiche sono tutte fuori, non solo nel nostro paese. Ma un tentativo c'è stato, effettivamente un tentativo di cercare petrolio anche in Italia, di vedere di estrarre petrolio nella Val Padana, dove si aveva l'intuizione che qualcosa dovesse esserci. Già il fascismo aveva cominciato con delle perforazioni, però questa era una speranza, non era una consapevolezza di una ricchezza che era possibile raggiungere, ma soltanto quella di un lavoro da fare, di un tentativo da realizzare per assecondare una speranza. Abbiamo parlato della Valle Padana, del petrolio nella Valle Padana, che era stata una speranza del fascismo, era stato un obiettivo di ricerca dell'azienda petrolifera italiana, dell'ACIP. Era stato soprattutto un gran desiderio che è rimasto inappagato per lunghissimo tempo e che si è sperato nel dopoguerra potesse portare a una qualche consistenza estrazione che servisse allo sviluppo italiano. Quindi grandi attrezzature sono in funzione nella Valle Padana per la ricerca petrolifera e queste attrezzature in parte sono made in USA o made in England perché l'Italia non era in grado di produrre queste attrezzature, ci venivano dai vincitori e erano state consegnate all'ACIP prima che finisse la guerra ed erano ancora lì nella Val Padana, potevano ancora essere utilizzate. C'erano addirittura talvolta dei tecnici americani che aiutavano a portarli avanti. Quindi c'erano stranamente due progetti che convivevano. Il progetto italiano di sviluppare queste ricerche petrolifere, di portarle a un risultato significativo. E c'era invece il proposito dei vincitori americani e inglesi di tenere l'Italia in posizione di inferiorità in questo campo e quindi di non consentirle un'autonomia piena. Anche perché l'ACIP era una industria statale e non era gradito ai vincitori che lo Stato fosse protagonista in un settore importante dello sviluppo. Le privatizzazioni non erano ancora cominciate, ma erano già nell'uso dei paesi vincitori. L'economia privata era prevalente negli Stati Uniti d'America, per esempio. Non si può dire la stessa cosa dell'Inghilterra, in cui c'era una convivenza dei due sistemi, ma con una prevalenza per lo meno ideologica, per lo meno di carattere politico, per l'industria privata. Quindi un'attività in un campo essenziale per lo sviluppo, il petrolio, che fosse condotta da un paese sconfitto, l'Italia, su basi che non erano quelle che si voleva dare allo sviluppo, su basi di economia pubblica e non di economia privata, come i vincitori avrebbero preferito, era un altro ostacolo da superare. E quindi ci furono delle pressioni molto forti perché l'Agip venisse liquidata, perché le attrezzature dell'Agip venissero vendute e perché Enrico Mattei, che dell'Agip era stato nominato commissario straordinario dopo la Resistenza, lasciasse il suo posto e passasse al suo lavoro, che non aveva tutt'altro lavoro prima dell'Esistenza e prima della guerra e quindi sgombrasse della sua presenza un settore pubblico importante nel quale si voleva che tornassero i privati. Questo si voleva almeno da parte delle potenze vincitrici. Ma i tempi non erano maturi per questo. Gli interessi italiani erano diversi. la consapevolezza di Mattei e soprattutto di Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, questo va continuamente sottolineato, era appunto quella di lasciare l'Italia protagonista nel campo fondamentale per lo sviluppo nel petrolio. Ma fare questa operazione era molto complesso perché i vincitori non volevano assolutamente consentircelo e quindi bisognava che De Gasperi e Mattei si muovessero mettendo la sordina alla loro opera senza fare troppo chiasso che avrebbe creato una dura opposizione da parte delle potenze vincitrici. Torniamo su De Gasperi, torniamo sempre su Alcide De Gasperi, il presidente del Consiglio, un grande personaggio della storia italiana. Torniamo su De Gasperi perché l'iniziativa la creatura di Mattei l'ente nazionale di idrocarburi è stata molto importante per la storia del nostro paese ma senza Alcide De Gasperi presidente del Consiglio che capisce immediatamente l'importanza di questo progetto e senza la sua capacità diplomatica di De Gasperi appunto di farlo non accettare ma farlo passare davanti agli occhi delle potenze vincitrici senza che le potenze vincitrici riuscissero a capirlo e riuscissero a vederlo nella sua interezza e appunto questo merito di De Gasperi è importante e va riconosciuto e va ricordato. Adesso al merito si unisce la capacità straordinaria dell'industriale Mattei del Mattei che scava scava petrolio nella Valpadana che non riesce a ottenere petrolio nelle quantità significative che si inventa anche dei blef dei zampilli petroliferi in buona parte finti in buona parte esagerati ma che sa che in ultima analisi il petrolio dovrà cercarlo fuori perché dal sottosuolo della Valpadana non può venire fuori ma in questa ricerca del petrolio in Valle Padana un grande successo l'ENI di Enrico Mattei lo ha ed è il reperimento del metano il reperimento del metano che può essere un motore importante per l'industria italiana per la ricostruzione italiana è un elemento che nello stesso tempo allontana dal bisogno di dover utilizzare il carbone che è fortemente inquinante ma che soprattutto viene da potenze straniere perché i giacimenti di carbone in Italia tranne quelli della Sardegna non sono significativi quindi anche per il carbone l'Italia deve dipendere dall'estero ed ecco che la necessità di una fonte energetica propria metano appunto è molto importante per il nostro paese e la capacità da parte di Mattei di lasciare immediatamente da parte la ricerca petrolifera nella Valpadana una volta assodato che il petrolio non si riesce a tirar fuori ma potenziare invece l'estrazione del metano e creare una rete che porti il metano nelle fabbriche del nord e nelle case del nord per il riscaldamento beh questa intuizione di Gasperi e di Mattei e questa realizzazione attraverso il sistema economico industriale dell'ENI è un fatto molto importante per il nostro paese ed è un fatto dal quale dipende in larga misura il nostro sviluppo industriale noi abbiamo in casa una fonte energetica possiamo portarla direttamente alle fabbriche attraverso le iniziative di Mattei e possiamo così contribuire allo sviluppo del paese abbiamo girato intorno al problema energetico negli anni del dopoguerra negli anni in cui l'Italia si avviava a cambiare tutto si avviava a divenire una potenza industriale anche se non era questo molto chiaro se ancora non lo sapeva però sapeva l'Italia molto bene di avere un grave problema energetico allora era il problema del petrolio essenzialmente e oggi questo problema esiste ancora il problema energetico che pensavamo di avere risolto prima appunto attraverso l'ENI l'ente nazionale idrocarburi che era riuscito nel campo petrolifero a dare all'Italia una sua autonomia e anche una sua forza all'interno dello scacchiere mondiale ma accanto a questo ci sono problemi energetici di più lunga portata ci sono problemi energetici legati alla energia elettrica e l'energia elettrica è anch'essa in qualche misura dipendente dal petrolio perché il petrolio serve per il funzionamento delle centrali e l'energia petrolifera ancora oggi viene da paesi stranieri l'energia petrolifera e l'energia metanifera perché il metano è una fonte energetica assai importante che si trasforma che diventa poi il gas di città che entra nelle case ma che serve soprattutto a far girare una parte considerevole dell'industria l'Italia questo paese appunto questo problema ce lo ha ancora ce lo ha ancora e quando ritiene di averlo risolto perché attraverso aziende sue e così è stato il caso dell'Eni o attraverso accordi internazionali è riuscita a procurarselo e deve poi fronteggiare le crisi le crisi legate alla situazione internazionale le crisi che possono creare delle difficoltà nella continuità dell'approvvigionamento dunque il problema di allora il problema dell'immediato dopo guerra comincia a ridiventare il problema di oggi l'accesso alle fonti c'è c'è in teoria ci sono anche i grandi canali che conducono queste fonti energetiche fino al nostro paese ci sono gli impianti per trasformare le fonti energetiche in combustibile per l'industria o in gas che sia utilizzabile per usi di città ma c'è il quadro internazionale che talvolta crea dei problemi e talvolta interrompe la continuità del rifornimento e questo è un momento che abbiamo vissuto nell'immediato dopo guerra per la mancanza assoluta dell'accesso italiano alle fonti e che stiamo forse rivivendo oggi perché pur non essendoci impedito teoricamente l'accesso alle fonti energetiche tuttavia le crisi internazionali possono creare dei problemi gravi sono problemi di carattere economico perché occorre queste fonti averle e occorre avere il denaro per pagarle e sono problemi di carattere politico perché occorre avere la libertà di accesso alle fonti visto che in Italia non ci sono il metallo abbiamo detto che si è trovato nella Valle Padana ma è servito in un momento particolare del paese ma si è esaurito ma occorre dunque una grande capacità industriale per gestire un problema di queste dimensioni il problema dell'approvvigionamento della principale fonte energetica per il nostro paese e occorre una capacità politica la capacità di inserire il discorso nella politica italiana e quello che è ancora più difficile di inserire il discorso nella politica internazionale dove posto per l'Italia in questo campo non ce n'è il posto è tutto preso dalle grandi potenze che per tradizione hanno gestito il mercato petrolifero e che in questa loro tradizione si sono rafforzate in seguito alla seconda guerra mondiale che hanno vinto mentre l'Italia ha perduto e tuttavia essendo questo il centro dell'interesse italiano l'energia l'approvvigionamento dell'energia occorre che il problema sia risolto nel nostro paese con mezzi italiani con aziende italiane altrimenti lo sviluppo del nostro paese sarà dipendente dalle esigenze di altri ed ecco che il discorso non è più soltanto energetico ma diventa un discorso politico e diventa in qualche misura un discorso strategico perché deve saper guardare a lungo periodo l'Italia di De Gasperi è caratterizzata dalla visione strategica De Gasperi è presidente del consiglio capace di sviluppare una politica con respiro strategico e al suo fianco nel settore energetico a capo della principale azienda energetica italiana l'Agip lì allora c'è un altro uomo con capacità strategiche straordinarie con la capacità di guardare lontano con la capacità di concepire lo sviluppo del paese sul lungo periodo ed è appunto dalla unione di questi due uomini e dalla loro comune consapevolezza dei problemi di durata dell'Italia che viene fuori il grande problema dell'ENI viene fuori il grande progetto dell'ENI dell'ente nazionale idrocarburi che si pone come una sorta di cappello di cappello direttivo e operativo su una realtà che esiste già quella dell'Agip l'azienda generale italiana petroli che noi abbiamo già ricordato e che era l'azienda sfortunata perché mai aveva trovato petrolio in quantità significative creata durante il fascismo sulla testa dell'Agip viene quindi stabilita una nuova grande società ma non una società nel senso tecnico non è una società commerciale ma è un ente l'ente nazionale idrocarburi appunto come dice la parola stessa è un ente concepito perché sia controllato nella sua totalità dallo Stato e perché per conto dello Stato porti avanti un progetto di ricerca petrolifera e di distribuzione del petrolio quindi operando su un mercato che non è più soltanto quello italiano ma è il mercato più vasto che comprende i paesi nei quali il petrolio è possibile trovarlo i paesi con i quali è necessario commerciale i paesi che sono già presenti sul quadro petrolifero e che hanno una loro consolidata posizione quindi un discorso molto difficile progetto assai ambizioso ma con grandi difficoltà di realizzazione perché le resistenze da parte dei paesi che sono già presenti in questo campo sono per forza di cose per interessi internazionali molto forti l'ente nazionale idrocarburi un ente dello stato costituito dallo stato controllato dallo stato e di proprietà assoluta e totale dello stato costituito nel 1953 dal punto di vista formale anche se l'agip preesiste abbiamo detto che esisteva già negli anni del fascismo e continua ad esistere nel dopoguerra nonostante le pressioni da parte dei vincitori inglesi e americani perché fosse liquidata l'ini costituito nel 1953 riceve in eredità per così dire l'agip riceve le azioni di proprietà dello stato dell'agip e ha il compito di ampliare il quadro dell'interesse petrolifero dello stato ha il compito di creare delle altre aziende operative che nei vari settori parenti settori appunto anch'essi del settore petrolifero e derivato abbiano una loro presenza e una loro forza e una holding come si dice nel gergo cioè l'ini è una società di controllo una società che ha il compito di controllare altre società più piccole che sono le società operative quelle che effettivamente sviluppano i disegni industriali e commerciali dunque alla testa l'eni costituito abbiamo già detto nel 1953 l'eni assorbe anzi riceve nel suo patrimonio iniziale le iniziative dello stato già esistenti delle quali la più importante è l'agip l'azienda generale italiana petroliche smetterà di chiamarsi così e rimarrà semplicemente nota come agip e altre società minori nel campo del metano nel campo della distribuzione e nel campo delle perforazioni le perforazioni sono un momento molto importante della ricerca petrolifera attraverso le perforazioni si deve cercare di localizzare i giacimenti petroliferi e si deve poi attrezzare il tutto per riuscire a portare il petrolio in superficie quindi puoi trasformare il petrolio farlo diventare benzina gasolio tutto quello che occorre la tecnologia per realizzare tutto questo non è italiana l'Italia dipendeva da tecnologie straniere per la ricerca e in buona parte anche per la raffinazione del petrolio che si estraeva dal sottosuolo e abbiamo anche detto che il progetto italiano di contare nel settore petrolifero è un progetto che non viene ben visto dalle grandi potenze vincitrici della seconda guerra mondiale non viene ben visto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra per la semplice ragione che Inghilterra e Stati Uniti hanno dei loro interessi petroliferi e non hanno alcun interesse a lasciare spazio alla concorrenza di un paese minore alla concorrenza dell'Italia di un paese che per di più è stato sconfitto nella seconda guerra mondiale quindi è molto dura la lotta per l'affermazione dell'ENI di questo ente dello Stato che si dovrà occupare di coordinare le attività nel campo degli idrocarburi si chiamano appunto così nel campo del petrolio e derivati a quali sono le grandi società petrolifere internazionali come si chiamano dove hanno sede questa è una curiosità che tutti abbiamo e ci riporta indietro nel tempo ci riporta a nomi che in buona parte sono sconosciuti perché queste grandi società internazionali del petrolio hanno cambiato nome soltanto alcune sono legate rimaste legate alla vecchia denominazione per esempio esiste ancora la ESSO che aveva avuto nomi diversi nel corso del tempo e che è stata considerata a lungo la maggiore società petrolifera internazionale la ESSO è controllata da capitali interamente americani capitali interamente privati ed è la la più grande la più importante la più la più potente anche se esiste un accordo che lega parliamo dei primi anni sessanta naturalmente queste grandi società petrolifere un accordo la cui esistenza è stata sempre negata ma nei fatti esiste un accordo che avrebbe violato le leggi antitrust presenti negli Stati Uniti d'America e quindi non poteva apparire alla luce del sole ma un accordo che effettivamente esiste e quindi la grande ESSO questo complesso di dimensioni enormi presente in tutto il mondo con le sue attività di estrazione e raffinazione ha accanto a sé un'altra grande società che diventerà poi nel corso del tempo la BP noi oggi la conosciamo come BP ma aveva inizialmente la denominazione di Anglo-Persian Oil Company ed era una società inglese con una presenza minoritaria della Persia l'attuale Iran nel quale i giacimenti petroliferi sono molto ricchi però una società dominata dal capitale inglese e accanto a questi due abbiamo detto appunto la ESSO e la BP attraverso le sue successive trasformazioni si possono ricordare altre grandi società la Shell per esempio che è una società retta da capitale anglo-olandese rimasta ancora con la sua antica denominazione e altre società ancora che sono prevalentemente americane americane non soltanto nel controllo ma americane anche nella denominazione una di queste è la Texaco che nel corso del tempo ha poi fatto degli accordi con la Exxon con la ESSO e quindi non è più quello che era ma che negli anni dell'immediato dopo guerra quando comincia a operare l'Eni di Mattei era una delle grandi società petrolifere internazionali queste grandi società internazionali sono sette non è il caso starle a elencare tutte anche perché i nomi come abbiamo detto sono cambiate nel tempo e quindi oramai sono irriconoscibili queste sette società vengono chiamate normalmente nel gergo petrolifero sette sorelle seven sisters e sembra anzi che questa denominazione sia stata inventata dallo stesso Mattei messa in giro da lui si possono chiamare le sette sorelle oppure si chiamano anche le big oil ci sono vari modi nel gergo per esprimersi ma sono quelle che contano sono quelle che hanno in mano il grande business petrolifero che lo avevano e che continuano in qualche misura ad averlo dunque sette abbiamo detto sette grandi società petrolifere internazionali e l'enili Mattei che posto aveva a fare queste sette società come si collocava era l'ottavra no la decima l'undecima no non c'era proprio non esisteva assolutamente assoluta inconsistenza le società forti erano sette ed erano tutte americane inglesi piccola parte olandesi l'ini esiste si esiste dal 1953 conduce le sue ricerche ha trovato il metano nella Valpadana continua a cercare petrolio nella Valpadana ma nel quadro internazionale del petrolio nella geografia internazionale del petrolio nelle denominazioni delle grandi società petrolifere internazionali l'eni italiano non c'è e continua a non esserci per molti anni e soltanto dopo la morte di Mattei molti anni dopo la morte di Mattei ma di questo ne parleremo dopo che anche l'eni diventa una importante anzi una importantissima società petrolifera di carattere internazionale ma finché Mattei vive fino agli inizi delle ricerche petrolifere condotte da l'eni l'eni non conta assolutamente nulla e fuori da ogni classifica non viene considerato e non può quindi sperare né di fare accordi con le sette grandi società e neppure di avere delle trattative minori per rami collaterali rispetto a quello dell'estrazione diretta petrolifera non esiste non esiste eppure viene fortemente contrastato perché è una preoccupazione perché per esempio il mercato italiano attraverso l'Agip è in buona parte delle mani di questa grande società dello Stato italiano dell'eni il mercato petrolifero italiano è certamente importante e non può essere sottovalutato il mercato petrolifero italiano era stato uno dei punti ai quali mirava per lo sviluppo capitalistico internazionale il potere dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America il mercato italiano appunto insistiamo era chiuso completamente chiuso da questa grande società che si chiama l'Agip società che è oramai diventata controllata dall'Eni ed è una società che attua in campo petrolifero una concorrenza molto dura molto aperta rispetto alle società inglesi e americane che avevano dominato il mercato italiano ma non si limita al mercato italiano l'Agip cerca di estendere delle reti di distribuzione del petrolio quindi della benzina del gasolio in altri paesi europei non soltanto in Italia l'Agip crea delle società che consentano persino in Inghilterra di essere presenti con quelle caratteristiche pompe di benzina gialle che sono il simbolo dell'azienda generale italiana Petroli ebbene l'Agip tiene saldamente in mano il mercato italiano attacca i prezzi internazionali che sono imposti dall'Inghilterra e dall'America sul mercato italiano lo attacca abbassando il prezzo del carburante e non solo ma attacca anche il potere delle grandi società sul piano internazionale perché è presente con reti distributive in importanti paesi europei e non soltanto europei dunque è una spina nel piede questa società una spina nel piede dei grandi capitalisti petroliferi americani e una spina nel piede anche della politica internazionale degli Stati Uniti al centro della quale il petrolio ha sempre avuto un posto fondamentale la storia di Mattei e dell'Eni ha sin dall'inizio delle caratteristiche spiccatamente italiane ma io lo dico nel senso migliore perché io mi sento italiano e accetto l'Italia e gli italiani in tutte le sue dimensioni complesse contraddittorie oggetto di critiche tuttavia dimensioni che hanno fatto grande questo nostro paese almeno per un lungo periodo non sappiamo adesso poi vedremo dunque Mattei è figlio di questo paese ne ha tutte le caratteristiche la capacità del blef la capacità di servirsi delle controfigure le capacità di sviluppare il potere senza figurare in primissimo piano la capacità di fare politica servendosi dei politici ma senza mai figurare in primo piano come agente diretto della politica come protagonista della politica e la storia sua di queste sue caratteristiche di Mattei incomincia subito perché Mattei per esempio questo è un punto molto importante sul quale riflettere all'inizio non ha una carica di carattere continuo di carattere definitivo di carattere stabile Mattei è commissario viene nominato commissario dell'Agip la grande azienda petrolifera e viene nominato commissario nel clima dell'immediato dopoguerra nel clima del CLN del comitato di liberazione nazionale quando le grandi industrie che erano in larga misura compromesse col fascismo vengono commissariate vengono affidati a commissari che sono stati indicati da chi la resistenza l'aveva fatta e la resistenza l'aveva vinta di partigian dal comitato di liberazione nazionale alta italia il clnai e dunque Mattei ottiene su segnalazione del clnai ottiene la responsabilità di fare il commissario commissario straordinario dell'Agip di questa grande azienda petrolifera ci vuole un commissario perché l'Agip ha avuto una diligenza assai compromessa con il fascismo quindi ci vuole un'epurazione bisogna cambiare aree bisogna cambiare personaggi bisogna cambiare figure bisogna cambiare programmi e l'incarico passa a Mattei passa a Mattei e si intende che si tratta di un incarico di carattere temporaneo perché non potrà durare il tempo nessuno dei commissari è durato all'infinito e invece Mattei dura dura non soltanto come come commissario ma da commissario riesce a diventare il capo di questa holding gigantesca nazionale italiana del petrolio e ci riesce con espedienti torniamo quindi al discorso italiano della italianità di Mattei della italianità anche dei mezzi ci riesce con strumenti strani non è lui in primo piano a figurare lui è il commissario di carattere provvisorio ma quando il commissariamento finisce e si deve tornare alla normalità e quindi è necessario nominare un presidente il presidente non sarà Mattei ma sarà un amico suo che con lui ha fatto la lotta partigiana e che è espressione del partito cattolico e Boldrini ed è un professore di statistica noto affermato è una personalità della cultura e personalità legata alla democrazia cristiana al partito che sta per subentrare nelle leve di comando quindi Boldrini è la figura che viene spesa da Mattei è la figura che viene portata in superficie ai contatti con la stampa è la figura che deve essere conosciuta come capo riconosciuto e Mattei che invece è il capo reale di tutto questo è nell'ombra non spende direttamente il suo nome Mattei è il vice prima all'inizio è il commissario nominato dai partigiani finito il commissariamento diventa vicepresidente dell'Agip ma non sarà mai presidente a titolo pieno e diventerà soltanto nel 1953 con la costituzione della grande holding petrolifera dell'Eni soltanto allora Mattei viene fuori allo scoperto e diventa presidente del nuovo grande ente petrolifero quindi è finita la necessità di operare nei fatti in modo incisivo ma senza figurare in primo piano e nel 1953 con la costituzione formale dell'Eni Mattei ne assume realmente la presidenza a tutti gli effetti la continuità è soltanto nel nome di Enrico Mattei è soltanto nella figura di Enrico Mattei è soltanto nella straordinaria personalità di Enrico Mattei è soltanto nel progetto soprattutto nel progetto di Enrico Mattei ma non c'è invece una continuità di carattere formale perché noi abbiamo un duplice passaggio prima un Agip fascista che è stato strumento del regime ed è stato strumento fallimentare della politica petrolifera italiana poi un Agip commissariata dai partigiani con un commissario Mattei che non ha poteri effettivi e tuttavia porta avanti le ricerche fino a ottenere dei risultati molto significativi e quindi ancora poi un passaggio ulteriore ad una gestione nella quale Mattei viene finalmente allo scoperto con la creazione dell'ENI e internazionale idrocarburi nel 1953 dell'ENI Mattei abbiamo detto è presidente è presidente a tutti gli effetti è l'anima è il realizzatore è l'uomo che figura anche nelle relazioni pubbliche anche nei rapporti politici come capo della grande holding petrolifera italiana Enrico Mattei finalmente è uscito allo scoperto e finalmente il suo grande progetto di dotare l'Italia di un grande complesso petrolifero capace di operare sui mercati internazionali oramai è una realtà ed ecco che a questa realtà il nome di Enrico Mattei si accompagna sin dall'inizio e Mattei il capo dell'ente nazionale idrocarburi e l'ente nazionale idrocarburi costituito nel 1953 deve sviluppare una sua politica di ricerca deve essere capace di trovare il petrolio in paesi stranieri perché in Italia oramai è assodato che non c'è deve essere capace di rendere l'Italia protagonista in questo settore fondamentale dello sviluppo ed ecco Enrico Mattei che comincia a intrecciare trattative febbrili con paesi stranieri paesi nei quali sa che il petrolio c'è e che tuttavia non è sotto il controllo possibile dell'Italia o di amici dell'Italia ma è sotto il controllo delle grandi potenze internazionali che hanno vinto la seconda guerra mondiale controllo che si esercita attraverso società private che hanno la nazionalità di questi paesi bisogna entrare in questo mercato e per entrare in questo mercato bisogna concepire qualche cosa di completamente nuovo bisogna concepire un elemento di rottura bisogna riuscire ad offrire ai paesi produttori qualcosa che non erano riusciti a ottenere dagli inglesi e dagli americani che avevano gestito il mercato petrolifero internazionale per tanto lungo tempo quindi occorre una formula nuova e questa formula nuova è la formula che Mattei creerà ed è la formula sulla quale si sviluppa l'ente nazionale idrocarburi e sulla quale si realizzano le grandi tensioni internazionali che finiranno appunto con la fine di Mattei stesso la formula di Mattei ma cos'è questa formula di Mattei una formula che serve all'Italia a entrare nel mercato petrolifero il mercato petrolifero chiuso lo abbiamo già detto il mercato petrolifero nel quale operano soltanto le società commerciali delle grandi potenze internazionali dal quale l'Italia è completamente esclusa è un mercato regolato da una norma non scritta ma nei fatti osservata da lungo tempo da qualche decennio ormai è la formula che si chiama del 50-50 50 e 50 vuol dire che il 50% del profitto petrolifero spetterà al paese sul cui territorio esistono i giacimenti e il 50% alla società straniera che invece conduce le ricerche e conduce poi lo sfruttamento la perforazione e lo sfruttamento petrolifero la regola del 50-50 è una regola fra l'altro incontrollabile perché gli stati nei quali ci sono le risorse petrolifere gli stati che vengono perforati alla ricerca del petrolio non hanno neanche la capacità l'attrezzatura i mezzi per rendersi conto di quanto petrolio venga effettivamente estratto dal loro sottosuolo non possono controllare e comunque anche se controllassero non possono avere più del 50% allora Mattei si rende conto che l'unico punto di attacco al monopolio internazionale delle fonti energetiche l'unico modo di far entrare l'Italia in questo club di ricchi club dei petrolieri è quello di attaccare la formula è quello di modificare la formula rendere questa formula assai più conveniente per i paesi sul cui sottosuolo il petrolio esiste quindi non dare più il 50% come si usava un 50% incontrollabile e incontrollato ma offrire qualche cosa di più qualche cosa di significativamente forte che possa stimolare l'interesse economico dei paesi produttori e possa indurre i paesi produttori a far entrare anche l'eni fra le grandi potenze che sfruttano il petrolio ed ecco allora che la formula del 50-50 viene infranta dall'ente nazionale idrocarburi e viene sostituita da un'altra formula non più il 50-50 ma una formula in cui non c'è una espressione matematica ma c'è un gioco complicatissimo un intreccio di azioni una compartecipazione non soltanto alla perforazione ma anche alla raffinazione e alla commercializzazione del petrolio una formula che consenta alle società del paese produttore del petrolio di avere un utile quale la formula del 50-50 non era mai stata capace di garantire quindi bisogna trovare il modo di associare i paesi produttori di petrolio e dar loro la possibilità di divenire protagonisti nel controllo dello sfruttamento petrolifero ora lo vedremo nei particolari la formula proposta da Mattei consiste nell'associare lo stato sul cui suolo sono collocati i giacimenti nell'associare al complesso processo di perforazione di sfruttamento e di commercializzazione del petrolio lo stato nel quale la perforazione si fa diventa dunque un partner un partner non alla pari ma addirittura un partner privilegiato in questo caso dell'ente nazionale idrocarburi italiano tutte le spese per la ricerca e per la perforazione saranno anticipate dall'ente nazionale idrocarburi e quindi se i risultati di queste ricerche dovessero essere negativi la perdita sarebbe interamente dell'Italia dell'ENI che ha condotto i lavori se invece il risultato delle ricerche sarà positivo se il petrolio verrà trovato e sarà possibile avviarne lo sfruttamento lo stato sul cui suolo si trovano i pozzi diventerà socio dell'iniziativa diventerà socio ad una percentuale superiore a quella del 50% che era stata offerta dalle altre potenze petrolifere ma sarà socio con una percentuale che al conti fatti rasenterà il 74-75% quindi circa tre quarti dell'utile contro una metà che veniva offerta prima non soltanto tre quarti dell'utile ma tre quarti dell'utile con possibilità di controllarlo perché lo stato detentore dei pozzi entrando a far parte della società italo-straniera che conduce lo sfruttamento ha anche la possibilità di controllare la quantità e la qualità del petrolio estratto un socio a tutti gli effetti questa formula è una formula rivoluzionaria una formula che viene sperimentata da Leni di Mattei prima con una società di carattere assai secondario nel mondo del petrolio tale da non fare molta notizia come si dice adesso in gergo ma viene la formula di Mattei realizzata per la prima volta nei confronti di un grande produttore petrolifero che è la Persia e l'Iran è lì che la formula di Mattei viene fuori nella sua realtà ed è lì che trova una eco internazionale nel mondo petrolifero e non soltanto nel mondo petrolifero che dà effettivamente la dimensione di quanto l'aggressività dell'Italia in questo campo possa costituire un pericolo per le grandi società petrolifere internazionali dunque la formula sperimentata in Persia è una formula di collaborazione fra stato detentore dei pozzi e stato l'Italia che organizza lo sfruttamento dei pozzi ed è una regola che solletica fortemente l'ambizione nazionalistica del paese produttore di petrolio ma vedremo nei particolari questo accordo con la Persia come si organizza come si sviluppa e quali grandi vantaggi dà al nostro paese prima della fine della conclusione di tutto quello che c'è stato in Europa che è stata la guerra è stata la lotta di liberazione sono stati anni molto dolorosi ci sono state le distruzioni dei bombardamenti quindi prima ancora che il quadro del dopo fosse chiaro prima ancora che l'Europa si rimettesse in piedi anzi cominciasse a rimettersi in piedi il 22 marzo del 1945 conviene riflettere bene su questa data l'aiutante del segretario di stato americano non è forse neppure il caso ricordarle il nome perché sono personaggi non passati alla storia ma nella gerarchia del potere contava assai allora fa sapere in modo molto netto che sarebbe motivo di considerevole preoccupazione qualora l'Italia dopo la guerra volesse tornare a occuparsi degli affari petroliferi con società controllate dallo Stato è una presa di posizione precisa che arriva da un alto responsabile della politica americana e che indica una linea che dovrà essere seguita dal personale diplomatico degli Stati Uniti vigilare appunto perché l'affare petrolifero non rimanga più nelle mani dello Stato italiano come era successo negli anni precedenti la seconda guerra mondiale e durante la seconda guerra mondiale ma venga invece affidato completamente all'iniziativa privata questo è perfettamente in linea con la con la ideologia con con gli usi economici americani ma rappresenta una rottura rappresenta qualche cosa di nuovo rispetto all'uso italiano e rappresenta qualche cosa di assolutamente dirompente nei confronti di una società petrolifera che era l'Agip che era controllata interamente dallo Stato e che aveva nelle mani il business petrolifero italiano non soltanto italiano quello delle colonie italiane che esistevano ancora non erano state del tutto liquidate e quello degli affari petroliferi nelle zone in cui l'Italia era riuscita a esercitare una sua influenza quindi tutto deve cambiare e le direttive che vengono da Washington sono per un ritorno completo di queste attività alla iniziativa privata questo non deve sorprendere perché la impostazione economica degli Stati Uniti andava in questo senso gli Stati Uniti avevano vinto la seconda guerra mondiale erano in posizione forte anche nel concerto degli alleati e quindi era del tutto naturale che volessero imporre delle regole e che facessero sapere subito insisto il 22 marzo del 1945 quali sono queste regole alle quali bisognerà attenersi questa è una storia ricca di pathos ricca di pathos e ricca in qualche misura di partecipazione nazionale una partecipazione di cui gli italiani non si rendono conto attraverso megafoni straordinari come la televisione che non c'era o la radio che poteva molto poco o la stampa che era assai poco seguita ma sentono che qualche cosa nel nostro paese sta succedendo qualche cosa di importante sta cambiando e che forse l'Italia potrà diventare protagonista in un settore essenziale dello sviluppo il settore trainante il settore petrolifero questo lo avvertono lo avvertono attraverso qualche intervista che Mattei dà alla radio e attraverso quel tam tam popolare che fa circolare le voci fa arrivare le sensazioni e fa diffondere le sensazioni la sensazione che si diffonde è quella di un momento alto della nostra storia un momento alto che viene dopo delusioni viene dopo la sconfitta viene dopo il disfacimento dell'apparato economico nazionale viene dopo la radiazione dell'Italia dal contesto delle nazioni viene mentre l'Italia sta cercando nuovi equilibri di alleanze mentre l'Italia sta cercando di ricostruire le sue fabbriche di ricostruire i suoi mezzi di comunicazione e quindi c'è questa aspettativa popolare molto forte c'è una speranza molto forte c'è una partecipazione nazionale forte che non vuole rassegnarsi sia alla sconfitta nella guerra inevitabile ma non vuole rassegnarsi alla sconfitta nel concerto delle nazioni alla sconfitta nei confronti degli altri paesi non vuole rassegnarsi alla radiazione dell'Italia e allora l'Eni che non si chiamerà ancora così ma diciamo le iniziative petrolifere dell'Agip che diventerà Eni lo abbiamo già fatto un cenno in una puntata precedente le iniziative di Mattei le iniziative petrolifere dell'Italia sono una iniezione molto forte una iniezione decisiva che dà speranza agli italiani e li rende all'indomani della sconfitta consapevoli della possibilità di essere protagonisti di una storia di una storia importante di un momento chiave di svolta del proprio paese un momento nel quale l'Italia può essere partecipe essa stessa della propria ricostruzione e quindi non dipendere soltanto dall'aiuto del vincitore non dipendere soltanto dalla solidarietà che ci viene dagli alleati ma può essere da sé protagonista capace di organizzarsi capace di mettere le mani sulle materie prime essenziali che sono un momento chiave per lo sviluppo del paese gli Stati Uniti hanno quindi indicato autorevolmente quale sarà la loro politica quali sono i loro interessi quali sono i limiti che devono essere imposti ai paesi vinti come l'Italia le ricerche petrolifere lo sfruttamento del petrolio la politica energetica in generale non devono essere nelle competenze di un paese sconfitto come l'Italia ma devono essere invece regolate dai vincitori i vincitori forti in Italia sono gli Stati Uniti e l'Inghilterra anche l'Unione Sovietica ha vinto la guerra ma esiste un equilibrio di forze esistono degli accordi per cui la competenza per le questioni italiane è nelle mani degli americani e degli inglesi ed ecco che cominciano le iniziative esplicite perché questa linea politica dettata dagli Stati Uniti si è intesa senza dubbi di sorta conviene tenere a mente la data il 22 settembre del 1946 l'assistente segretario di Stato americano che si chiama Braden su un organo ufficiale dell'amministrazione americana che si chiama il Department of State Bulletin il bollettino del Dipartimento di Stato scrive l'iniziativa privata costituisce il mezzo migliore e nella maggior parte dei casi l'unico mezzo realmente efficace per lo sviluppo e quindi le iniziative che sono state dello Stato come le iniziative petrolifere in Italia sono destinate a passare in altre mani sono destinate a essere cedute ai privati questa è una linea politica precisa che viene dettata dal Dipartimento di Stato e che passa poi via via fino a giungere in Italia e deve diventare la linea di condotta del governo italiano l'Italia non recalcitra perché non è nella condizione di farlo ha perduto la guerra non ha voce in capitolo non può porre nulla a direttive così precise che vengono dal maggiore fra i vincitori della seconda guerra mondiale il maggiore fra i vincitori presente sul territorio nazionale il governo non può reagire il governo italiano ascolta in cassa queste direttive non prende posizione ma ha chiaramente delle riserve mentali di continuare a sviluppare le ricerche petrolifere continuare a operare perché l'Italia in questo settore chiave per lo sviluppo abbia una sua indipendenza reale e non sia la mercè dei vincitori che ne condizionerebbero lo sviluppo che porrebbero dei limiti invalicabili alla ricostruzione del paese ma al di là delle dichiarazioni si fanno sentire molto presto delle pressioni precise degli Stati Uniti pressioni che si esercitano direttamente sul governo il governo è quello di De Gasperi del democristiano De Gasperi del grande presidente De Gasperi dobbiamo dirlo è stato un grande presidente e le pressioni si cominciano a sentire dirette ed esplicite fin dal 1949 bisognerà vederlo nelle sue tappe principali il cammino di Enrico Mattei e della sua Eni del suo ente nazionale idrocarpuri la grande holding la grande società italiana del petrolio holding secondo il linguaggio angloamericano e la holding è la società che controlla società finanziaria quindi la holding che controlla tante società operative la Eni è appunto una holding quindi vediamolo il cammino in alcune tappe essenziali l'Eni inizialmente attraverso quello che è rimasto della vecchia Agip è all'opera sin dall'immediato dopo guerra nel 1948 ha avuto la perfetta consapevolezza che nel nord Italia esistono dei vasti giacimenti di metano abbiamo detto che la speranza di trovare petrolio nel sottosuolo del nord Italia si dimostra ben presto assolutamente inconsistente tuttavia il metano c'è e il metano può essere utilizzato per usi industriali e anche per usi civili per usi di riscaldamento delle case per usi di cucina addirittura il metano può arrivare con le bombole o attraverso i metanodotti nelle abitazioni e quindi nel 1948 comincia la costruzione di un tratto importante del metanodotto che dovrà condurre il metano dai pozzi nei quali si estrae fino alla provincia di Milano e quindi addirittura la provincia di Bergamo e via via il metanodotto costruito dalle società controllate da Mattei e la SNAM esattamente la società che costruisce i metanodotti e che provvede all'esercizio di questi metanodotti in quegli anni nel 1949 ha un ulteriore sviluppo e arriva fino a Sesto San Giovanni questo è un momento molto importante perché Sesto San Giovanni è il centro di grandi industrie grandi industrie che fino a quel momento hanno dovuto utilizzare altre fonti di energia molto più costose e molto meno accessibili per il nostro paese e con il metano invece potrà fruire di una fonte di energia che sgorga dal sottosuolo italiano e che è controllata dall'Italia è controllata da una società italiana la SNAM società potenziata da Enrico Mattei è una società che può esercitare le sue attività mediante una energia che viene dal sottosuolo del nostro paese il metano nel 1950 e anni successivi i metanodotti della SNAM si sviluppano ancora e riescono a coprire una buona parte della Lombardia e anche altre zone del nord Italia quindi il metano riesce a raggiungere per usi industriali e per usi domestici quasi tutto il nord dell'Italia attraverso le bombole riuscirà poi a essere distribuito anche in altre zone del paese ma sul finire degli anni 40 all'inizio degli anni 50 cominciano altre attività dell'Eni attività molto importanti dell'ente nazionale idrocarburi attività che porteranno gli interessi italiani a essere presenti su uno scacchiere molto più vasto di quello della nostra penisola e in 1956 iniziano le trattative con l'Iran erano state precedute da trattative concuse molto bene con l'Egitto negli anni precedenti abbiamo detto che i rapporti dell'Eni oramai si chiama Eni sono le attività petrolifere dello Stato italiano sono costrette a svilupparsi più nei paesi stranieri che in Italia perché in Italia le ricerche petrolifere non hanno avuto fortuna si è trovato il metano che è fonte energetica assai utile per l'industria e anche per usi civili nelle abitazioni ma il petrolio non c'è e quindi torniamo a ripetere qualcosa che abbiamo già detto l'Eni se non trova petrolio vede fallire i propri programmi e deve rimettere in discussione la propria attività e la propria stessa esistenza le ricerche di petrolio vengono indirizzate inizialmente verso l'Egitto e successivamente verso un altro paese che è l'Iran con l'Egitto si riesce a concludere un buon accordo e si riesce a sperimentare una formula nuova di questo abbiamo già fatto un cenno ma converrà ripeterlo la formula nuova è una formula che associa i paesi produttori di petrolio i paesi su cui sottosuolo esiste il petrolio associarli con lo Stato italiano che condurrà invece le ricerche e provvederà alla commercializzazione del petrolio una volta trovato questi scambi fra stati detentori dei pozzi e stato che cura l'estrazione dai pozzi hanno una storia molto antica e sono accordi di vero e proprio sfruttamento coloniale in buona parte dei casi e soltanto in anni non molto lontani in anni possiamo dire decisamente recenti non si può fissare un anno preciso perché la variazione delle percentuali assegnate al paese detentore dei pozzi non sono state uguali in tutti i paesi ma diciamo che inizialmente non erano fissate queste percentuali e quindi erano affidate come si dice al mercato al libero mercato ogni paese otteneva quello che riusciva a ottenere si era poi arrivati a stabilizzare una formula la formula del 50-50 e questa formula ha un momento importante proprio in Iran la formula in base alla quale 50-50 50-50 il 50% dell'estratto rimane nella proprietà dello stato sul cui territorio sono situati i pozzi e il 50% nelle mani invece dello stato che cura l'estrazione da questi pozzi che quindi appresta i mezzi tecnici e anche finanziari per provvedere all'estrazione sono queste le condizioni prevalenti del mercato e nessun paese produttore di petrolio pensa a mettere in discussione queste condizioni ci penserà Enrico Mattei con le iniziative del suo Eni come vedremo e gli servirà per entrare in un mercato che altrimenti sarebbe precluso andiamo avanti con le ricerche dell'Eni in questi paesi lontani data l'impossibilità di trovare il petrolio in Italia una impossibilità alla quale Mattei ha dovuto rassegnarsi i passi nei paesi stranieri abbiamo detto incominciano in Egitto e in Egitto Mattei propone per la prima volta questa rottura dell'equilibrio tradizionale dell'equilibrio del 50-50 al quale avevamo accennato e quindi propone all'Egitto di associarsi all'impresa della ricerca e dell'estrazione del petrolio con delle formule societarie molto complesse ma il cui risultato finale sarà quello di rendere il paese produttore di petrolio protagonista dell'iniziativa e soprattutto di assegnare al paese produttore ne abbiamo già fatto un cenno in una delle puntate precedenti un utile che non è più il solo 50% della regola del 50-50 ma è un utile che raggiunge e supera in qualche caso il 70% la formula è molto complessa ma perché è una formula che non prevede la liquidazione di una percentuale sull'affare ma invece prevede la partecipazione diretta dello Stato produttore Stato sul cui territorio il petrolio deve essere ricercato una partecipazione diretta di questo Stato a tutte le operazioni di ricerca e di estrazione rimanendo però a carico del Leni il rischio se il petrolio non venisse trovato la società verrebbe meno e le spese sarebbero state sostenute soltanto dal Leni ma questi accordi Leni li fa in paesi nei quali si sa che esistono delle risorse petrolifere quindi il petrolio dovrà essere trovato il primo accordo abbiamo detto è con l'Egitto ed è un accordo che passa sotto silenzio che fa una certa impressione nelle grandi paesi produttori di petrolio ma viene ritenuto un fatto eccezionale che non si ripeterà d'altronde l'Italia è un piccolo paese l'Italia è un paese che ha perso la seconda guerra mondiale è un paese che non è considerato come un possibile protagonista di una grande impresa come l'estrazione e la commercializzazione del petrolio quindi nessuna particolare enfasi sull'accordo egiziano e invece grande enfasi sull'accordo che sarà fatto da Mattei in Iran l'accordo fatto in Iran è assolutamente simile a quello fatto con l'Egitto ed è un accordo che segue una fase molto delicata della questione petrolifera in Iran e conviene partire dall'inizio di questa fase l'inizio è nel 1950 quando in Iran vengono nazionalizzate le fonti petrolifere viene nazionalizzato il business del petrolio protagonista di questa stagione straordinaria dell'Iran è un personaggio che si chiama Mossadegh il quale mette fuori le grandi compagnie inglesi e stabilisce che il petrolio è di proprietà dello Stato e deve essere estratto e commercializzato dallo Stato vedremo meglio come questa storia si sviluppa abbiamo parlato di Mossadegh il nazionalizzatore del petrolio iraniano abbiamo introdotto la sua storia è una storia anche questa eccezionale per quegli anni è la storia di un paese abituato a essere sfruttato nella sua energia fondamentale il petrolio che a un certo punto si dà una si dà una scossa vuole essere protagonista della sua storia petrolifera vuole essere padrone del suo petrolio vuole venderlo a chi gli pare e alle condizioni che gli pare ma questo si urta con le regole che sono state stabilite dalle grandi società petrolifere internazionali e quindi Mossadegh riesce nella operazione di nazionalizzazione della industria petrolifera iraniana ma comincia ad incontrare delle grandissime difficoltà nel piazzamento del petrolio iraniano sul mercato internazionale l'Iran è molto ricco di fonti petrolifere la qualità del petrolio iraniano è molto elevata e cerca Mossadegh di far offrire il petrolio estratto dalle industrie nazionalizzate iraniane anche all'Italia cerca di farlo offrire anche a Mattei si sa che Mattei ha bisogno di petrolio e Mattei non ha ancora realizzato gli accordi con l'Egitto Mattei è a capo di una grande holding petrolifera dello Stato che è alla ricerca del petrolio che non ha petrolio e quindi il petrolio di Mossadegh viene offerto anche all'Italia c'è una nave misteriosa che si chiama Miriella e che attraversa i mari che arriva anche nel Mediterraneo e che è carica di petrolio che è stato estratto appunto in Iran che ha bisogno di essere piazzato sul mercato altrimenti l'operazione di nazionalizzazione di Mossadegh non ha senso se il petrolio non si riesce a vendere la nazionalizzazione fallisce e la Miriella arriva a offrire petrolio anche a Mattei e Mattei ha bisogno di petrolio Mattei è un uomo abile è un uomo che sa giocare le sue carte nel momento opportuno e che gioca le sue carte in giochi che hanno sempre una dimensione strategica che hanno una possibilità di svilupparsi che hanno una possibilità di progredire che hanno una possibilità di far affermare realmente l'ente petrolifero di stato italiano sul mercato quindi non appare prudente a Mattei accettare questo petrolio che viene offerto dalla nave Miriella e che proviene dall'Iran o perlomeno non lo accetta in modo ufficiale non si riesce a stabilire se per vie traverse del petrolio della Miriella sia arrivato anche in possesso dell'Eni di Mattei ma una compromissione vera e propria aperta dell'Eni di Mattei con il petrolio iraniano non c'è Mattei ha in mente altri progetti progetti che toccano anche l'Iran ma in una condizione politico commerciale diversa che non sia più quella di una nazionalizzazione del petrolio come quella che è stata fatta da Mossadegh e che ha trovato il contrasto acceso aperto combattivo delle grandi potenze petrolifere quindi Mattei tiene ben presente l'Iran ma non si fa incastrare nella vicina dell'acquisto palese del petrolio della Miriella anche perché a contrastare questo mercato del petrolio iraniano di Mossadegh si stanno muovendo anche le grandi potenze gli Stati Uniti in modo particolare si muovono anche le grandi potenze si muovono soprattutto le grandi potenze nell'affaire del petrolio iraniano l'Inghilterra che ha grandi interessi petroliferi in Iran non è in grado di far nulla alla furia nazionalizzatrice di Mossadegh non riesce a reagire ci sarebbe soltanto la possibilità di reagire con la forza ma non è possibile in quegli anni perché si rischia lo scoppio di una guerra che può diventare una guerra mondiale e allora l'Inghilterra per recuperare il suo petrolio si rivolge alla mediazione degli americani il presidente degli Stati Uniti allora è Truman e il presidente offre formalmente la sua mediazione insieme a quella degli inglesi che sono stati danneggiati una mediazione che si rivolga nei confronti del governo iraniano e che riesca a risolvere la spinosa questione petrolifera che si è verificata con Mossadegh perché l'interesse delle grandi potenze produttrici di petrolio Stati Uniti e Inghilterra in testa è quella che non si spezzi che non si rompa che non si incrini un mercato e un mercato si rompe se c'è un paese come l'Iran ha fatto che pretende di avere il mercato del petrolio nelle proprie mani che pretende che il governo sia protagonista dello sfruttamento petrolifero del paese e che non lo siano invece le società commerciali straniere come è stato fino a quel momento la nazionalizzazione del petrolio iraniano deve quindi scontrarsi contro le grandi potenze non soltanto contro l'Inghilterra che aveva i maggiori interessi in Iran ma contro l'alleato forte dell'Inghilterra che sono gli Stati Uniti d'America che sostengono gli interessi inglesi sostengono soprattutto cercando di impedire che il petrolio iraniano arrivi sui mercati e quindi qui si capisce che la saggezza di Mattei è stata grande nel evitare di invischiare l'Eni in una operazione così rischiosa così complessa e di così corto respiro Mattei ufficialmente ha rifiutato il petrolio iraniano e si è tenuto fuori completamente da questa da questa storia ma questa storia della nazionalizzazione del petrolio iraniano non ha un lungo respiro non ha un lungo respiro ed è destinata a esaurirsi con la fine di Mossadegh Mossadegh sarà messo in disparte e la stessa nazionalizzazione sarà rimessa in discussione la nazionalizzazione del petrolio iraniano è avvenuta nel 1951 nello stesso anno il petrolio iraniano è stato offerto all'Italia da quella misteriosa nave Miriella di cui abbiamo parlato e non si sa se in Italia ne abbia acquistato certamente non lo ha acquistato palesemente e la mediazione di Truman che è molto di più di una mediazione ma si tratta di una pressione molto forte esercitata con gli inglesi sul governo iraniano tende a risolvere la questione e tende soprattutto a far cadere Mossadegh e quindi a far finire il protagonista dello scandalo petrolifero perché è uno scandalo nel mondo petrolifero quello di un paese che voglia avere nelle proprie mani la gestione del proprio petrolio sembra un fatto molto strano ma è ritenuto uno scandalo che un paese sia proprietario delle proprie risorse in campo petrolifero Mossadegh esce di scena come abbiamo visto ma qualcosa di importante è successo in Iran il monopolio della estrazione petrolifera e la fissità delle regole del sfruttamento petrolifero esistente oramai da tanti anni bisognerà ricordare che proprio in Iran nel 1933 era stata fissata la regola detta del 50-50 della quale abbiamo già parlato la regola di ripartizione a metà del profitto petrolifero in Iran dunque è successa qualcosa di molto importante un equilibrio si è rotto per la prima volta e si è messo in discussione un sistema che era universalmente accettato Mossadegh scompare ma il mercato petrolifero iraniano è in fermento si sa che potrebbe cambiare la situazione per l'Iran che anche dopo la scomparsa dalla scena di Mossadegh l'Iran potrà continuare a essere protagonista della sua storia petrolifera a questo punto si introduce un'abile mossa di Mattei Enrico Mattei con i suoi consiglieri con i suoi abili negoziatori uno di questi si chiama Pietro Sette è un avvocato varese che fa il consulente giuridico per Mattei Mattei con questo suo staff pensa di estendere all'Iran le condizioni che aveva già proposto all'Egitto quelle condizioni di rottura della regola del 50-50 quelle regole che consentono al paese detentore dei pozzi petroliferi un utile che arriva fino a circa il 75% dunque è in Iran che Mattei sperimenta alla grande la sua nuova formula l'esperienza dell'Egitto abbiamo detto era già stata un'esperienza di rottura delle condizioni del mercato ma l'accordo fatto dall'Eni con l'Egitto non ha una risonanza internazionale molto grande perché si ritiene che non possa essere destinato a ripetersi nel tempo si ritiene che sia stata una uscita stravagante dell'Italia e che l'Italia non abbia la forza il respiro la capacità di proporre la stessa formula ad altri paesi e a paesi petrolificamente assai importanti e invece Mattei opera per estendere questa formula egiziana la formula che porta gli utili del paese produttore fino a circa il 75% la estende all'Iran offre all'Iran le stesse condizioni ed Iran è una sorta di grande serbatoio petrolifero perché le risorse dell'Iran sono ben più vaste ben più cospicue ben più importanti e soprattutto di qualità migliore di quelle del petrolio egiziano estendere quindi questa formula a questo altro paese è un passo importante nella storia dell'Eni di Mattei ma rappresenta anche un vulnus una ferita molto grave per i produttori tradizionali di petrolio per le grandi potenze petrolifere per le sette sorelle abbiamo detto in una puntata precedente si chiamavano così le società petrolifere del cartello internazionale che erano in gran parte americane in parte minore inglesi e con una partecipazione anche olandese le regole di queste società sono uguali dovunque in tutto il mondo e sono regole consolidate che non ci si attende che possano essere messe in discussione la regola del 50-50 appunto della ripartizione degli utili al 50% fra stato che cura l'estrazione e stato proprietario del territorio su cui si trovano i pozzi la regola che è stata infranta in Egitto dall'Eni di Mattei viene infranta nuovamente in Iran Mattei propone la stessa formula all'Iran l'Iran è un paese che ha attraversato quel momento della nazionalizzazione del petrolio che ha superato quel momento che ha ristabilito l'autorità dello Shah che è tornato ad un governo fortemente legato agli Stati Uniti e tuttavia l'Iran è un paese che ha sperimentato che ha intravisto la possibilità di godere di più di godere in modo più giusto del proprio utile petrolifero e dunque è aperto ad un accordo come quello che verrà offerto dalle internazionali idrocarburi di Mattei La vicenda dell'Iran è un momento del mercato petrolifero internazionale è una vicenda particolare ma fino a un certo punto è una vicenda emblematica perché è una vicenda che porta al consolidamento di una rottura di una regola antica di una rottura soprattutto di una egemonia antica dell'egimonia inglese e americana sul mercato del petrolio e questa rottura avviene a opera di un paese minore di un paese sconfitto nella guerra di un paese dal punto di vista petrolifero inesistente sconosciuto e quindi è una rottura che realmente crea allarme preoccupazione rabbia irritazione non si può accettare che uno sconfitto diventi protagonista della sua storia e Mattei fa sì che l'Italia sconfitta ritorni a essere protagonista del momento essenziale della storia economica perché il petrolio negli anni del dopoguerra e ancora oggi forse rappresenta un momento essenziale della storia economica e della storia tucur ed ecco che i sospetti la rabbia il risentimento il bisogno di vendetta nei confronti di Mattei si incrementano via via che gli affari di Mattei si sviluppano nel mondo ripetiamo l'eccezione dell'Egitto la rottura che era avvenuta in Egitto poteva essere tollerata e dimenticata ma quando quella stessa rottura si produce in un paese come l'Iran e quindi si produce per la seconda volta e indica la volontà dell'Italia di proseguire per quella strada il desiderio dell'Italia di essere protagonista anch'essa della storia mondiale del petrolio beh questo di preoccupazioni ne determina molte di ostilità di risentimenti nei confronti del nostro paese e quindi di ripercussioni anche politiche Alcide De Gasperi che è presidente del Consiglio non ha delle responsabilità dirette delle responsabilità che appaiano in modo evidente in tutta questa questione De Gasperi ha lasciato fare ha lasciato che Mattei presidente di una grande industria petrolifera dello Stato italiano abbia realizzato liberamente un progetto che non è soltanto il progetto dell'ente nazionale idrocarburi ma è un progetto dello Stato italiano di cui il governo italiano deve essere per forza di cose consapevole De Gasperi ne è consapevoli De Gasperi accetta De Gasperi consente De Gasperi sotterraneamente appoggia le iniziative di Mattei la confusione quindi nei vincitori della guerra che sono ancora vincitori la guerra non è finita da molto tempo ricordano di essere vincitori inglesi gli americani il risentimento è molto forte e la necessità il bisogno di far finire tutto questo si sente e si fa pesare su Mattei si fa pesare sull'ente nazionale idrocarburi e si fa pesare indirettamente anche sull'Italia alla quale non si vuole riconoscere non si può riconoscere per gli equilibri che si sono determinati dopo la seconda guerra mondiale un ruolo che invece l'Italia si sta procurando e sta consolidando sempre più non vera dire a questo punto quali sono i grandi produttori internazionali di petrolio nell'anno 1950 anno centrale per il nostro racconto al primo posto ci sono gli Stati Uniti d'America gli USA come già allora si diceva come oggi si dice ormai comunemente al secondo posto invece c'è un nome del quale l'uso oramai è scomparso perché il paese non esiste più ha cambiato nome ed è l'URSS l'Unione Sovietica l'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti è al secondo posto nella produzione internazionale di petrolio l'anno con Vila di Petero è il 1950 al terzo posto c'è uno stato dell'America del Sud di Venezuela poi viene l'Iran ed ecco l'Iran del quale abbiamo parlato poco fa segue ancora l'Arabia Saudita il Kuwait l'Iraq e l'Indonesia l'Iraq ha una produzione molto importante dal punto di vista quantitativo è una produzione soprattutto assai importante dal punto di vista qualitativo è eccellente della qualità del petrolio irachino nel senso che il petrolio irachino richiede costi di raffinazione inferiori rispetto a quello del petrolio di altri paesi questa è la situazione nel 1950 ma guardiamo la situazione nel 1957 sette anni dopo non è molto mutata rispetto a questa ma conviene rivederla insieme al primo posto ci sono ancora gli USA gli Stati Uniti al secondo posto l'Unione Sovietica segue il Venezuela il Kuwait l'Arabia Saudita l'Iran l'Iraq e l'Indonesia l'Iraq è sempre nelle prime posizioni l'Italia in questa classifica dei petrolieri non c'è perché l'Italia non produce petrolio in modo significativo e gli accordi che l'Italia sta cercando di realizzare che ha realizzato prima con l'Egitto e poi con l'Iran sì le danno una presenza sul mercato petrolifero ma non le danno ancora un peso tale da entrare nelle classifiche l'Italia deve cercare di inserirsi in questa complessa geografia del petrolio una geografia nella quale le posizioni sono difese e sono posizioni delle grandi potenze che non possono rinunciare al loro ruolo perché il ruolo che deriva dal petrolio non è soltanto di carattere commerciale ma è di carattere politico e il petrolio è un elemento essenziale non soltanto per lo sviluppo economico di un paese ma è un elemento essenziale per la difesa del paese e quindi il mercato è lì chiuso bloccato ed è bloccato soprattutto ai suoi vertici laddove si determinano le regole laddove si stabilisce chi dove e come e a quali condizioni debba estrarre il petrolio e non si può consentire che un piccolo paese come l'Italia si affacci prima con gli accordi in Egitto e poi consolidi questa sua linea di ingresso nel mercato petrolifero con accordi stipulati con l'Iran e quindi c'è una preoccupazione per questo che sta succedendo e c'è una irritazione forte nei confronti dell'Italia e nei confronti non soltanto dell'Eni di Enrico Mattei che sta conducendo queste operazioni ma soprattutto nei confronti del governo italiano che queste operazioni sta consentendo che queste operazioni evidentemente appoggia anche se non apertamente i paesi petroliferi allora sono quegli stessi di oggi e i paesi nei quali ci sono le tensioni forti che si sviluppano intorno al petrolio sono gli stessi di oggi non è cambiato molto abbiamo visto che l'Iraq era allora negli anni 50 nei primi e nei tardi anni 50 uno dei maggiori produttori petroliferi mondiali abbiamo visto che l'Iraq produceva un petrolio di eccellente qualità sappiamo che allora c'erano interessi stranieri nel petrolio iracheno c'erano interessi inglesi e americani l'Iraq è ancora protagonista di momenti molto dolorosi molto sanguinosi della nostra storia e alle spalle di quello che succede oggi c'erano gli stessi elementi che c'erano allora il petrolio un petrolio di qualità eccellente un petrolio in quantità straordinarie ma in questo mondo petrolifero in questo mondo nel quale si intrecciano interessi interessi economici industriali e interesse di carattere politico e strategico l'Italia ci si è buttata di forza con una volontà di essere protagonista ma l'Italia non lo fa per finalità politiche l'Italia lo fa per necessità di ordine economico ha bisogno di operare la ricostruzione del paese ha bisogno di operare il reingresso del paese nella economia internazionale controllando la principale forte di energia questo è il disegno di Enrico Mattei attraverso l'ente nazionale idrocarburi e questo è il disegno di Alcide De Gasperi che rende possibile appoggia a seconda il disegno di Enrico Mattei e diventa questo disegno un disegno italiano del quale non si parla apertamente sulla stampa ma che gli italiani sentono avvertono nell'aria e che determina un consenso popolare vasto la figura di Mattei infatti ha una risonanza nella coscienza degli italiani assai forte perché gli italiani vogliono risollevarsi dalla sconfitta e vogliono che il loro paese torni a essere un paese protagonista un paese forte in Europa e nel mondo e questa è una necessità non è una scelta politica di potere c'è soltanto la sentita necessità di dare all'Italia un ruolo necessario per la sopravvivenza per lo sviluppo del nostro paese ed ecco il perché della presenza italiana nel petrolio ed ecco il perché della grande avventura di Mattei nel 1953 lungo questa via Leni ha fatto dei passi per ricerche e sfruttamento petrolifero della Somalia nel 1955 ne abbiamo già fatto un cenno ha stipulato degli accordi con l'Egitto nel 1956 ha stipulato ancora degli accordi con l'Egitto per un grande oleodotto e su questa parola oleodotto dobbiamo fermarci un momento Leni di Enrico Mattei non va soltanto alla ricerca di petrolio ma è interessata a tutto il business petrolifero nella sua complessità quindi la ricerca del petrolio nei paesi in cui c'è l'acquisizione all'Italia di fonti petrolifere ma anche la necessità di provvedere alla lavorazione del petrolio e quindi le raffinerie e quindi i grandi oleodotti che servono a trasportare il petrolio e fra i grandi oleodotti nel 1956 viene progettato uno che vandrà da Suez fino al Cairo e poi via via in campo non di oleodotti ma di estrazione petrolifera abbiamo gli accordi con l'Iran del 1956 e 57 che proseguono negli anni successivi e che danno all'Italia una presenza importante in un settore a produzione petrolifera nel 57 c'è anche un inizio di trattativa con la Libia ma ci sarà un intervento molto risoluto degli americani che faranno cadere il governo libico e renderanno questi accordi inoperanti un saluto ai nostri ascoltatori ed un grazie per essere stati con noi la storia di Enrico Mattei e del suo ente nazionale idrocarburi si intreccia con un altro importante pezzo di storia italiana ed è parte la storia di Mattei di un grande dibattito il dibattito economia pubblica e economia privata il dibattito pubblico privato ora è anche difficile seguirli questi discorsi perché siamo in epoca di privatizzazioni diffuse si va verso un'economia che sia quasi tutta nelle mani dei privati ma non era così negli anni del dopoguerra e non era così negli anni che avevano preceduto la seconda guerra mondiale la presenza degli interessi pubblici nell'economia era molto forte era stata forte durante il fascismo ed era rimasta forte negli anni seguiti al fascismo negli anni della ricostruzione negli anni dell'Italia repubblicana e non era la presenza del pubblico nell'economia la presenza dello Stato nell'economia un fatto casuale era stato teorizzato era stato programmato e che era stato sentito come una necessità per lo sviluppo del paese una particolare sensibilità in questo campo avevano avuta i cattolici che allora non si chiamavano ancora democristiani erano giovani di azione cattolica che sarebbero poi confluiti nella democrazia cristiana ma la democrazia cristiana siamo nel 1943 nel luglio del 1943 non esisteva certamente allora ancora come partito e c'era ancora il fascismo nel luglio del 43 il fascismo cadrà nel luglio del 43 ma verso il finire del luglio qualche giorno prima che il fascismo cadesse i giovani universitari cattolici si riuniscono a Camaldoli in un convento nel casentino nel casentino e lì elaborano delle regole che saranno un indirizzo per gli anni successivi non lo sanno questi giovani che stanno preparandosi a diventare protagonisti di una parte importante della nostra storia ma sanno che la situazione in Italia sta cambiando che il fascismo oramai è arrivato all'ultimo atto e che quindi si aprirà una contesa politica nella quale loro cattolici vogliono avere una parte importante e partono dall'economia partono stabilendo delle regole precise per l'economia e partono stabilendo che nell'economia la presenza dello Stato debba essere importante specialmente in alcuni servizi essenziali specialmente nel controllo delle materie prime essenziali quelle che servono allo sviluppo di un paese quindi nel luglio del 1943 questi giovani si incontrano a Camaldoli nel convento e lì elavorano un vero e proprio codice che si chiamerà codice di Camaldoli ma chi sono? sono nomi che poi sentiremo sono Vanoni Saraceno Paronetto Ferrari Agradi Gonella Lapira Metici Taviani Pergolesi Moro c'è anche Moro sono tutti nomi che sentiremo ancora negli anni successivi ma c'è anche un altro nome che sentiremo molto negli anni successivi e che sentiamo ancora un nome importante nella storia del nostro paese c'è Giulio Andreotti partecipa anche lui al convegno di Camaldoli che stabilisce le nuove regole dell'economia le regole che i cattolici se avranno voce in capitolo se avranno potere se avranno un ruolo nel governo vorranno far valere e i cattolici il ruolo nel governo lo avranno e queste regole di presenza pubblica in settori essenziali dell'economia come il settore dell'energia per esempio sono elaborate da loro e saranno effettivamente applicate in Italia siamo abbiamo detto nel luglio del 1943 mentre sta per cadere il fascismo non possiamo mai perdere di vista Enrico Mattei Enrico Mattei è il protagonista di questo nostro racconto e quindi dobbiamo vedere di dove viene dove vuole andare che progetti ha che cosa ha fatto prima di essere il presidente dell'Eni nel marzo del 1943 e con un gruppo di antifascisti cattolici a Milano elaborano progetti elaborano linee politiche che convergeranno poi anche nei programmi del codice di Camaldoli e che convergeranno poi soprattutto nella storia italiana degli anni in cui i cattolici saranno protagonisti del governo ma dopo essere stato presente a Milano nel 1943 Mattei corre nel suo paese Natio corre a Matelica e riorganizza i partigiani lascia presto i partigiani di Matelica perché si sente chiamato a compiti più importanti e raggiunge il comando dei partigiani a Milano ed è lì che esercita il suo ruolo fondamentale di capo dei cattolici nella lotta partigiana ed è in prima fila nella organizzazione di alcune azioni partigiane molto delicate e molto rischiose è stato arrestato una volta ed è riuscito a scappare e quindi a tornare alla lotta partigiana e si divide fra il ruolo di procacciatore di armi uomo che riesce a trovare le armi e uomo che riesce a trovare anche il denaro che occorre alla lotta partigiana dei suoi gruppi cattolici e comandante che ha delle responsabilità precise responsabilità anche di carattere bellico nella lotta di liberazione tutto questo dà a Mattei un ruolo che viene riconosciuto dagli altri partiti che hanno partecipato alla lotta partigiana e dà a Mattei la possibilità e l'onore di essere in prima fila ma anche di questo abbiamo già fatto un cenno ma ora conviene rivederla questa scena di immaginarsi il Mattei con la coccarda con gli istintivi partigiani che il 28 aprile 1945 a Milano sfila insieme agli altri responsabili degli altri partiti antifascisti nella sfilata dei partigiani che devono comunicare alla città devono comunicare all'Italia la fine di un momento di lotta e le responsabilità che loro partigiani hanno avuto in questa lotta e il partecipare allo stesso tempo al popolo il momento grande della vittoria il momento nel quale si debbono riconoscere le facce si debbono riconoscere le responsabilità e ci si deve preparare ai ruoli nuovi i ruoli che verranno dopo la lotta e questi ruoli saranno diversi saranno ruoli nella politica e saranno ruoli nella economia saranno ruoli nell'organizzazione dello Stato Mattei ha operato a capo della lotta Mattei è un industriale è stato uno dei comandanti partigiani è cattolico e dovrà decidere della sua vita se continuare a fare l'industriale privato o avere invece un ruolo diverso Mattei dopo la sfilata deve entrare nella vita politica e deve rientrare nella vita economica la sua piccola fabbrica di Milano non gli basta più anzi forse gli basterebbe ma si vuole da parte dei suoi amici e compagni partigiani che abbia un ruolo più importante un ruolo con una sua presenza incisiva nel paese si tratta di ricostruire tutto di riorganizzare l'economia e di riorganizzare in modo particolare l'economia dello Stato Mattei viene chiamato a capo di una industria dello Stato a capo dell'Agip viene chiamato a fare il commissario straordinario dell'Agip dell'azienda generale italiana Petroli un momento difficile l'Agip deve essere liquidata gli alleati vogliono che l'Agip sia liquidata l'Agip aveva dato un ruolo all'Italia in campo petrolifero e si vuole da parte degli alleati che l'Italia questo ruolo non lo abbia più ma Mattei è riuscito a rendersi conto che l'Agip potrebbe mettere le mani su delle grandi ricchezze che potrebbero essere ricchezze petrolifere o possono essere ricchezze di gas del sottosuolo ricchezze di metano beni comunque essenziali per il nostro paese beni indispensabili per la ricostruzione dell'Italia e quindi Mattei non torna alla sua piccola fabbrica di sua proprietà che non abbandona ma accetta la sfida accetta il ruolo nuovo che gli viene proposto quello di commissario dell'Agip di questa sfasciata azienda dello Stato e opera per la trasformazione dell'Agip opera perché l'Agip abbia un ruolo nella economia italiana che sia ruolo di ricerca del petrolio specialmente nella Valle Padana dove si immagina che il petrolio ci sia dove sono già state fatte delle ricerche dove sono presenti anche gli americani con le loro squadre di ricerca e dove questa ricchezza che è stata sempre nell'immaginazione degli italiani e che l'Italia mai è riuscita a raggiungere forse c'è e forse potrebbe essere trovata abbiamo già fatto un cenno in una delle puntate precedenti al passaggio di Mattei dal ruolo di commissario a quello di vicepresidente dell'Agip comunque sempre nella posizione di vertice nella posizione che decide per questa azienda presidente anche questo l'abbiamo detto ma conviene ripeterlo è un amico di Mattei un professore di università Boldrini che è stato amico anche di lotta di Mattei ma la responsabilità vera dell'Agip al di là delle cariche formali è di Mattei e il progetto di ridare all'Agip un ruolo di rendere l'Agip di nuovo protagonista della ricerca petrolifera è di Mattei ed è un progetto contrastato subito dagli inglesi e dagli americani che hanno deciso invece che l'Italia in campo petrolifero non debba essere autonoma e indipendente ma inquadrata nel grande disegno dei vincitori della seconda guerra mondiale quindi comincia qui una lotta intensa che è una lotta fatta di sottigliezze paradiplomatiche di furbizie ma di volontà precisa da parte di Mattei di dare all'Italia la responsabilità delle sue ricerche petrolifere e nello stesso tempo una forte volontà esiste dall'altra parte da parte dei vincitori di negare all'Italia questa possibilità perché l'Italia è un paese che ha perduto la guerra e quindi deve avere la sua vita economica specialmente nel campo delle materie prime essenziali regolata completamente dai vincitori abbiamo visto i primi passi di Mattei e abbiamo visto come questi passi siano stati contrastati fin dall'inizio Mattei ha un grande alleato che è Alcide De Gasperi presidente del Consiglio democristiano che consente a Mattei di sviluppare i suoi piani di dotare l'Italia di una grande azienda petrolifera e sono invece contrastati da parte dei vincitori da parte degli inglesi e degli americani che hanno un disegno che è economico e politico diplomatico economico perché l'economia del nostro paese non deve dopo aver perso la guerra essere l'economia di un paese slegato dagli interessi dei vincitori e sono interessi anche di carattere politico perché la politica è molto legata sin da quegli anni all'economia quindi non si può lasciare da parte dei vincitori a un paese vinto come l'Italia una autonomia completa ed ecco che la storia contiene un contrasto sin dall'inizio un contrasto molto forte fra la volontà di Enrico Mattei di dotare l'Italia della propria ricchezza petrolifera il disegno di De Gasperi di assecondare il progetto di Mattei e la volontà dei vincitori di negare invece all'Italia questa possibilità il contrasto è forte è un contrasto sotterraneo mai aperto ma che ha dei momenti di una certa drammaticità perché da parte americana in modo molto più esplicito vengono emanate delle disposizioni sia alle autorità di occupazione in una prima fase sia ai rappresentanti diplomatici americani in Italia le disposizioni sono quelle di non consentire che l'Italia in campo petrolifero riprenda l'autonomia e la pienezza dei poteri che ha avuto prima e durante la seconda guerra mondiale non si sa ancora se l'Italia ha delle ricchezze petrolifere nel suo sottosuolo e quindi non si tratta ancora del controllo di queste ricchezze petrolifere il petrolio che si è riuscito a tirar fuori in minime quantità dalla Val Padana il metano che sgorga dalla Valle Padana è certamente una ricchezza ma non è ancora la possibilità per l'Italia di entrare in un mercato petrolifero internazionale ma il problema è ben altro non quello del controllo soltanto delle fonti interne al paese ma il problema è quello di non consentire all'Italia di affacciarsi al mercato petrolifero internazionale che è mercato petrolifero completamente nelle mani delle grandi potenze l'Italia non ha altra possibilità di operare per la sua ricostruzione e per il suo sviluppo economico che quella di controllare fonti energetiche di carattere essenziale e il petrolio è una di queste forse la principale di queste fonti la decisione dei vincitori è di tutt'altro segno e quindi il contrasto è immediato fra le esigenze italiane e la volontà precisa dei vincitori in questo contrasto si giocheranno alcune carte importanti carte politico diplomatiche mosse abilmente dal presidente del consiglio che è Alcide De Gasperi e carte invece di carattere economico industriale manovrate anch'esse con abilità e con una certa aggressività da Enrico Mattei e dal suo ente nazionale idrocarburi che sarà la costruzione successiva degli anni dell'immediato dopo guerra Deserto Rosso è un film di Michelangelo Antonioni un film del 1964 chissà qualcuno forse può ricordare di averlo visto è un film bello un film ambientato in uno stabilimento dell'Eni l'anno ripeto è il 1964 il titolo è Deserto Rosso a Ravenna c'è un grande stabilimento dell'Eni uno stabilimento petrolchimico che è stato un punto importante nella storia dell'Eni è un punto importante nella storia della reindustrializzazione del nostro paese dopo la seconda guerra mondiale uno stabilimento petrolchimico uno stabilimento che da un lato produce ricchezza dall'altro è essenziale per lo sviluppo economico ma dall'altro lato produce inquinamento produce la devastazione dell'ambiente e produce l'alienazione di chi ci lavora dentro di chi è stato strappato dalle campagne e quindi costretto per necessità economiche alla durezza del lavoro industriale con i suoi ritmi con i suoi orari con le sue regole tremende il deserto rosso è il film girato appunto all'interno dello stabilimento dell'Anich di Ravenna l'Anich è una società controllata da l'Eni quindi all'interno di uno stabilimento dell'Eni a Ravenna anno 1964 l'anno in cui la devastazione dell'ambiente non ha ancora le dimensioni attuali ma un momento nel quale uomini sensibili e intelligenti come Michelangelo Antonioni e come altri poi parleremo in una puntata successiva anche di Pasolini hanno la percezione di quello che sta succedendo della grande trasformazione delle regole della nostra vita la grande trasformazione dell'economia la grande trasformazione dell'ambiente che è in buona misura una devastazione vera e propria e quindi il deserto rosso è il film che a suo modo celebra e mette in discussione una grande realizzazione dell'ENI l'ANIC di Ravenna e una grande realizzazione di Enrico Mattei una realizzazione ripeto sulla strada dello sviluppo economico del nostro paese e sulla strada della trasformazione radicale delle regole della vita italiana della trasformazione radicale sul piano economico una trasformazione radicale soprattutto nella vita delle persone che debbono affrontare la vita della fabbrica e che anche se non lavorano nella fabbrica debbono vivere nell'ambiente che è tutto intorno alla fabbrica e che risente dell'inquinamento risente della trasformazione risente della modernità con i suoi aspetti fascinosi straordinari di progresso e con i suoi aspetti negativi di rovina di scorie di trasformazioni decise e non sempre positive ci sono gli aspetti negativi lo abbiamo appena detto lo abbiamo ricordato il deserto rosso e ci sono gli aspetti positivi che sono tanti e sono e sono grandi e sono gli aspetti dello sviluppo dello sviluppo dell'Eni ma dello sviluppo soprattutto del nostro paese che si realizza con i grandi progetti dell'Eni che non sono soltanto nel campo della ricerca e dello sfruttamento delle fonti petrolifere ma sono in tutta la industria collegata al petrolio e sono anche in altri campi industriali perché Mattei estenderà gli interessi dell'ente nazionale idrocarburi anche ad altri campi che non sono più quello petrolifero quello dei idrocarburi vero e proprio per esempio un impegno molto rilevante dell'ente nazionale idrocarburi sarà la costruzione di oleodotti oleodotti in tutto il mondo non soltanto in Italia nella Valpadana si tratta in modo particolare di metanodotti ma in vari paesi del mondo l'Eni realizza un know-how come si dice realizza delle capacità tecniche delle capacità di progettazione e di realizzazione di reti che consentano il trasporto del petrolio e consentano il trasporto del metano e Mattei concepisce anche una grande rete di oleodotti che attraversi buona parte dell'Europa e che consenta di portare il petrolio in Svizzera in Austria e ancora in Germania partendo dal nord dall'Italia e imbarcandosi nel grande porto di Genova quindi uno strumento che possa essere essenziale nel mercato petrolifero e che possa dare un ruolo importante al nostro paese quindi non siamo più soltanto nel campo dell'estrazione della commercializzazione del petrolio ma siamo nel campo del trasporto del petrolio siamo nel campo dell'emissione del petrolio nelle grandi reti di consumo e quindi della possibilità di rendere l'Italia protagonista anche in questo campo che è stato invece nel controllo delle potenze straniere ed ecco che i progetti di trasportare il petrolio i derivati del petrolio e anche il metano in tutta l'Europa e di consentire quindi l'utilizzo di questo essenziale bene che serve per lo sviluppo economico ma serve anche per finalità difensive viene di nuovo nelle mani dell'Italia sconfitta questi progetti di Mattei che si realizzano in gran parte attraverso la la Snam e attraverso la Saifem sono le due grandi società dell'Eni che seguono questo genere di affari arriva a progettare una grande rete di trasporto dell'energia petrolifera che attraversa tutta l'Europa e che appare talmente interessante nonostante il sospetto e l'aperto contrasto che si ha per tutti i progetti di Mattei talmente interessante da divenire oggetto anche di acquisizione per alcuni particolari trasporti da parte della Nato che pensa di servirsene in circostanze del tutto particolari quindi la Nato la grande alleanza di cui l'Italia è parte ma di cui gli Stati Uniti hanno la parte più importante hanno la parte direttiva gli Stati Uniti che sono i nemici veri di Mattei che contrastano l'offensiva di Mattei pensano sia pure marginalmente di servirsi di uno strumento che Mattei sta preparando la grande rete di trasporto dell'energia petrolifera realizzata dalla SNAM e dalla Saipem che attraversa tutta l'Europa l'internazionale idrocarburi di Enrico Mattei riesce a operare su diversi piani su un piano di carattere più generale che non è proprio quello della ricerca e dell'estrazione del petrolio lo abbiamo visto che lo fa attraverso la costruzione di grandi reti di oleodotti che lo fa nel trasporto del petrolio in tutto il mare mediterraneo perché Leni riesce a dotarsi di una sua rete di petroliere ma si sviluppa essenzialmente nella perforazione petrolifera per estrarre dal sottosuolo questa ricchezza straordinaria ed è questo l'elemento più noto l'elemento più evidente della storia di Mattede anche poi l'elemento che diventa in alcune fasi in alcuni momenti nel grande e drammatico finale quello più ricco di patos e di tensione e tuttavia nella fase di sviluppo nella fase che possiamo ritenere di normale amministrazione si può ricorrere ad alcune cifre per capire come la presenza dell'Eni si consolidi sempre più nel mondo petrolifero le cifre sono molto spesso noiose ma sono essenziali per capire possiamo prendere un anno di partenza il 1955 quando l'iniziativa di Mattei e del suo Eni ha cominciato a consolidarsi a essere evidente e quindi ad affacciarsi al mondo al di fuori dell'Italia nel 1955 le perforazioni dell'Eni perforazione è quel momento nel quale attraverso trivelle e complicati meccanismi si opera per raggiungere il giacimento petrolifero e quindi per estrarre far zampillare il petrolio e immettere il petrolio nel circuito di trasformazione e di utilizzazione la perforazione è quindi l'elemento essenziale l'elemento di partenza l'elemento nel quale si può misurare la potenza di una azienda petrolifera un'azienda che faccia ricerche nel campo del petrolio nel 1955 l'Eni esegue delle perforazioni che si possono ritenere insignificanti per circa 20.600 metri quindi 20 chilometri di perforazione non sono una gran cosa sono perforazioni avvenute in buona parte in Italia nella nella valle padana nulla di straordinario nulla di preoccupante per gli equilibri petroliferi internazionali nel 1956 dalle 20.000 si passa a 28.000 e poco più nel 57 siamo ancora a 29.000 nel 58 si sale a 41.700 nel 59 si sale ancora a 57.600 quindi c'è una ascesa continua delle perforazioni che oramai si svolgono non soltanto in Italia e si salta nel 1962 ha una cifra che può essere considerata di qualche rispetto si arriva a 151.323 metri perforati da queste perforazioni si pensa si spera di estrarre petrolio e molto spesso lo si estrae perché queste perforazioni ormai non avvengono più in Italia anzi avvengono in minima misura in Italia ma avvengono nei nuovi paesi nei quali l'Eni si è affacciato e che sono l'Egitto e l'Iran ma continuiamo con un pochino di cifre che danno la dimensione di quello che l'Eni sta facendo nel 1955 la produzione all'estero dell'Eni soltanto all'estero quella italiana la possiamo escludere perché significa talmente poco che può considerarsi nulla quindi 1955 produzioni all'estero sono 75.000 tonnellate un cifra modesta nulla di particolarmente significativo nel 1956 c'è un piccolo balzo si arriva a 257.000 tonnellate nel 1958 il balzo è ancora più significativo 1.800.000 tonnellate di produzione petrolifera dell'Eni all'estero il trend è quindi sempre in ascesa 1962 la produzione dell'Eni all'estero è salita a 3.652.332 tonnellate di petrolio a questo punto il discorso comincia a diventare serio ed è ancora più serio perché in buona parte questa produzione si realizza dove non si voleva che Mattei mettesse le mani dove Mattei aveva portato regole nuove che avevano rotto il mercato e che avevano quindi creato una preoccupazione una tensione un po' pericolosa nei confronti dell'Eni e dell'Italia è avvenuta in Egitto è avvenuta in Iran è avvenuta dove l'Eni ha rotto le regole del mercato Mattei non è solo Mattei non si muove da solo il governo è alle spalle di Mattei e il governo si fa sentire Mattei per realizzare accordi per inaugurare la produzione nei paesi nei quali è riuscito a garantirsi una presenza riesce a coinvolgere i personaggi più rilevanti della politica italiana Giovanni Gronchi è presidente della Repubblica e Giovanni Gronchi nel 1958 è in viaggio con Mattei in Marocco per dare l'avvio anche lì ad affari molto importanti accanto a Giovanni Gronchi presidente della Repubblica c'è Amento De Fanfani che è presidente del Consiglio e ministro degli esteri sono Gronchi e Fanfani autorità delle istituzioni italiane del massimo rilievo ma sono anche esponenti della democrazia cristiana e questo ha un significato ha il significato di un appoggio politico che viene dato a tutte le iniziative prese da Mattei ma i viaggi di Mattei all'estero i viaggi che suggellano accordi dell'ente nazionale idrocarburi con paesi stranieri e che vengono questi viaggi quasi sempre scortati da personaggi politici di primo piano talvolta il presidente della repubblica talvolta il presidente del consiglio si svolgono ancora negli anni successivi in altri paesi e così nel 59 Mattei è in Sudan nel 1961 è in Tunisia nel 1962 è in Nigeria e in una di queste occasioni si è dato l'avvio ad un momento importante della vita dell'Eni a un momento importante della storia dell'Italia del dopoguerra e a un momento che forse ha reso la posizione di Mattei sempre più scomoda e che ha reso la rischio della sua opera sempre più evidente ma l'epilogo è ancora lontano sarà drammatico ma è lontano dobbiamo tenere presente che questa storia di Mattei e dell'ente nazionale idrocarburi è una storia che contiene elementi di dramma anche nella sua quotidianità è una storia che si conclude con un dramma di dimensioni grandi per il nostro paese il cui ricordo è presente nella memoria ma è una storia drammatica anche nelle sue tappe intermedie e drammatica anche nella sua quotidianità perché è una storia che intacca un potere un potere che non si è mai sentito insidiato il potere del petrolio ed il potere delle grandi potenze vincitrici della guerra era un potere abituato a riposare sulla propria sicurezza un potere che un piccolo paese come l'Italia che una piccola azienda dello stato italiano come lente nazionale idrocarburi mette invece spesso in difficoltà ed ecco che dopo il gran colpo di mano che Mattei ha realizzato in Egitto con accordi particolarmente vantaggiosi per l'Eni che costituiscono un colpo per gli equilibri petroliferi internazionali ecco che Mattei continua sulla medesima linea e dà ancora altri colpi al potere dei grandi internazionali del petrolio e questo fa sì che anche nella quotidianità a parte i momenti dei quali abbiamo parlato o parleremo verso la fine questa storia abbia gli elementi della tensione molto forte che talvolta rasenta il dramma e che comunque produce una irritazione crescente nei confronti di questa new entry di questa nuova arrivata nel campo del petrolio e indirettamente nei confronti dell'Italia del governo italiano che consente una grande ascesa dell'Eni che seconda la volontà di Enrico Mattei e questo è il punto che scorre continuamente a fianco della nostra storia e che va tenuto presente quindi una storia che ha la sua drammaticità anche nel quotidiano che anche nel quotidiano rischia di cadere nel dramma vero è proprio nel dramma senza soluzione nel dramma che lascia i segni profondi ma la azione di Mattei segni profondi li lascia appunto tutti i giorni li lascia nelle sue realizzazioni li lascia nelle insidie che dà li lascia nei progetti che non si arrestano e che vanno ben oltre il campo della estrazione della commercializzazione del petrolio ma toccano altri aspetti che cercheremo di illustrare nel nostro racconto ecco la centralità quindi di Mattei per l'Italia ecco la centralità di Mattei nelle relazioni internazionali ecco la capacità di rendere nuovamente l'Italia protagonista abbiamo già fatto un accenno alla presenza dell'ENI di Enrico Mattei che va ben oltre il campo strettamente petrolifero per esempio nel 1953 Mattei fa prendere all'ente nazionale idrocarburi la gestione e la proprietà quindi di una grande società fiorentina che è in gravissime difficoltà si chiama la Pignone di Firenze la Pignone o il Pignone il Pignone rischia di fallire è una fabbrica importante ma tecnologicamente non particolarmente avanzata e produce i tombini per la fognatura per esempio e in buona parte dell'Italia si possono ancora vedere questi tombini con la scritta Pignone e poi produce anche qualche cosa che per quel tempo non che sia tecnologicamente avanzatissimo ma comunque ha un suo significato anche tecnologico pompe di vario tipo Pignone è in difficoltà rischia la chiusura siamo nel dicembre del 1953 ci sta avvicinando a Natale c'è un leader carismatico della democrazia cristiana uomo di fede professore universitario che si chiama Lapira Lapira è sindaco di Firenze e Lapira prende a cuore le sorti del Pignone e vuole che qualcuno intervenga per salvarlo per evitare un fallimento che metterebbe sull'astrico la totalità forse dei suoi operai che sono tutti cittadini di Firenze ed ecco che in un dialogo Lapira propone a Mattei di far assumere al gruppo Eni il Pignone e quindi evitare che il Pignone fallisca è un appello drammatico che viene da un sindaco della stessa parte politica democristiano democristiano come Mattei e Mattei non è insensibile alle parole di Lapira ma soprattutto Mattei intravede una possibilità di trasformazione del Pignone ed ecco che un dramma umano il dramma di questi lavoratori che perdono il posto alla vigilia di Natale può trasformarsi in una operazione finanziaria industriale importante per l'ente nazionale idrocarburi e Mattei accetta l'ente nazionale idrocarburi la sua Eni può benissimo rilevare il Pignone e pensare a trasformare questa fabbrica in qualche cosa di completamente diverso in una fabbrica tecnologicamente avanzata la sua esperienza nel campo della meccanica la sua esperienza nel campo della costruzione delle pompe e quindi la sua esperienza nella lavorazione dei metalli possono essere utilizzate anche per finalità di un grande complesso industriale come è Lenin Lenin ha bisogno di sviluppare le sue ricerche nei paesi stranieri ha bisogno di attrezzature che vengono negate è una situazione drammatica Lenin perché ha fatto contratti in Egitto ha fatto contratti in Persia ma non ha la possibilità di disporre di una tecnologia propria che gli consenta di tenere testa agli impegni che ha assunto quindi bisogna che Lenin la tecnologia se la faccia in casa e il pignone può essere appunto lo strumento perché Lenin si procuri questa tecnologia il pignone può essere convertito a uso petrolifero ad uso della grande azienda petrolifera dello Stato e può produrre delle attrezzature che saranno preziose nello sviluppo dell'Eni e che soprattutto consentiranno di superare l'embargo che è in atto nei confronti dell'Eni e che vieta all'Eni l'accesso alle tecnologie petrolifere dunque il 1953 dell'anno del pignone è l'anno di acquisizione di questa fabbrica fiorentina all'Eni il pignone cambierà nome diventerà nuovo pignone aprirà nuovi stabilimenti aprirà uno stabilimento anche al sud a Bari si chiamerà appunto pignone sud e partendo dalle competenze iniziali della vecchia fonderia di Gisa della vecchia fabbrica di strumenti antiquati che però possono servire in qualche modo anche per sviluppi moderni si attrezza per lavorare direttamente nell'industria petrolifera le pompe che fa il pignone e una delle specialità del pignone possono essere utilizzate anche per usi nel campo del petrolio ed ecco che la trasformazione del pignone per opera dell'Eni di Mattei che è diventato nuovo titolare delle azioni e che ha quindi assunto il compito di rilanciare questa fabbrica si indirizza completamente nel campo petrolifero l'Eni abbiamo detto ha delle difficoltà di sviluppare le ricerche nei paesi stranieri perché a l'Eni viene inibito l'accesso alla tecnologia petrolifera più avanzata quindi bisogna che l'Eni di tecnologia ne elabori ne costruisca una propria che si doti di quegli strumenti che gli vengono preclusi dai grandi del petrolio il petrolio avrà quindi il supporto della nuova fabbrica dell'Eni che si chiama il nuovo pignone con la nuova denominazione e che si andrà sviluppando in un settore del tutto particolare assolutamente nuovo nel quale la tecnologia e la inventiva italiane riescono ad avere una applicazione straordinaria il petrolio che l'Eni dovrà cercare di portare in superficie nei paesi con i quali è riuscito a stipulare degli accordi importanti che sono l'Egitto e l'Iran si trova in buona parte sotto il mare quindi occorrono dei mezzi particolari per raggiungere questo petrolio e portarlo in superficie ed è qui che la tecnologia del Pignone riesce a dotare l'Eni di strumenti importanti si tratta di apparecchiature che vengono costruite non soltanto dal Pignone ma da altre importanti aziende del gruppo Eni apparecchiature che consentano le trivellazioni in mare sul mare non soltanto sulla terraferma quindi si tratta di grandi pontili galleggianti su cui ci sono tutte le attrezzature per procedere alle ricerche e alle perforazioni e questi grandi pontili galleggianti che possono essere mossi trasportati sul mare sono oramai costruiti con una tecnologia e con brevetti made in Italy assolutamente italiani tecnologia e brevetti che sono dell'internazionale idrocarburi che vengono in buona parte dalla trasformazione di una vecchia fabbrica di ghisa il Pignone che Mattei ha salvato con la sua operazione di intervento abbiamo detto che il Pignone è stato acquisito a Lenny nel 1953 e che viene trasformato nel 1962 una decina da anni dopo Lenny interviene in un altro campo che non è tradizionale e questo non è assolutamente legato al petrolio ed è il vetro e costituisce nel 1962 Lenny una società che si chiama società italiana vetro lo fa insieme a un altro complesso delle partecipazioni statali che non esiste assolutamente più che si chiamava allora EFIM che costruisce uno stabilimento a Vasto e a San Salvo in Abruzzo e dunque Lenny petrolifero è soltanto Lenny degli inizi è soltanto Lenny erede della vecchia Agip ma Lenny nelle mani di Mattei si trasforma in un grande complesso industriale con capacità di agire in campi molto diversi ma campi tutti legati a esigenze precise del nostro paese tutti legati alle necessità dello sviluppo italiano e soprattutto legati a un disegno che è il disegno di Mattei e che è il disegno dei governi del tempo che è quello di dare lavoro di dare lavoro agli italiani la situazione dei disoccupati italiani è una situazione drammatica erano anni nei quali si percorrevano talvolta le strade da parte di cortei di disoccupati di affamati di queste cose abbiamo già fatto un qualche cenno ma non erano episodi che si siano limitati all'immediato ridosso del dopoguerra sono episodi che continuano ancora per anni quindi il problema è di creare lavoro di dare lavoro agli italiani di sottrarre gli italiani alle esigenze dolorose dell'emigrazione e quindi di dare fonti di lavoro sul territorio nazionale italiano è sentita da Mattei è sentita dall'Eni è sentita da tutto il sistema delle partecipazioni statali è sentita dai governi del tempo perché uno dei punti sui quali l'opposizione attacca con la durezza che non si realizza soltanto nei cortei ma che durezza di un'attività politica continua è una durezza di scontri al Parlamento è una durezza di scontri nel Paese tutto questo richiede che si debba trovare qualche rimedio e a questo dramma al dramma della disoccupazione italiana Mattei risponde con l'organizzazione dell'Eni che è capace di dare lavoro in campi diversi che non sono soltanto quelli strettamente petroliferi ma che si estendono abbiamo detto persino alla società del vetro fatta insieme ad un altro complesso delle partecipazioni statali e che si estendono nella trasformazione della pignone della quale abbiamo già parlato prima che è una fabbrica che crea lavoro e che crea tecnologia e che dà all'Eni e all'Italia la possibilità di competere a livello internazionale la storia dell'Eni di Mattei non è mica una storia che proceda come un direttissimo come abbiamo visto finora perché noi abbiamo parlato di fabbriche abbiamo parlato di ricerche abbiamo parlato dell'acquisizione di nuove partecipazioni industriali di nuovi interessi da parte dell'Eni abbiamo parlato di perforazioni abbiamo parlato di accordi vantaggiosi che l'Eni è riuscito a fare abbiamo parlato di una stizza enorme che si procura nei concorrenti dell'ente nazionale idrocarburi ma non è soltanto una stizza perché sotto questa stizza ci sono sempre le avvisaglie di qualcosa di più drammatico che può succedere da un momento all'altro e che chissà si aspetta forse l'occasione per far succedere e nel frattempo Mattei conquista degli spazi guadagna sempre qualche cosa per il suo ente nazionale idrocarburi che è dello Stato questo non lo dobbiamo mai dimenticare l'ente nazionale idrocarburi è lo Stato è lo Stato italiano è proprietà assoluta dello Stato italiano Mattei non si muove per interessi che siano suoi personali beh insomma tutto questo gran fervore di attività di Mattei e della sua organizzazione all'armi negli americani ne ha procurati da tempo ne ha procurati sin dall'inizio e nel 1957 quando il gioco si è fatto più duro quando Mattei ha cominciato a mettere le mani sui serbatoi petroliferi che sono in Egitto e che sono in Iran e Lenin non è più la società dello Stato italiano sconfitto ma è un concorrente da guardare con qualche stizza con fastidio ma da non ignorare da parte dei vincitori ebbene nel 1957 cominciano a circolare rapporti allarmati e allarmanti dei servizi segreti americani nei confronti dell'Eni e personalmente nei confronti di Mattei e cominciano nello stesso periodo 1957 ripetiamo a intensificarsi le pressioni molto forti sul governo italiano perché le dichiarazioni non soltanto l'azione di Mattei ma le dichiarazioni che fa Mattei che fa Gronchi presidente della Repubblica che fa Fanfani presidente del Consiglio sono dichiarazioni che non c'erano più i progetti reali dell'Italia in campo petrolifero e quindi danno un contesto preciso nel quale collocarli il contesto è quello di rendere l'Italia anch'essa una potenza petrolifera di rendere l'Italia un concorrente insidioso per le grandi società internazionali del petrolio ed ecco che i rapporti dell'intelligence che si riferiscono non soltanto all'azione di Mattei ma che si riferiscono le dichiarazioni che vanno facendo in patria e nel mondo personaggi di primo piano come il presidente della Repubblica italiana Gronchi presidente del Consiglio italiano Fanfani si fanno sempre più frequenti Mattei il suo disegno lo porta avanti il governo italiano gli consente di portarlo avanti c'è un consenso pieno a tutte le iniziative di Mattei ma c'è una avversione altrettanto piena da parte di chi dall'azione di Mattei è danneggiato e questo bisogna anche capirlo anche se è spiacevole per gli interessi italiani anche se contrasta gli interessi italiani è però una reazione che si deve capire da parte di potenze che erano abituate a essere padrone nel campo petrolifero ed erano abituate a non avere l'insidia di concorrenti e di concorrenti piccini come poteva essere considerata l'Italia nella considerazione internazionale abbiamo detto che Mattei con il suo ente nazionale idrocarburi non si occupava soltanto di trovare il petrolio e di portarlo in superficie ma aveva sviluppato una attività industriale vasta e complessa che in buona parte era legata al petrolio ma non era esclusivamente legata al petrolio nella parte legata direttamente al petrolio c'era la costruzione delle raffinerie per esempio Leni di Mattei attraverso società controllate è in grado di costruire raffinerie che vende a paesi stranieri dell'Africa del terzo mondo in generale come si dice oggi vende chiavi in maro in grado di funzionare di essere pronte alle esigenze di questi paesi le grandi raffinerie Leni le costruisce in Marocco per esempio in Tunisia in Ghana ma non soltanto in questi paesi e la irritazione degli americani per questo protagonismo di Mattei e della sua Eni in un campo che non è ormai più soltanto quello della estrazione della ricerca del petrolio in cui il fastidio è tanto ma si estende anche ad aspetti collaterali e non sempre collaterali perché abbiamo parlato di aziende che non sono affatto collaterali a quelle petrolifere insomma il malumore degli americani è molto forte al malumore degli americani dobbiamo dire che non corrisponde lo stesso malumore da parte inglese anche gli inglesi sono grandi produttori di petrolio gli inglesi sono stati protagonisti accanto agli americani e per certi versi prima degli americani della storia petrolifera mondiale ma gli inglesi hanno una capacità straordinaria di fare politica gli inglesi sono stati a capo di un impero e reggere le sorti di un impero con i suoi problemi non è cosa molto facile gli inglesi sono stati capaci di farlo gli inglesi sono capaci di fare politica alla grande e sono capaci di riconoscere le capacità dei loro avversari ed ecco che mentre sulla stampa americana si vedono frequentemente degli attacchi duri velenosi nei confronti non tanto dell'Eni ma proprio personalmente del suo capo di Enrico Mattei la stampa inglese invece riesce a porre il problema dell'Eni e di Mattei su un terreno politico cerca di capirlo cerca di vederne il funzionamento e cerca quindi di contrastarlo senza particolare asprezza cerca soprattutto di fornire ai politici alla opinione pubblica le chiavi di lettura necessarie ed ecco che il Times allora il giornale più autorevole del Regno Unito forse il giornale più autorevole del mondo l'8 novembre 1957 quindi Mattei è nel momento in cui sta sviluppando la sua grande politica di attacco in campo petrolifero l'8 novembre del 57 il Times dedica a Mattei addirittura un editoriale ne contrasta la politica ne mette in evidenza tutti gli aspetti scomodi per l'Inghilterra e per le grandi potenze e tuttavia riconosce la grandezza dell'Eni e sente di dover dedicare un commento importante un commento di rilievo all'accordo che l'Eni ha stipulato con l'Iran un accordo che intacca interessi inglesi e americani ma che gli inglesi sanno vedere sul terreno politico naturalmente intorno a Mattei e a Leni ci sono anche varie storielle ci sono anche degli aneddoti simpatici che girano si sentono vengono appena mormorati perché Mattei è un grande non lo si vuole disturbare non lo si vuole prendere in giro in modo aperto però non si può negare che Mattei abilissimo organizzatore industriale uomo prezioso per l'Italia nella sua ricostruzione nell'ascesa del paese a potenza economica di carattere internazionale Mattei i piccoli difetti anche i grandi difetti i grandi peccati della provincia italiana se li porta dietro tutti tutti quanti per esempio uno di questi limiti uno di questi difetti che peraltro caratteristico del nostro paese è il clientelismo clientelismo di carattere familiare c'è stato qualche sociologo venuto dall'America che aveva addirittura creato un termine era il familismo la capacità di infilare tutti i componenti la famiglia nel nel proprio business nel lavoro che un boss riesce a controllare e Mattei non fa eccezione Mattei il familismo lo pratica nella sua Eni e in tutte le società del gruppo Eni e in posizioni importanti in posizioni decisive ci sono amici suoi ci sono parenti suoi la moglie ha la responsabilità di un di un grande motel di Milano e e fratelli suoi hanno un ruolo nelle assunzioni che vengono fatte all'Eni un ruolo importante nel senso che sono capaci di fungere proprio da collocatori da da reperitori di personale che verrà poi assunto dall'Eni e insomma intorno a questi fenomeni che sono italianissimi e che nell'Eni esistono e si sviluppano si crea questa sigla che corrisponde alla società SNAM società importante che abbiamo visto in alcuni suoi grossi affari e le sue grosse realizzazioni lo SNAM che dovrebbe significare società nazionale anonima metanodotti viene invece nella volgata interna a Leni spiegato così siamo nati a Matelica e Matelica è la città natale di Mattei viene da Matelica ma di persone nate a Matelica che siano entrate nell'Eni che nell'Eni abbiano fatto carriera ce ne sono tante e quindi ci si scherza ci si scherza su la SNAM è indicata come la società siamo nati a Matelica Palini cosa ha portato all'Italia ha portato petrolio soltanto petrolio ha reso la circolazione automobilistica protagonista della vita nazionale perché protagonista è diventata e quindi in ultima analisi ha fatto crescere il nostro paese ma l'ha fatto crescere in aspetti che non sono quelli per lo meno dal punto di vista ecologico più belli più importanti no 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 Lenini non ha fatto soltanto questo Lenini ha fatto qualche cosa di più ha fatto qualche cosa di molto più significativo ha fatto qualcosa che al nostro paese resta è rimasta a lungo nel tempo e fino a qualche anno fa si sentiva ancora e beh allora qui parleremo di una sorta di classifica internazionale che viene fatta viene pubblicata ogni anno dalla banca mondiale dalla World Bank ed è la classifica delle potenze industrializzate del mondo naturalmente alla testa di questa classifica ci sono paesi grandi paesi con una tradizione industriale militare antica come gli stati uniti per esempio e recentemente anche il giappone che è diventato molto importante a livello mondiale ma dal 1974 mattia era già morto da 12 anni mattia muore nel 1962 dal 1974 l'Italia è al sesto posto qualche volta discende fino al settimo posto nella graduatoria mondiale della banca americana World Bank l'unica classifica che riesca a misurare le capacità complessive economiche di un paese l'Italia è arrivata in questa posizione così elevata come effetto sulla lunga distanza della sua collocazione nel mondo internazionale del petrolio del mondo internazionale delle materie prime è arrivata a questo punto perché è stata in grado di disporre dell'energia che era necessaria al suo sviluppo attraverso un'azienda dello Stato attraverso l'ente nazionale idrocarburi non è un risultato da nulla per un paese sconfitto per un paese che parte con una economia completamente disastrata aver raggiunto nel 1974 il riconoscimento di questo ruolo internazionale sesta o settima posizione ripetiamo di aver conservato questo ruolo a lungo nel tempo e soltanto da un paio d'anni che l'Italia ha dovuto cedere questa posizione alle new entry a nuove potenze economiche internazionali subentrate che hanno tolto questa posizione di prestigio e di in dubbia utilità l'effetto di aver raggiunto questa posizione nel 1974 e l'effetto sulla media distanza dell'azione dell'Eni di Enrico Mattei i dati possono anche stancare i ascoltatori di solito non sono molto graditi ma qualche volta sono necessari noi ci stiamo occupando di una storia che politica in buona parte di politica internazionale in gran parte ma che è una storia alle sue radici economica e quindi i dati ci vogliono per capire lo sviluppo concreto lo sviluppo fattuale di questa storia e allora prendiamo un anno il 1961 che è un anno importante l'Eni è stata già costituita l'Eni ha già fatto i suoi passi per la ricerca e l'acquisizione del petrolio a livello internazionale bene nel 1961 sono in giro per il mondo 25 squadre geologiche e geofisiche attrezzatissime in Italia prevalentemente in Italia queste squadre rimarranno grossomodo le stesse anche nel corso degli anni successivi sul territorio nazionale ma cominciano a operare anche all'estero nello stesso anno 1961 altre 25 squadre attrezzate dell'Eni operano a livello internazionale e sono squadre geologiche e geofisiche e lavorano nelle ricerche e 75 impianti di perforazione sono invece all'opera in Italia mentre una grande piattaforma mobile abbiamo cercato di descrivere la piattaforma mobile la piattaforma che esegue le perforazioni sul mare che va alla ricerca del petrolio dei fondali marine è una grande piattaforma mobile fabbricata da una società dell'Eni opera nei mari ed è continuamente in movimento per le ricerche dell'Eni e questi sono dati quantitativi che danno l'impressione di quello che l'Eni sia diventato intanto anche la produzione italiana di petrolio comincia a svilupparsi sempre più è cominciata nel 1950 con cifre che si possono considerare quasi irrilevanti in un panorama internazionale si tratta di 300 milioni di metri cubi di metano e 5.000 tonnellate di petrolio 5.000 tonnellate di petrolio non sono assolutamente nulla ma queste cifre sono destinate a impennarsi negli anni successivi nel 1961 si sale già a 2 milioni di tonnellate all'anno di greggio e quindi siamo a un prodotto molto pregiato del ciclo petrolifero e provengono in buona parte dall'Egitto abbiamo fatto un accenno agli accordi che si sono fatti con l'Egitto e dall'Iran provengono anche in parte dall'Iran altri accordi abbiamo detto che si sono fatti in Iran quindi la produzione sia di metano sul territorio nazionale sia la produzione petrolifera dell'Eni a livello internazionale sono in continuo miglioramento sono in continua ascesa partendo da cifre iniziali di nessun significato cominciano invece a impennarsi verso quantità che sul mercato anche internazionale significano qualche cosa e che danno il senso del potere di questa società nuova dello Stato italiano che si è creata e che si sviluppa e che si afferma sempre più non soltanto in Italia ma soprattutto fuori dell'Italia continuiamo a passare in rassegna i dati che danno le dimensioni dell'Eni 1953 è l'anno della costituzione dell'ente il gruppo Eni provvede in quell'anno all'8% del fabbisogno italiano non è una percentuale elevata ma neppure del tutto insignificante questa percentuale nel 1960 si eleva al 19,5% del fabbisogno internazionale nel 1962 la rete distributiva del gruppo Eni è diventata la più moderna e una delle più estese di tutta Europa e questa è una creazione del nuovo gruppo Eni ed è una creazione personalmente seguita voluta e stimolata da Enrico Mattei e l'Eni nello stesso anno il 1962 opera oramai anche in campi che non sono più quelli strettamente petroliferi per esempio l'Eni ha organizzato una rete di motels che servono a chi gira l'Italia in automobile e servono indirettamente a stimolare i consumi di petrolio i motels consentono di dormire lungo le strade nel corso dei viaggi oramai sono comuni ma nel 1962 non esistevano ancora ed era una innovazione che veniva dall'Eni di Mattei da una società del gruppo Eni e che era stata presa in prestito da esperienze che si erano fatte altrove che si erano fatte specialmente negli Stati Uniti d'America ma non sono soltanto 30 motels ci sono 55 ristoranti lungo le strade e le autostrade italiane e 357 bar oggi queste cifre forse fanno sorridere perché ben altre sono le cifre in questo campo e tante sono le iniziative ma in Italia l'Eni è stata all'avanguardia in questo genere di iniziative e ha dato al pubblico automobilistico italiano un vantaggio in più una comodità in più e ha dato soprattutto all'Eni questo complesso dello Stato italiano delle possibilità di profitto che prima non esistevano e delle possibilità di consolidamento sul mercato che si tirano poi dietro altri consumi e quindi altri profitti per l'ente di Stato La tendenza dell'Eni a non rimanere soltanto nel campo petrolifero ma a ampliare i propri interessi in altri settori e soprattutto in quelli più moderni è caratteristica sin dall'inizio e così nel 1962 l'Eni si affaccia anche nel campo molto importante per lo sviluppo un campo che sarà in seguito molto controverso il campo nucleare l'Eni nel 1962 entra nel progetto per la costruzione di una centrale elettronucleare a Latina e questo è importante non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista produttivo per l'Eni perché una parte dei macchinari proverranno proprio da aziende del gruppo Eni quindi l'Eni si garantisce la presenza in un settore importante ritenuto in quel momento settore ricco di sviluppo per il paese e nello stesso tempo si procura possibilità di ulteriore lavoro per società già esistenti nel gruppo Eni ma nel medesimo momento l'Eni va estendendo i suoi interessi ad altri campi abbiamo già detto dell'allargamento dell'interesse dell'Eni al Pignone quindi della creazione del Pignone Sud e poi ancora nel mezzogiorno un'altra fabbrica nel campo addirittura delle fucine l'Eni acquisterà una partecipazione importante nelle fucine meridionali che sono un'altra fabbrica delle partecipazioni statali completamente al di fuori del campo petrolifero e infine ancora una estensione nel medesimo anno dell'Eni alla industria tessile anche qui si tratta di operare il salvataggio di una fabbrica in difficoltà e l'Eni si assume in prima persona questo salvataggio la fabbrica è la Rane Rossi la Rane Rossi è un marchio consolidato in Italia ma vive un momento di difficoltà e ha bisogno di un intervento gli interventi in quegli anni vengono fatti dallo Stato attraverso il sistema delle partecipazioni statali e l'Eni è una società importante del sistema delle partecipazioni statali ed ecco che quindi l'Eni rileva questa fabbrica che è la Lane Rossi e estende i suoi interessi anche al campo così lontano dal petrolio quale è il campo dei tessili e allora le coperte della Lane Rossi questo è un così un ricordo gustoso le coperte della Lane Rossi verranno regalate ai dipendenti dell'Eni che si sposano ma tante altre coperte col marchio Lane Rossi e ormai con il controllo dell'Eni verranno immesse sul mercato e un'altra fabbrica in crisi sarà salvata e sarà rimessa in produzione e percorrerà per un certo periodo di tempo una strada di sviluppo dovrà conoscere poi nuove difficoltà ma in anni successivi ed ecco che quindi l'Eni tende a consolidare la sua azione molto anche al di fuori del campo strettamente petrolifero e divenga quindi un grande complesso industriale presente in vari campi economici con interessi molto differenziati e quindi con la possibilità anche agli effetti dei bilanci di avere da qualche parte delle perdite ma di avere da molte altre parti degli utili e quindi di bilanciare utili e perdite e creare il beneficio complessivo del bilancio globale del gruppo Eni e la concezione dei grandi gruppi che si era già sperimentata in paesi stranieri come gli Stati Uniti dell'Inghilterra anche la Germania prima della seconda guerra mondiale che trova una stagione nuova in Italia e che in Italia trova protagonista lo Stato bisognerà cercare adesso di capire un po' meglio perché dava tanto fastidio l'Eni di Mattei ma non soltanto perché insidiava i grandi produttori di petrolio che erano grandi potenze nel loro territorio e nella loro produzione fondamentale ma anche perché Mattei aveva attraverso la sua Eni attraverso il suo complesso di collaboratori erano persone abilissime parleremo di qualcuno dei suoi collaboratori nelle prossime puntate aveva organizzato un meccanismo inesorabile di offensiva nei confronti delle grandi società petrolifere internazionali e indirettamente delle grandi potenze alle quali queste società facevano facevano capo e abbiamo già detto che Mattei ha interessi Mattei Leni per essere più precisi ha interessi in Somalia dal 1953 che nel 1959 riesce ad avere ancora altri interessi in Somalia abbiamo detto che ha interessi in Egitto per accordi che si sono fatti nel 1955 si sono poi rinnovati e ampliati nel 1959 ha interessi in Iran accordi del 1957 in Marocco accordi del 1958 del 1960 in Libia accordi del 1959 in Sudan accordi del 1959 ancora in Tunisia del 1961 ma non è un elenco completo sarebbe noioso l'elenco assolutamente completo sono alcuni esempi più clamorosi di cui si parlava di più in quegli anni quelli che facevano più chiasso anche sui giornali Alini non ha soltanto questa presenza sul mercato non ha soltanto questa presenza nelle ricerche non ha soltanto questa aggressività nei confronti delle altre società petrolifere ma è riuscito anche per esempio a crearsi una sua flotta di petroliere che trasportano il petrolio dell'Eni in giro per il mondo che è arrivata nel 1961 ad avere 15 unità per 320 mila tonnellate di stazza e non è poco per una società new entry per una nuova entrata nel mercato petrolifero ed è comunque la presenza di questa flottiglia di petroliere un altro elemento per rendere l'Eni completamente slegato rispetto alle altre grandi società petrolifere completamente autosufficiente in grado di sviluppare tutti i propri programmi tutte le proprie iniziative in complita autonomia e non si tratta soltanto di questo ma si tratta anche delle drastiche rotture dei prezzi che l'Eni di Mattei ha operato sul mercato dei combustibili l'agip gas ha tagliato fortemente i suoi prezzi e i prezzi sono stati tagliati anche per la benzina creando delle difficoltà molto serie per le grandi società petrolifere americane il mondo del petrolio allora come era congegnato nell'immediato dopoguerra adesso è abbastanza cambiato non ricorrono alcuni dei nomi di allora ma non più tutti diciamo che allora erano sette le grandi società quelle che contavano realmente nel mondo petrolifero e in qualche misura anche nel mondo tutto intero una era la standard oil of new jersey americana totalmente americana ed era ritenuta la più importante al secondo posto veniva una società inglese inglese con presenza anche di capitali di altri paesi olandesi in modo particolare era la royal luch shell poi al terzo posto c'era ancora una società inglese la british anglo persian che cambierà nome nel corso del tempo poi cercheremo di inseguire questi nomi come si vengono a configurare al quarto posto c'è la standard oil of new york anche questa cambierà il nome diventa oggi poi la exon attraverso vari passaggi c'è ancora al quinto posto una società americana che si chiama texaco al sesto posto la standard oil of california anche questa americana e al settimo posto la gulf oil quindi sono sette ecco per questo si chiamavano le sette le sette sorelli le big big seven allora abbiamo detto la prima in assoluto la standard oil americana la seconda anglo olandese la terza inglese e poi ancora via tutte quante americane si chiamavano anche nel gergo di cartel il cartello oppure le international majors oppure oil majors molto più semplicemente venivano indicate come the seven oppure the majors big seven il gergo ne aveva inventate parecchie di denominazioni e tuttavia il potere era lì era effettivamente nelle loro mani e la denominazione sette sorelle pare che sia stata inventata da Mattei da Enrico Mattei proprio lui per la prima volta le chiamò così e questo nome venne poi subito tradotto in inglese quindi in inglese diventarono le seven sisters ma l'Italia torniamo al discorso di sempre torniamo al discorso di prima era completamente fuori da questo gruppo di potere petrolifero e potere non soltanto petrolifero cosa controllavano controllavano il 90% diciamo il 90% delle risorse a livello mondiale esclusa l'Unione Sovietica che aveva delle statistiche che andavano completamente per conto suo ed esclusi anche gli Stati Uniti d'America perché altrimenti si andava ben oltre questa percentuale e controllavano queste società anche il 90% della produzione il 75% della raffinazione e il 90% dei mercati erano realmente un colosso e avere osato contro questo colosso pesava era un club in altri termini così come ci sono club di tutt'altro genere e questo era invece un club di potere un club di affari ed era un club che aveva delle grandi influenze sulla politica americana innanzitutto e sulla politica mondiale perché la ricchezza parliamo degli anni dell'immediato dopo guerra era tutta lì era nella energia petrolifera era questa la principale industria del mondo e allora averne il controllo significava in termini sia commerciali ma soprattutto strategici di tenere realmente il potere e dunque questo è il potere questo è il potere del petrolio nel dopoguerra e questo è il potere degli affari il potere della difesa perché la difesa molto dipende dal petrolio e queste società queste big seven sette sorelle come diceva Mattei avevano dei legami molto molto complessi con i governi con tutti i governi del mondo con i governi dei paesi produttori di petrolio innanzitutto perché dovevano garantirsi la agibilità in assoluta tranquillità in assoluta sicurezza e quindi i governi qualche volta riuscivano proprio queste società a determinarli e avevano naturalmente dei legami assai forti con il governo degli Stati Uniti con il potere centrale degli Stati Uniti con la presidenza degli Stati Uniti e non si può mica pensare che fossero completamente fuori dalle campagne elettorali ma certo le campagne elettorali in qualche misura le sostenevano perché dall'esito delle campagne elettorali dipendeva poi il futuro dipendevano poi gli affari di loro medesimi di queste stesse società quindi un potere di dimensioni forse oggi inimmaginabili perché non mi sembra che ci sia più qualcosa di analogo nel mondo che ci sia un centro nel quale converge allo stesso tempo il potere economico e quindi per necessità anche il potere politico e il potere dei rapporti internazionali è stato proprio un americano uno studioso americano che negli anni 80 eravamo nel 1986 ha scritto un libro su questa vicenda delle sette sorelle delle grandi società petrolifere un libro che si chiamava appunto Oil and the American Century il secolo americano e il petrolio questo autore si chiamava David S. Puntato Painter e nel libro si leggeva in termini molto precisi questo che queste grandi società erano nella condizione di determinare i prezzi del petrolio erano nella condizione di avvicinare l'offerta e la domanda del petrolio ed erano quindi in condizione di determinare il mercato più importante del mondo e l'autore conclude in termini molto espliciti dietro questo gigantesco sistema di controllo si ergeva il potere del governo degli Stati Uniti d'America quindi erano proprio gli Stati Uniti con il loro governo dietro il gruppo delle Big Seven delle sette grandi società petrolifere di livello mondiale e questa era la situazione negli anni di dopoguerra questa era la situazione nella quale Niente Mino pensava di inserirsi l'Italia pensava di inserirsi Mattei con il suo ente nazionale idrocarburi pensava di inserirsi un paese sconfitto che nulla assolutamente contava più nel mondo e che si voleva che rimanesse in una posizione subordinata dipendente dalle grandi potenze questo per dare l'idea della dimensione del gioco e nello stesso tempo della pericolosità del gioco attuato da Mattei col dare l'assalto al potere petrolifero mondiale vedremo adesso dopo il breve intervallo musicale di dove veniva Mattei qual era la sua esperienza qual era il suo mondo di dove veniva Mattei Mattei che vuole dare l'assalto a un mondo così forte così munito così aggressivo e Mattei veniva dalla realtà della provincia italiana veniva dal piccolo paese l'abbiamo già detto un paesino della provincia di Pesaro un paesino di quella zona depressa della provincia di Pesaro immaginate un po negli anni del dopoguerra quando non c'era assolutamente nulla il padre di Mattei era una persona semplice era un sotto ufficiale dei carabinieri esattamente un brigadiere dei carabinieri che ebbe un momento di gloria perché riuscì in modo di tutto casuale ad arrestare un bandito che allora faceva paura per dieci anni aveva dominato una zona vasta del nostro paese in Anaspromonte in Calabria il bandito si chiamava Beppe Musolino e fu catturato appunto da questo sotto ufficiale dei carabinieri padre di Mattei che in seguito a questa vicenda ebbe copertina della domenica delle corriere allora c'erano i giornali illustrati non c'erano le fotografie come adesso ma davano le figure degli eventi ritenuti più importanti ed era quello un evento sicuramente importantissimo quindi il padre di Mattei cattura il bandito Musolino e ha una copertina sulla domenica dei corriere sulla tribuna illustrata un altro illustrato del tempo e dopo ci sarà addirittura un filmone negli anni 50 nel 1951 per per l'esattezza un filmone con Silvana Mangano una bella donna del del tempo bella donna e brava attrice e con Amedeo Nazari un film di dramma di passione di cui forse si è perso completamente il ricordo e si narrava lì la vicenda del bandito Beppe Musolino che viene arrestato dal padre di Enrico Mattei ma la famiglia è povera non ha mezzi quindi le scuole che può permettersi Mattei sono le scuole della povera d'agente di allora sono le scuole tecniche inferiori neppure il livello successivo quello che porta al titolo di ragioniere e deve lasciare le scuole presto Mattei perché non c'è denaro in famiglia deve mettersi a lavorare quindi condizioni di partenza molto difficili molto molto dure bisogna che Mattei se la inventi la vita se la inventi il suo avvenire se ne è capace e se lo inventa nell'immigrazione lasciando il suo paesello e andando a cercare la fortuna a Milano così abbiamo fatto già un cenno in una delle chiacchierate precedenti ma il carattere che quest'uomo si porta dietro sin da giovane sin da giovanissimo addirittura possiamo dire è un carattere di uomo molto timido con quella particolare aggressività dei timidi perché i timidi riescono poi per superare la loro timidezza a essere spesso aggressivi e Mattei era appunto di questo tipo conseguenza era che in pubblico parlava con grandi difficoltà senza particolari accorgimenti ma soprattutto senza reggere il periodo senza reggere un lungo discorso pochi sono i discorsi rimasti due tre ma non perché gli altri si siano persi perché effettivamente tanti sono quelli che è riuscito a fare senza bisogno di leggere ma aveva una qualità straordinaria quella di semplificare i problemi di portare i problemi all'essenziale e quindi di farne vedere una soluzione di vederla lui stesso una soluzione e indicarla agli altri perché aveva la capacità del leader appunto dunque Mattei viene da quella famiglia ma ha queste queste capacità ha quest'animo ha questa ha questa forza ha questo modo di vivere che lo porta a organizzare a far lavorare gli altri a ottenere dagli altri il meglio che possano dare e lui apporsi come come leader come punto di riferimento e nello stesso tempo ha una grande capacità di rapporti umani e vivendo a Milano perché abbiamo detto si era trasferito a Milano e si trova a Milano negli anni della resistenza e lì aveva fatto le ma chissà non era certamente un calcolo senza volerlo aveva fatto le amicizie giuste quelle che gli serviranno nella vita di dopo gli serviranno quando diventa un personaggio importante della storia economica e della storia italiana un suo amico di Milano per esempio è Enrico Falc che era un industriale importante in quegli anni vicino agli ambienti antifascisti e della resistenza un'altra era una personalità del mondo cattolico Orio Giacchi un altro ancora cattolico Giuseppe Spataro e poi ancora Amintore Fanfani anche Amintore Fanfani che allora cominciava a interessarsi alla politica era un giovane era un ragazzo vicino all'azione cattolica vicino agli ambienti cattolici che diventerà appunto Fanfani dopo ma è amico di Mattei in quegli anni un altro amico importante di quegli anni che è amico di ideali amico amico di lotta amico per reinventarsi una Italia completamente nuova qual è stata quella venuta poi dopo si chiamava Ezio Vanoni l'economista cattolico al quale si dovrà poi la riforma la prima riforma fiscale del nostro paese ma ancora ancora se andiamo a cercare a fare gli amici di quegli anni troviamo un Augusto De Gasperi sì proprio De Gasperi che era fratello di Alcide Alcide non era ancora negli stesso diventato l'Alcide De Gasperi che conosciamo ma tutto questo gruppo saliva e nel salire nell'affermarsi nella politica italiana si tirava dietro anche Mattei che sin dall'inizio era stato con loro Mattei quando deve però affrontare la lotta partigiana avrà sicuramente come punto di riferimento tutti questi tutti questi amici ma dovrà darsi dei nomi che non sono più Enrico Mattei perché Enrico Mattei è ricercato è stato arrestato una volta sarebbe arrestato ancora e quindi i nomi che utilizza nell'antifascismo nella lotta partigiana sono tre quattro diversi ma se ne ricorda per esempio uno era Este ancora un altro ancora Monti poi un altro ancora Marconi poi un altro Leone e poi forse qualcun altro perché era necessario allora per sopravvivere nella clandestinità non utilizzare il proprio nome visto che il nome di Enrico Mattei era stato bruciato sin dall'inizio si sapeva che era un personaggio importante della lotta clandestina che era l'esponente dei cattolici nella resistenza e fra i suoi amici che hanno la stessa fede le stesse le stesse esperienze e che sono forse ancora più di lui immessi direttamente nella lotta partigiana con azioni anche molto coraggiose c'è Eugenio Cefis un uomo che di coraggio ne ha che sarà poi dice di Mattei l'unico alter ego reale di Mattei nella successiva organizzazione petrolifera dell'ente nazionale idrocarburi e c'è ancora Marcello Boldrini che non è impegnato in azioni di lotta ma è impegnato nella organizzazione di questi gruppi cattolici e ci sono anche personaggi minori che troveremo ancora a lungo accanto a Mattei uno si chiama per esempio Rino Pacchetti e sarà la sua guardia del corpo sarà l'uomo che gli è a fianco quando l'OAS l'organizzazione dell'armée secrete francese vuole fare la pelle a Mattei e l'uomo che gli è vicino e che lo guarda a vista è Rino Pacchetti e Rino Pacchetti una volta li incontra quelli dell'OAS e poi racconterà di aver sbagliato a non sparargli al momento giusto chissà se l'OAS ha delle responsabilità nella morte di Mattei forse effettivamente avrebbe dovuto essere più pronto nella decisione il filo Pacchetti questa vicenda della lotta partigiana è importante nella biografia di Mattei ed è importante anche nella storia dell'Eni perché lì Mattei tira su dei suoi collaboratori che saranno poi molto vicini all'Eni e che non sono soltanto la guavia del corpo ce ne sono tanti altri che vengono dalla resistenza e che nell'Eni poi conteranno qualche cosa e avranno delle responsabilità precise perché Mattei ha bisogno di gente di cui fidarsi la lotta partigiana è stata dura anche per lui Mattei è stato arrestato durante la lotta partigiana un arresto molto breve riuscirono poi a tirarlo fuori rapidamente a far credere che ci fosse un equivoco ma i suoi grossi pericoli li aveva corsi e quindi era attento e durante la lotta dopo essere stato arrestato dovete circondarsi sempre più di persone sicure che gli fossero vicine e che nel momento di difficoltà potessero potessero agire nell'organizzazione di Mattei dell'ente nazionale idrocarburi tanti anzi forse la maggior parte venivano dalla resistenza ma c'era qualcuno che veniva addirittura dall'altra parte il pilota personale di Mattei per esempio Irnerio Bertuzzi veniva dalla Repubblica Sociale Italiana era stato pilota nella Repubblica Sociale Italiana aveva una storia completamente diversa e è importante vedere come in questa Italia che si era lacerata nella lotta nel momento della ricostruzione si cercasse di valorizzare le competenze le competenze che c'erano da una parte e dall'altra cercando di mettere ognuno nella posizione giusta e Bertuzzi era un pilota ed era un uomo che aveva la sua esperienza di carattere politico ma aveva una sua grande capacità e per questo fu da Mattei scelto un pilota che aveva poi fatto anche un'attività con aerolinee private per vivere dopo la fine della guerra i fascisti furono messi in disparte come si sa furono furono i purati Filibertuzzi dovette trovare da lavorare come pilota in Sud America ma poi fu riacchiappato da Mattei ed ebbe la responsabilità dell'aereo personale del presidente dell'internazionale idrocarburi ma per la lotta partigiana Mattei a guerra finita si trovò addirittura insignito di una decorazione americana la stella la stella di bronzo che gli venne appuntata sul petto in una cerimonia molto semplice nella quale si vede un ufficiale americano compiere questo rito senza prestare molta fede a quello che faceva e Mattei senza credere molto forza all'onorificenza che riceveva perché sì la resistenza era stata con gli alleati era stata con gli americani ma c'era una certa diffidenza reciproca specialmente nei confronti di chi aveva fatto la resistenza armata e Mattei faceva parte di quelle formazioni che l'avevano fatta realmente l'organizzazione dell'ENI è un discorso che ci riporta in qualche misura alle origini ci riporta in qualche misura alla lotta partigiana perché abbiamo visto che ce ne erano tanti che venivano dalla lotta partigiana nella organizzazione dell'ENI ai vertici dell'ENI ma non c'erano soltanto loro altri venivano dalla vecchia organizzazione dell'AGIP buona parte della burocrazia dell'amministrazione veniva dall'AGIP e donne ce ne erano poche perlomeno donne che contassero forse soltanto una soltanto una donna fatta dirigente ai tempi di Mattei ma c'era un maschilismo nella cultura italiana e c'era forse anche il maschilismo di quelli che venivano da esperienze di lotta non che la lotta non l'avessero fatta anche le donne ma alcuni pregiudizi allora erano più pesanti e duravano e ricomparivano una volta che la lotta era terminata allora vediamo questo gruppo di manager di impiegati di tecnici che Mattei tira su che organizza nell'Eni dove si va a stabilire si stabilisce a Roma in una sede che c'è ancora in via Tevere 20 non è più dell'Edi ma esiste ancora quella palazzina è stata quella la prima sede dell'ente nazionale idrocarburi ed era una sede messa su con con molta semplicità era un ufficio con tante stanzette senza apparati moderni senza il cerimoniale che verrà dopo nella sede dell'Euro un cerimoniale di tipo americano completamente estraneo alla sede di via Tevere 20 e nella sede di via Tevere 20 c'era lo stesso Mattei che occupava una stanza non particolarmente grande e non particolarmente vigilata proprio perché non era particolarmente vigilata quando arrivava la notizia della bomba che c'era il periscolo di un attentato nei confronti di Mattei e allora si cominciavano a vedere tante facce tese tanti uomini col vestito grigio scuro che erano agenti della sicurezza erano agenti della allora si riceveva dei servizi segreti erano poliziotti o carabinieri in borghese ma quel borghese con la divisa tutta uguale con la giacca grigia e in parte erano legati a Leni perché avevano dei rapporti anche con Leni e in parte erano invece proprio dei veri e propri agenti e aveva questa mania Mattei per sentirsi più sicuro aveva riempito a tutta Leni di persone che venivano da apparati di sicurezza che venivano in generale dalla polizia dai carabinieri ma addirittura dei servizi segreti ne aveva tanti perché così si sentiva più sicuro pensava di riuscire a fronteggiare il nemico di conoscere per tempo le mosse del nemico e non si rendeva conto che probabilmente si metteva nella sua stessa sede nella sua vita delle figure delle persone che non avrebbe potuto facilmente controllare che non rispondevano direttamente soltanto a lui ma rispondevano anche ad altri organismi era quindi un gioco rischiosissimo e un gioco che non si può dire che non abbia contribuito anch'esso a portare Mattei alla drammatica fine che conosciamo insomma Mattei all'interno della sua organizzazione che era leni voleva una specie di piccolo stato quindi per esempio la cosa più banale le informazioni sulle persone che dovevano essere assunte erano prese da personale che veniva dai servizi segreti o dai carbinieri o che era addirittura in forza ancora in queste organizzazioni e Mattei in questo modo abbiamo già detto si sentiva più sicuro pensava di riuscire a dominare il pericolo e invece finiva col mettersi intorno degli elementi che difficilmente avrebbe potuto controllare anche se erano inquadrati alcuni di essi erano inquadrati nella organizzazione dell'eni parlare della struttura dell'eni parlo proprio dell'ente nazionale idrocarburi è relativamente semplice perché non c'è da fare molti nomi l'eni era una struttura ristretta con pochissimo personale la maggior parte delle assunzioni venivano fatte formalmente per le società controllate dall'eni e non direttamente per l'eni quindi ancora oggi trovare fra gli anziani gente che venga realmente dall'eni è molto difficile erano pochi impiegati e pochissimi pochissimi dirigenti c'erano dei nomi che hanno avuto una grande importanza nella vicenda dell'eni e quindi nelle vicende petrolifere italiane e uno che è molto vicino a Mattei si chiamava Marcello Boldrini ed era un uomo con esperienza allo stesso tempo di professore universitario di materie statistico demografiche e con esperienza di lotta antifascista viene nominato da Mattei vicepresidente e poi diventerà per un breve periodo presidente dopo la morte di Mattei un altro ancora si chiamava Luigi Faleschini e Luigi Faleschini non durò molto tempo anche lui professore di statistica uomo di grande intelligenza ed è quello che organizza una struttura molto embrionale di relazioni pubbliche con tutto quello che ha significato per l'eni e che sono rapporti e sono capacità anche di tenersi amici quelli che contano e necessità talvolta di distribuire denaro di corrompere tutto questo fatto con capacità con intelligenza sapendo mantenere il segreto un'altra persona che conta nell'organizzazione iniziale dell'Ini è un altro professore si chiamava Giorgio Fuà professore di discipline economiche che dava molte idee molti consigli preziosi a Mattei Mattei lo teneva in gran considerazione anche se non era proprio l'organico dell'ente nazionale idrocarburi un'altra persona veramente singolare si chiamava Leonardo Sinisgalli ed è un poeta letterato che ebbe delle idee formidabili utilizzate nella pubblicità dell'Agip e nella pubblicità dell'Eni e ha collaborato anche a costruire quel marchio anche se non è stato l'unico artefice quel marchio straordinario del cane a sei zampe ancora altre persone che venivano da esperienze diverse uno molto importante è Pietro VII Pietro VII era una sorta di stratego di cose finanziarie un avvocato romano un avvocato d'affari si direbbe oggi che aveva il gusto la sensibilità per gli intrecci finanziari quindi riuscì a suggerire a Mattei la costruzione del complesso dell'Eni con le società controllate con le società straniere e così via in modo da ripartire le responsabilità era soprattutto da rendere meno trasparente in molte circostanze la visibilità all'estero un'altra persona molto importante al vertice dell'Eni anche se formalmente risultava essere soltanto il responsabile del servizio relazioni col personale si chiamava Giuseppe Restelli un uomo di grande intelligenza di grande sensibilità di esperienza cattolico che lui aveva dato una mano alla resistenza e aveva la capacità di mantenere i contatti con la democrazia cristiana che erano importantissimi allora ed anche i contatti con la Santa Sede riusciva ad arrivare a Monsignor Montini che era arcivescomo di Milano allora e che poi sarà Papa e questo ha avuto la sua importanza perché è una mediazione che è servita in alcuni momenti difficili di lotte operai ed è una mediazione che è servita soprattutto ad allontanare l'ente nazionale idrocarburi dalla disciplina della confindustria dalla disciplina della difesa del profitto secondo la tradizione industriale limitando le aperture all'esterno limitando le aperture al mondo del lavoro e invece il Restelli attraverso queste sue amicizie attraverso i rapporti che è capace di sviluppare con le ACRI che sono le associazioni cattoliche lavoratori italiani l'organizzazione sindacale vicina alla democrazia cristiana riesce a smorzare la durezza di rapporti che c'era invece con le altre organizzazioni industriali un'altra persona da ricordare nello staff centrale dell'ENI è Gianni Fogu Gianni Fogu si può considerare un cacciatore di teste è l'uomo che ha formalmente la qualifica di assistente al vertice assistente del vice direttore generale perché un direttore generale non c'era questo poi lo diremo ma che è l'uomo capace di portare all'ENI tante belle intelligenze capace di modernizzare assai l'ente nazionale idrocarburi ed è quello che Mattei in fondo voleva voleva un'organizzazione che fosse completamente nuova un'organizzazione che fosse molto vicina al mondo della cultura e poi c'è un altro personaggio dal punto di vista formale importante dal punto di vista sostanziale forse un po' meno che si chiamava Raffaele Girotti diventerà presidente dell'ENI dopo che è morto Mattei molto tempo dopo ma finché Mattei vive è vice direttore generale perché finché Mattei vive direttore generale semplicemente non c'è perché Mattei è tutto e il presidente non vuole vice che ne oscurino il potere e la immagine andando ancora nell'elenco di queste persone che erano facevano parte dello staff centrale dell'ENI che erano vicine a Mattei viene fuori un altro nome noto ancora oggi che è quello di Giorgio Ruffolo è un uomo molto intelligente molto capace un uomo che sa sviluppare e tenere i contatti a vasto raggio contatti con politici contatti con i giornali che sa impostare le relazioni pubbliche secondo una concezione molto moderna e molto americana perché molto di americano c'è nell'organizzazione di Mattei anche se tutta la struttura del petrolio di Mattei si contrappone alla struttura del petrolio degli Stati Uniti ma c'è qualche cosa nel metro delle organizzazioni che si prende dagli Stati Uniti e Ruffolo è uno degli uomini che serve appunto a questo e c'è ancora Giuseppe Ratti che è uomo al vertice di trattative commerciali molto complesse con delle responsabilità precise in questo settore e ancora Alvise Savornian di Brazzà un nobile signore che ha fatto la resistenza che ha fatto la resistenza e che ha avuto anche un ruolo nei servizi segreti italiani e che serve a mantenere dei rapporti con i servizi segreti che all'Eni vengono utilizzati in vario modo con risultati assai talvolta discutibili e c'è ancora Vincenzo Cerami un avvocato siciliano molto abile che cura questo settore per l'ente nazionale idrocarburi e c'è ancora Vincenzo Gandolfi che è il segretario particolare di Mattei e che è l'uomo del quale Mattei si fida e se ne conosce tanti segreti e ancora si potrebbe ricordare Vittorio Palombo che ha una storia del tutto particolare perché anche egli è stato ufficiale del SIN dei servizi segreti italiani è stato nella guerra di Spagna con i fascisti perché noi abbiamo mandato degli aiuti alla Franco nella guerra di Spagna e che nello stesso tempo poi in anni successivi riesce a trovarsi ai vertici del clonai del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia quindi personaggi molto strani molto complessi Ugo Niutta anche poi noto per vicende di anni relativamente vicini a noi e infine possiamo ricordare anche Tito De Stefano che cura i rapporti con la stampa con i giornali con tutto quello che significa per l'Eni ci sarebbe da dire ancora qualche cosa sui collaboratori di Mattei forse ce n'è uno sul quale bisognerebbe spendere qualche piccola parola di più questo collaboratore veniva dagli States dagli Stati Uniti d'America e si chiamava Thomas C. Quakenboss Quakenboss probabilmente si dovrebbe pronunciare e veniva detto comunemente a l'Eni TCQ TCQ veniva da una grande società di organizzazione aziendale americana che aveva avuto da Mattei l'incarico di riorganizzare l'Eni perché Mattei voleva che l'Eni fosse fatto come erano fatte le grandi società americane che contrastava però l'organizzazione sentiva che gli americani la sapevano fare e allora aveva voluto un tecnico di organizzazione venuto dall'America era questo signor Quakenbock allora questo signore fece tutti i nuovi organigrammi dell'Eni cominciò a lavorare nel 1957 e si installò all'Eni con un vero e proprio ufficio e c'era poi un'altra figura che non faceva parte dell'Eni ma che va ricordato anzi era era dall'altra parte era il fiduciario responsabile in Italia dell'Aesso del grande massimo esponente del petrolio mondiale e questo signore aveva dei rapporti personali con Mattei che erano maturati durante il CLNAE il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia questo signore si chiamava Vincenzo Cazzaniga aveva avuto la responsabilità degli oli minerali nell'organizzazione che si era creata immediatamente dopo la resistenza e sarà poi responsabile dell'Aesso ma non sarà mai un nemico dichiarato dell'Eni e di Mattei era un concorrente leale ed un vecchio amico che ricordava a Mattei gli anni della lotta questo Mattei che ha come abbiamo visto una complessa capacità di rapporti che ha fatto un'organizzazione con tutti i suoi compagni di lotta partigiana ma che però ha tenuto dentro persone abili persone capaci che la lotta partigiana non avevano fatta anzi che durante la lotta partigiana erano state all'altra parte ebbene questo personaggio Mattei non ha una casa stranamente insomma i suoi affetti la sua intimità sono consegnati a un albergo vive in un albergo romano ha i libiti fra il quartiere Pinciano e i Parioli e lì c'ha un piccolo appartamentino una bella stanza poi un altro piccolo studiolo accanto e lì vanno a trovarlo gli amici molto spesso c'è anche la moglie di Mattei ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti ha sposato una austriaca Margherita Maria Paolas detta Greta che aveva fatto la ballerina classica in Austria e Mattei non ha quindi un suo nido familiare a Roma dove passa gran parte del suo tempo mentre a Milano abbiamo detto anche lì vita di motel dell'Agip a Milano la casa ce l'ha ma la frequenta molto poco anche lì un posto riservato nel motel dell'Agip e ha una una sorella che all'interno del motel dell'Agip gli cura un po' le faccende domestiche potremmo dire quindi Mattei è contornato quanto più possibile da gente della famiglia da gente del suo paese forse perché non si fida forse perché sono quelli che conoscono meglio le sue abitudini quelli che riescono a capirlo come forse strani non potrebbero e quando si arriva ad un potere come quello raggiunto da Mattei forse si sente di più il bisogno degli intimi di quelli con i quali si è diviso qualche cosa di importante nel passato anche perché i rapporti Mattei importanti quelli che contano per gli affari e per la sua stessa vita li deve tenere con i politici in modo particolare quasi quasi non si può permettere degli amici una storia tutta da raccontare è quella del giorno quotidiano che esiste ancora ma che adesso ha una caratterizzazione diversa da quella che aveva allora il giorno diventò il quotidiano dell'Eni di Mattei il giorno porta alla data del 2 aprile 1956 è un quotidiano che si pubblica a Milano ma ha una diffusione nazionale ed è questo un fatto nuovo perché a quel tempo soltanto il Corriere della Sera e la stampa avevano una limitata circolazione nazionale raccontare le vicende finanziarie attraverso le quali Mattei riuscì e impadronizzi di questo giornale sarebbe lungo e non serve a nulla quando Mattei ha il culmine del potere all'Eni quando si rende conto di avere contro tutta la stampa ha bisogno di avere un giornale suo e l'unico modo è quello di crearselo non c'è altro modo e di crearselo con dei giornalisti che siano tutti suoi che siano l'espressione della sua politica una politica che allora si poteva considerare guardando le cose con l'occhio del poi una politica di avvicinamento verso il centro-sinistra una politica di preparazione del passaggio da una lunga stagione di governi centristi democristiani della democrazia cristiana con l'alleanza talvolta dei liberali e dei repubblicani il passaggio da questi governi verso governi che siano aperti verso una sinistra moderata che si spinga addirittura fino ai socialisti e per preparare questa operazione che è anche un'operazione che interessa l'ente nazionale idrocarburi che ha bisogno di muoversi in una dimensione politica progressista visto che il mondo tradizionale del petrolio quel mondo tradizionale che trova un suo punto di riferimento nella confindustria d'allora che era cosa ben diversa dalla confindustria di oggi è completamente chiuso nei confronti dell'iniziativa dell'Eni e allora ecco la necessità di questo nuovo giornale che si chiama il giorno alla cui direzione Mattei mette un uomo che viene dalla resistenza direttore del giorno è Italo Pietra e accanto a Italo Pietra c'è Giorgio Bocca che noi ben conosciamo che già allora aveva posizioni avanzate che lo hanno poi sempre più caratterizzato c'è ancora come redattore capo Paolo Murialdi che è stato presidente dell'associazione sindacale dei giornalisti della federazione della stampa e un altro redattore capo è Angelo Del Boca la caratterizzazione di questo giornale è appunto quella di preparare come abbiamo detto lentamente il passaggio da un'area politica di centro quindi da governi di centro verso governi che siano se non proprio di centro-sinistra ma che guardino con interesse verso una possibile futura apertura a sinistra questa è la linea del giorno che deve essere poi realizzata con un tipo di informazione assai nuovo assai moderno che cambia completamente il quadro della informazione italiana grande presenza per esempio di illustrazioni di fotografie titoli molto molto efficaci un grande spazio dedicato all'economia e sempre con una attenzione particolare alle riforme quelle riforme di carattere politico e di carattere economico di cui l'Italia nella visione di Mattei ha bisogno in quegli anni e che servono soprattutto a rendere la presenza dell'Eni sempre più significativa e sempre più determinante nei cambiamenti politici che in Italia si stanno preparando e che si vogliono preparare naturalmente la politica di questo giornale del giorno nei confronti delle aziende della Confindustria è di notevole durezza non dimentichiamo che l'ente nazionale idrocarburi si è distaccato dalla Confindustria una sua organizzazione con un nome completamente diverso non aderisce più alla Confindustria così come le aziende dell'Iri le altre aziende del gruppo delle partecipazioni statali si erano staccate completamente dalla Confindustria e quindi anche a livello di stampa si sente da parte di Mattei la necessità di accreditare far passare questa linea e allargare sempre più i consensi in questa direzione qualche parola di più bisognerebbe dirla sulla politica estera del giorno soltanto che per intendere meglio questo discorso bisogna riportarsi ai giornali del tempo oggi sui giornali la politica estera occupa molto spazio viene in prima pagina molto spesso o comunque all'interno del giornale ha un suo peso notevole allora la politica estera era confinata in tutti i quotidiani italiani in spazi molto molto ristretti tranne nei casi in cui fossero eventi particolari per i quali si erano mandati gli inviati e quindi addirittura la politica estera veniva in prima pagina ma normalmente aveva poco spazio caratteristica del giorno è invece quello di mettere la politica estera assai spesso in prima pagina e comunque dare una larga 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 importanza a questo aspetto della notizia questo aspetto della cronaca questo è un fatto nuovo che rende il giornale molto interessante che quindi fa aumentare il pubblico del giorno rapidamente era il pubblico che allora comprava le monde per essere informato di politica estera e invece da quando c'è il giorno voluto da Mattei non ce lo dimentichiamo se ne può fare a meno molto spesso dei giornali stranieri perché finalmente c'è un quotidiano italiano che dedica agli avvenimenti esteri largo spazio spazio di informazione e spazio di analisi e questo è un merito che al giorno voluto da Mattei il giorno di Mattei perché è controllato dall'Eni di Mattei è un merito che deve essere riconosciuto a distanza di tanto tempo e che è rimasto e che è poi passato in altri giornali italiani e che ha contribuito senza dubbio a modificare il quadro giornalistico italiano ed ecco che quindi il giorno anche se nel tempo è cambiato non è più quello di prima non ha più gli interessi internazionali e nazionali che aveva prima ora tende a essere un giornale regionale ma il giorno di allora ha avuto un grande ruolo nel cambiamento nell'amodernamento del giornalismo di informazione e di analisi italiano e per questo anche a distanza di tanti anni se ne può parlare ancora anche se è molto difficile vederne la collezione che essere stata fotocopiata forse accessibile su internet ma che ormai non si trova più nelle biblioteche e allora il ruolo di Mattei è un ruolo di modernizzazione del paese e modernizzazione non soltanto nel campo dell'energia come abbiamo visto non soltanto consiste nel trovare il petrolio di cui l'Italia ha bisogno ma consiste anche nel contribuire a portare l'Italia lungo una linea di cambiamento lungo una linea di ammodernamento che ne faccia un paese molto vicino a quello che abbiamo conosciuto noi a distanza di tanti anni Il Corriere della Sera ha una durissima polemica nei confronti di Mattei più che una polemica è un attacco che si articola in diverse puntate Mattei abbiamo visto che è presente nel mondo della stampa dal 1956 perché nel 1956 ha fatto acquisire a Leni il controllo del giorno e quindi Mattei è visto anche come un concorrente un uomo che non gestisce soltanto il potere del petrolio ma è entrato anche nel campo della comunicazione ed ecco che dal 13 al 17 luglio del 1962 si articola una polemica molto dura a firma di Indro Montanelli sul Corriere della Sera viene preso di mira direttamente Mattei è l'intera terza pagina del Corriere della Sera dedicata ogni giorno a questi attacchi e la firma è quella di maggior prestigio di maggior peso del Corriere della Sera è Indro Montanelli che firma o in prima o in terza pagina ma che è ritenuto l'uomo di punta l'uomo più rappresentativo di questo giornale Mattei viene accusato di aver realizzato attraverso l'Eni un piccolo impero privato un impero che gli consente di utilizzare per finalità molto discutibili finalità molto spesso politiche i profitti che vengono dal metano per esempio Mattei che viene accusato di interferenze con la politica estera italiana per le tante iniziative che ha fatto nei paesi del terzo mondo destabilizzando gli equilibri petroliferi mondiali è un uomo che viene accusato di non badare i costi perché gli si fanno un po' i conti nelle tasche dell'Eni e si dimostra secondo Montanelli che l'Eni ha dei costi che superano di molto i profitti si accusa apertamente l'Eni di aver creato lo scompiglio nel mercato petrolifero di fare un uso molto discutibile dei profitti del metano e infine lo si accusa questo è il colpo finale di avere destabilizzato l'Occidente attraverso gli accordi realizzati da l'Eni con l'Unione Sovietica e questa è la sostanza degli attacchi di Montanelli il Corriere della Sera si è schierato apertamente a sostegno di questa campagna e ne ha fatto un martellamento quotidiano sono state molte le ragioni per le quali Mattei è riuscito a entrare nell'immaginario collettivo e tutto sommato non tutte direttamente legate alla costruzione dell'Eni per esempio un film il caso Mattei un film di Francesco Rosi del 1972 con Gian Maria Volontè ha portato all'attenzione di un vasto pubblico la vicenda dell'Eni la vicenda di Mattei il mistero della morte di Mattei questo film non ha sciolto il mistero di questa morte ma per la prima volta ha gettato il sospetto il sospetto che Mattei non sia morto in un incidente non era una conclusione univoca del film non c'erano ancora gli elementi allora per poterlo affermare oggi ci sono elementi di carattere giudiziario che ce lo fanno dire allora più di questo non era possibile però il successo che questo film ebbe allora 1972 quando uscì è il successo che continua ad avere oggi e dovuto al mistero di questo personaggio che ha segnato un momento molto importante della storia del nostro paese ed ecco che a Mattei sono stati dedicati anche altri lavori molto recentemente c'è stato un film tedesco girato nel 2001 molto più esplicito sulla causa della morte di Mattei più esplicito perché i dati sono cominciati ad apparire nella loro chiarezza ed è stato girato da una società cinematografica franco tedesca la quale ha realizzato una sorta di documentario sentendo personaggi del tempo intervistando chi sapeva e chi poteva dare delle testimonianze e affermando in modo chiaro e netto che la morte di Mattei non è avvenuta per un incidente è stato trasmesso questo film il cui titolo è processo al silenzio in italiano come sottotitolo il caso Mattei è stato trasmesso da tutte le televisioni europee ma questi due il caso Mattei quindi i film di Rosi e il lungo documentario il film documentario girato dai tedeschi sono quelli che è ancora possibile vedere ma ci sono stati degli altri contributi molto importanti alla storia di Mattei e al drammatico epilogo della sua vicenda con una serie di documentari girati da Carlo Lucarelli per la trasmissione I misteri d'Italia della RAI è andata molto a fondo nello scavo sulla questione di Enrico Mattei ci sarebbe da dare un'occhiata anche a dati lo scritti agli appunti che si sono ritrovati proprio recentemente di Pierpaolo Pasolini ai quali si è dato il titolo provvisorio di petrolio non si sa neppure se questo sarebbe stato il titolo dato dall'autore e sono pezzi che fanno molta impressione non sono stati ancora montati dall'autore nel romando definitivo che avrebbe dovuto scaturirne però danno molti elementi inquietanti sulla vicenda di Enrico Mattei e soprattutto sulla sua morte e sulle ostilità che si era creato tutto intorno nel mondo petrolifero e poi e poi ancora i documentari realizzati da Giovanni Minoli per mixer della RAI come si vede Mattei ha avuto una presenza abbastanza larga sui cineschermi più su quelli televisivi forse che su quelli cinematografici perché su quello cinematografico vero e proprio l'unico lavoro importante che ancora si veda è il caso Mattei visto che il documentario tedesco ancora non vi ho fatto vedere bisognerebbe spiegare forse le ragioni di questo grande interesse per Enrico Mattei Enrico Mattei ha occupato un posto importante nell'immaginario collettivo posto che ha guadagnato dopo la sua morte non in vita perché in vita non se ne è parlato tanto di Mattei e non se ne è anche parlato tanto dell'Eni l'unico giornale che parlasse dell'Eni e degli affari che l'Eni faceva nel mondo era in fondo il giorno ma da parte degli altri quotidiani c'era molta discrezione per quanto concerne l'Eni per quanto concerne Mattei c'era anzi addirittura imbarazzo ma forse questo imbarazzo questa reticenza che nell'opinione pubblica veniva colta veniva avvertita ha fatto esplodere l'interesse dopo ha fatto maturare un'attenzione maggiore verso il film di Rosi per esempio e verso tutto l'altro materiale anche il documentario che qualche volta si riesce a vedere alla televisione perché Mattei era ritenuto un punto di confluenza anzi l'uomo di confluenza di vicende misteriose e complesse e Mattei si vedeva il leader quindi c'era il culto del leader che è un culto avvertito dalla psicologia di massa si sentiva l'interesse nazionale l'interesse nazionale contrastato da potenze più forti della potenza italiana e si vedeva il bisogno di energia dell'Italia e si vedevano le capacità di Mattei di conseguire delle vittorie in questo campo energetico e questo nell'Italia dal dopoguerra in poi significava volto perché una delle sofferenze del nostro paese durante la guerra e dopo era stata appunto quella di non disporre di materie prive e di non disporre della materia prima essenziale che era il petrolio ed ecco che questo fa crescere la statura di Mattei fa crescere l'interesse per Mattei se poi si aggiunge il mistero della sua morte perché a lungo è rimasto un mistero ma un mistero dietro il quale l'opinione pubblica generalmente intravedeva il delitto intravedeva l'attentato e allora si capisce come questa figura crescesse sempre più nell'immaginario collettivo e c'erano poi i rapporti complessi di Mattei e dell'Eni con servizi segreti italiani il grande rigore degli americani contro le iniziative di Mattei contro le iniziative dell'Eni la forte opposizione di altri servizi segreti che erano i servizi americani e non soltanto americani ma anche in qualche modo inglesi c'era la posizione e il silenzio della finanza della finanza italiana e della finanza internazionale per le iniziative di Mattei e dell'Eni e tutto questo faceva ingigantire sempre di più il personaggio e faceva aumentare la curiosità del pubblico e c'era poi l'azione straordinaria che Mattei aveva avuto anche in un terreno che era ed è tuttora molto importante per la vita del paese nel terreno dei rapporti di lavoro Mattei era riuscito in qualche modo a spezzare una egemonia l'egemonia dei datori di lavoro riuniti nella confindustria attraverso accordi di lavoro con i sindacati privilegiando in modo particolare la CISL e il sindacato cattolico che rompevano il fronte datoriale il fronte dei datori di lavoro e questo per quegli anni era un fenomeno sicuramente straordinario fuori dimensione bisogna pensare all'Italia che si trasformava negli anni di Mattei un'Italia dei trasporti per ferrovia sulle vecchie terze classi delle ferrovie dello Stato che comincia invece a conoscere il trasporto per strada le automobili personali comincia a conoscere i grandi autotreni si chiamavano così allora che trasportavano le merci da una città all'altra questa trasformazione dell'Italia cammina di pari passo con l'affermazione di una di una organizzazione nazionale italiana di un ente dello Stato italiano l'ente nazionale idrocarburi che a questa trasformazione deve fornire appunto il carburante deve fornire il petrolio con tutti i suoi derivati che deve essere capace di portare il riscaldamento nelle case perché le esigenze delle famiglie sono cambiate non sono più quelle di vita spartana al freddo ma occorre avere calore perché bisogna riuscire in piena efficienza ad affrontare il lavoro del giorno dopo e il contributo dell'Eni a questo attraverso l'agip gas per esempio che porta con le bombo il gas liquido nelle case attraverso il metano che porta il riscaldamento in vaste aree dell'Italia estentrionale e che porta il combustibile necessario a far camminare le industrie tutto questo rende Mattei un personaggio centrale della vita italiana anche se di lui insisto non si parla in modo adeguato sulla stampa c'è una specie di silenzio stampa nei confronti di Mattei che è rotto soltanto dal quotidiano di Mattei dal quotidiano dell'Eni dal giorno ma il giorno ha una diffusione abbastanza larga ma è pur sempre una diffusione di elite la stampa quotidiana delle località minori non tocca questi temi non dà spazio a Mattei non dà spazio alle iniziative dell'Eni non dà spazio alla metanizzazione del paese non dà spazio alla conquista del petrolio che Mattei sta tentando e quindi succede che tutto il mito di Mattei sia alimentato nell'immaginario collettivo più da un passaparola che da informazioni che arrivino direttamente dai giornali la televisione non ha ancora certamente la capacità di raggiungere le case che ha acquistato soltanto molti anni dopo ma tutto sommato questa specie di silenzio decretato intorno alle iniziative di Mattei finisce col giovare a Mattei stesso e a Leni perché ne ingigantisce ne gigantisce la portata e ne crea sempre di più sempre ogni giorno che passa con una dose maggiore il mito il mito che poi con la tragica morte diventerà realmente patrimonio nazionale metano è importante nel sviluppo del nostro paese è importante in una zona molto particolare importante nel nord Italia perché nel nord si riesce ad avere accesso direttamente al metano nell'Italia centrale e meridionale il metano arriva con le bombole arriva per uso familiare ma non può ancora raggiungere le industrie d'altronde non ci sono tante industrie che potrebbero aver bisogno del metano e dunque il mito di Mattei rimane imperneato sulla benzina sulla benzina che Mattei riesce a portare sul territorio italiano attraverso l'organizzazione dell'Agip la benzina dell'Agip si chiama infatti la potente benzina italiana con uno slogan molto fortunato che è stato lanciato appunto dall'ini di Mattei ma rimane il grande problema del mezzogiorno dove si arriva la benzina con le autobotti ma le fonti di energia non ci sono e ci sarebbe bisogno di energia anche per la industrializzazione del mezzogiorno e l'interesse di Mattei si rivolge quindi anche all'Italia meridionale le ricerche di Mattei si estendono alla Puglia e si estendono in modo particolare alla Sicilia e lì in queste zone che Mattei spera di trovare petrolio possibilmente ma quantomeno metano che possa servire alle esigenze italiane le ricerche in Puglia danno risultati immediati discreti ma si capisce che in prospettiva perlomeno con i mezzi del tempo di Mattei non promettono gran cosa e invece in Sicilia esistono dei giacimenti di metano che sarebbe possibile utilizzare e quindi è lì che Mattei rivolge ora l'interesse delle aziende dell'Eni è lì che indirizza le ricerche bisogna cercare di estrarre dal sottosuono della Sicilia del metano che serva a sostenere la industrializzazione di quelle aree l'industrializzazione di una parte particolarmente depressa e particolarmente sofferente del del mezzogiorno d'Italia ci sono delle ricerche che indicano che il metano esiste nel sottosuono della Sicilia si tratta di portarlo alla superficie e si tratta di rendere poi il metano utilizzabile non soltanto attraverso la trasformazione nel gas nell'agip gas da città ma renderlo disponibile anche alla utilizzazione di carattere industriale questo è lo scopo che Mattei prefigge e perché no se poi accanto al metano si riuscisse a estrarre in Sicilia anche petrolio sarebbe tanto riguadagnato ma già il metano è una tappa ritenuta importante per la trasformazione del nostro paese ed ecco che le ricerche metanifere in Sicilia sono condotte da Mattei con molto impegno e con molte difficoltà perché lì bisogna fare il conto anche con un'amministrazione locale che ha delle caratteristiche tutte sue e bisogna fare il conto anche con altri poteri locali dei quali si ha paura ma che esistono il potere della mafia e nello stesso tempo non si può rinunciare a estrarre petrolio dalla Sicilia l'iniziativa di Mattei si incentra soprattutto intorno all'area di Gela è lì che vengono fatte delle ricerche è lì che il metano viene trovato è lì che cominciano la prima estrazione del metano e si accompagna il primo getto di metano ad una grande speranza ad una speranza di trasformazione del territorio o una speranza di un contributo decisivo all'industrializzazione la storia successiva non andrà in questi termini il metano sarà trovato sarà portato in superficie sarà utilizzato però darà inizio anche ad una devastazione del territorio i cui segni si possono ancora vedere a distanza di tempo e la devastazione non è stata compensata quasi mai dall'apporto di ricchezza dall'apporto di lavoro come Mattei avrebbe voluto siamo a Gagliano Castelferrato in provincia di Enna paesino depresso che spera dal metano di cambiare la sua situazione e Mattei dà speranza nel suo discorso ricorda la sua giovinezza ricorda di venire da un'area depressa anche lui e quindi dice che il metano potrà cambiare la condizione di Gagliano Castelferrato la gente lo ascolta c'è molta tensione nella piazza c'è emozione c'è stata un'interruzione forse lo abbiamo anche detto un tale dalla piazza urla così si può togliere questa miseria di Gagliano la miseria di Gagliano che non fa vivere che costringe a stare con le bestie nelle case perché non c'è non c'è spazio neanche per tenere gli animali si vuol cambiare questa situazione forse il petrolio forse il metano perché di metano si tratta in quella fase a Gagliano potrebbe cambiarla e Mattei ricorda ero un povero anch'io ricorda gli anni del dopoguerra e anch'io volevo cambiare la mia situazione e il mio paese non era molto diverso da Gagliano dirà Mattei dalla piazza c'è tensione c'è un'emozione forte il discorso è un discorso di Mattei piuttosto impacciato ma non perché sia impacciato per la circostanza ma perché Mattei è generalmente impacciato quando parla il pathos ce lo ama Mattei ma non riesce a trasferirlo nella parola il pathos comunque in questa storia di Mattei in questa storia del petrolio italiano in questa storia di una ricostruzione italiana e di un ricollocamento dell'Italia nel concerto delle nazioni e quindi questo pathos Mattei se lo porta dietro e riesce a comunicarlo riesce a comunicarlo con i fatti molto più che con le sue parole e quindi il discorso di Gagliano il suo ultimo discorso non è un bel discorso è un discorso però di grande speranza di una speranza che purtroppo andrà delusa perché il petrolio non c'è a Gagliano certamente c'è del metano a Gagliano e viene tirato fuori dal sottosuolo il metano ma sarà una rovina ambientale e non sarà una ricchezza dal punto di vista economico quindi l'ultima impresa l'impresa che Mattei lascia avviata a Gagliano non è un'impresa che cambierà le sorti dell'Italia e non è neppure un'impresa che cambierà le sorti di Gagliano rimarrà dopo tanti anni un inquinamento tremendo una devastazione ambientale ero un povero anch'io questo è il messaggio ultimo che Mattei lascia a Gagliano prima di salire sull'aeroplano che lo porterà a morire lo porterà verso la fine della storia sua della storia di un'Italia che si sta ritirando su dalle macerie della guerra che sta entrando fra le grandi potenze economiche ma ancora non lo sa e Mattei morirà prima di vederla la conclusione di questa di questa storia non avrà la soddisfazione di vedere l'Italia entrare nel G7 questa è una cosa che succederà molti anni dopo ma che è conseguenza diretta della grande capacità di Mattei di dare un ruolo internazionale all'Italia nella economia e anche nelle relazioni internazionali 27 ottobre 1962 dunque a Gagliano l'ultimo viaggio di Mattei il viaggio definitivo il viaggio che segnerà una svolta per la vita di Mattei la fine della vita di Mattei ma segnerà una svolta anche per il nostro paese perché l'Italia avrà certamente tutte le conseguenze positive della creatura di Mattei dell'internazionale idrocarburi ma non avrà più la guida di Mattei che era stata allo stesso tempo la guida di un industriale capace di un manager di Stato un grande realizzatore ma era stato anche una sorta di suggerimento politico continuo era stata una interferenza come si è detto poi dopo a distanza di tempo era un'interferenza forse anche grave forse anche scorretta dal punto di vista formale nella politica italiana nella politica internazionale ma con effetti straordinariamente positivi perché l'ascesa dell'Italia nel G7 l'elevarsi dell'Italia a potenza economica internazionale viene tutta di lì viene dall'ENI viene dall'iniziativa di Mattei e viene anche dal metano il metano della Valle Padana che consente la industrializzazione a minor costo del nostro paese che consente il riscaldamento nelle case a un prezzo ragionevole ma Mattei tutto questo lo sente come un impegno per cambiare le condizioni del suo paese ma non riesce forse neppure a inserirlo in un progetto vasto in un progetto articolato perché la vita dell'ENI è molto è molto caotica viene costruita giorno per giorno non si può dire neppure che si riesca ad agire sulla base di un programma c'è un programma di massima e in questo Mattei ha successo un successo che si vedrà a distanza di anni che lui non riesce a godere nella sua pienezza e dunque il Mattei che ha realizzato tutto questo e che nell'animo aveva ancora progetti e progetti di affermazione per il proprio paese a Gagliano si imbarcherà per il volo che lo porterà a finire la sua esperienza di manager dello Stato e a finire anche la sua esperienza umana l'aereo sul quale si imbarca è il suo jet personale il suo per modo di dire era di proprietà dell'ENI dell'Internazionale idrocarburi ma lo adoperava soltanto Mattei quindi si poteva considerare l'aereo personale di Mattei e si chiamava I-SNAP dove I vuol dire Italia e SNAP è una sigla strana S-N-A sono le prime tre lettere di SNAM la società dell'ENI che risultava intestataria dell'aereo e la P invece al posto della M di SNAM la P voleva dire presidente I-SNAP era l'aereo di Enrico Mattei l'aereo sul quale Mattei ha fatto tanti viaggi alla costruzione dell'ENI e ha fatto l'ultimo viaggio l'aereo porta a Milano alla fine della missione a Gagliano riporta Mattei ma riporta anche un giornalista americano William Francis McHale che è un giornalista della rivista Time di Life un uomo importante nel mondo giornalistico americano che aveva chiesto di essere ospitato per il viaggio fino a Milano e porta Ernerio Bertuzzi il pilota personale di Enrico Mattei un uomo che ha una storia dalla quale faremo un cenno molto molto rapido abbiamo parlato del pilota il pilota personale di Mattei un cenno lo merita questo un uomo importante nella vita di Mattei nella vita dell'ENI e un uomo con una sua storia il pilota che viene dalla Repubblica sociale italiana quindi viene dall'altra parte Mattei era antifascista aveva fatto la resistenza Ernerio Bertuzzi aveva cominciato nella regia aeronautica e poi quando l'Italia fu divisa in due noi si trovavano nella Repubblica sociale italiana e continuò a fare il pilota e dopo per vivere dovette fare il pilota in linea aerea nel Sud America finché Mattei l'antifascista il partigiano Mattei che aveva tutto uno staff di ex partigiani Mattei lo prende a lavorare a Leni come pilota perché è bravo e Mattei non discrimina certamente l'ultimo contatto radio di questo pilota con l'aeroporto di Rinate l'aeroporto al quale è diretto Enrico Mattei avviene alle ore 18 e 57 10 secondi per essere precisi e dopo si perde ogni contatto il tempo è cattivo ma non non sono condizioni meteorologiche da destare gravi preoccupazioni c'è una pioggia intensa ma c'è calma di vento come dicono i bollettini e c'è una visibilità che sotto i mille metri comincia a essere abbastanza regolare quindi questa è la situazione nella quale l'aereo di Mattei si avvicina alla pista di atterraggio di Rinate l'aeroplano verosimilmente cade intorno alle 18 e 58 18 e 59 l'ultimo messaggio abbiamo detto è delle 18 e 57 dei 10 secondi poi si perdono i contatti Linate continua a chiamare l'aereo ma l'aereo non risponde più è molto strano qui cominciano le stranezze di questa di questa storia che è tutta un mistero la notizia della perdita dell'aereo della morte di Mattei arriva con un ritardo di tre ore e mezza circa verrà data dall'ANSA dall'agenzia nazionale di notizie alle ore 22 e 30 l'aereo è scomparso dalle comunicazioni radio alle 18 e 57 e forse il primo particolare strano non si sapeva come darla questa notizia non si sapeva se Mattei fosse realmente morto ma questo ma questo doveva essere evidente perché l'aereo era andato distrutto e questo era noto tutto intorno e certo è che nello stesso momento stavano avvenendo fatti assai gravi e assai preoccupanti sullo scacchiere internazionale e Giorgio Lapira un uomo di punta della democrazia cristiana è stato sindaco di Firenze ne abbiamo già parlato è un uomo molto legato a Enrico Mattei vicino a quell'ala di sinistra della democrazia cristiana il giorno dopo il 27 ottobre è avvenuto l'incidente mortale il 28 ottobre il giorno dopo Lapira dichiarerà che potrebbe creare delle grosse ripercussioni dei grossi cambiamenti usa proprio questa parola Lapira di politica interna la fine di Mattei e forse anche di politica internazionale aveva colto Lapira una verità aveva colto conosceva bene quale fosse il ruolo di Mattei nella politica italiana e quali fossero le sue influenze nella politica internazionale e sapeva che quella morte aveva un significato un significato di cambiamento di carattere generale Giorgio Lapira nelle sue dichiarazioni a caldo il giorno dopo la morte di Mattei aveva sottolineato quindi il ruolo che Mattei aveva avuto nella politica interna e nella politica internazionale del nostro paese e questo era noto in ambienti della democrazia cristiana a distanza di molti anni verranno altre dichiarazioni verranno le dichiarazioni di Fanfani che in quei giorni era presidente del consiglio e ministro degli esteri della Repubblica italiana ed era personalmente legato a Mattei Fanfani farà la sua dichiarazione a un congresso di partigiani cristiani a distanza di molti anni dell'ottobre dell'ottobre e parla dell'abbattimento dell'aereo di Mattei dice chissà forse l'abbattimento dell'aereo di Mattei è stato il primo gesto terroristico nel nostro paese un'affermazione grave fatta da un uomo investito di responsabilità elevate nella Repubblica italiana e tornerà Fanfani su queste dichiarazioni a distanza ancora di qualche anno abbiamo già fatto un cenno e parlerà di qualche cosa che forse ancora non si può dire di quel momento della morte di Mattei della crisi dei missili a Cuba e beh in quei giorni erano stati scoperti i missili sovietici che venivano installati sull'isola di Cuba e ci fu la reazione allarmata e rabbiosa degli Stati Uniti e ci fu una trattativa al vertice complessa fra il presidente degli Stati Uniti il ministro più vicino a Kennedy che era poi suo fratello con l'Unione Sovietica per evitare una guerra c'era la possibilità che la costruzione dei missili sovietici a Cuba potesse portare a una guerra mondiale perché si alterava in modo molto grave l'equilibrio fra le porze era la prima volta che gli Stati Uniti si trovavano ad avere di fronte la possibilità di una minaccia missilistica erano momenti tremendi per le sorti del mondo e questi fatti sono stati ricordati o almeno è stato accennato a questi fatti a distanza di molti anni da altri personaggi che avevano responsabilità elevate nel governo italiano allora Paolo Emilio Taviani era ministro dell'interno nel giorno della morte di Mattei e ha parlato di una possibilità che scoppiasse la guerra che scoppiasse la terza guerra mondiale e ha poi ricordato che quel rischio è stato evitato per circa mezz'ora si è arrivati quasi a mezz'ora dalla guerra dallo scoppio della guerra era il 27 ottobre del 1962 queste dichiarazioni sono venute a distanza di molti anni nel 1991 è molto strano e singolare che la morte di Mattei sia quasi passata sotto silenzio sulla stampa americana la notizia verrà data soltanto nove giorni dopo la morte di Mattei verrà data dal New York Times e verrà data da un giornalista di punta del New York Times che aveva personalmente conosciuto Mattei e che seguiva le questioni particolarmente delicate sullo scacchiere del nostro paese e del sud dell'Europa questo giornalista si chiamava Cyrus Sulzberger abbiamo parlato nella scorsa puntata di un giornalista importante autorevole come si dice giornalista americano del New York Times Sulzberger il quale nove giorni dopo fa un necrologio un po' reticente un po' imbarazzato certamente tardivo perché nove giorni sono tanti dopo la morte di un personaggio per ricordarlo il titolo di questo di questo ricordo di Sulzberger sul New York Times è questo morte di un'emienza grigia è una traduzione letterale dell'inglese senza nessuna alterazione e non è certamente bello il ruolo di Mattei viene viene sminuito a un uomo capace di influire ma nascondendosi tenendosi al coperto il che non è forse vero l'influenza di Mattei era grande sulla politica estera italiana sul governo italiano ma non si può dire che tutto questo avvenisse al coperto avvenisse all'oscuro era noto si sapeva e d'altronde Mattei non lesinava neppure dichiarazioni pubbliche il ricordo di Sulzberger sul New York Times sottolinea che talvolta la morte di un singolo uomo può avere un significato mondiale ed è un bel riconoscimento fatto a denti stretti con una certa rabbia per un riconoscimento nei confronti di Enrico Mattei e si dice che questo personaggio che si chiama Enrico Mattei viene nominato nell'articolo è stato ucciso alcuni giorni fa il verbo è proprio questo è molto strano però che se ne parli di Mattei nell'articolo come del capo del monopolio del combustibile del suo paese dell'Italia e si parla di un monopolio di combustibili che in Italia non esisteva perché non c'era un regime di monopolio c'era un regime di concorrenze c'erano altre grandi compagnie italiane ma soprattutto straniere che operavano sul mercato del petrolio quindi il monopolio non era c'era un monopolio invece nelle ricerche della Valpadana questo aveva ottenuto Mattei per l'Eni le ricerche petrolifere in Valpadana erano fatte in regime di monopolio ma soltanto in quell'area in Sicilia le ricerche petrolifere erano fatte anche da compagnie straniere fra cui compagnie inglesi compagnie americane quindi era un'espressione stizzita e inesatta ma subito dopo nell'articolo di Sulzberger si parlava di Mattei come di uomo capace di influire sull'equilibrio della guerra fredda e qui cominciamo ad avvicinarci a un terreno molto molto dedicato e cominciamo ad avvicinarci anche a qualche cosa di profondamente vero perché Mattei era stato capace di influire nel quadro delle alleanze era stato capace di indirizzare quella corrente che all'interno del governo italiano si preparava a forse a una sorta di se non proprio di distacco ma di allontanamento di acquisizione di autonomia italiana all'interno dell'alleanza atlantica e quindi era sicuramente vera questa affermazione di Sulzberger e si diceva che quest'uomo era perciò in grado di influire nel difficile equilibrio fra i paesi della Nato e i paesi del blocco comunista e anche questo era vero perché Mattei con l'acquisto del petrolio nella Unione Sovietica con i finanziamenti che aveva fatto arrivare alla Unione Sovietica per completare la sua rete di oleodotti e di metanodotti certamente forniva delle aiuti di carattere strategico a un paese che l'occidente considerava nemico ma ora sentiremo meglio come Sulzberger ricordava Mattei Sulzberger aggiunge qualche nota sul personaggio dice che Mattei era un uomo di grande fascino era un uomo di grande intelligenza di coraggio soprattutto e diceva che non era comunista Mattei perché allora i comunisti erano i nemici dell'occidente e non era neppure compagno di strada come si diceva allora dei comunisti ma aveva tuttavia alimentato sostenuto e in qualche modo indirizzato una forte deviazione dell'Italia all'interno dell'alleanza atlantica questo era un punto molto molto delicato ed era vero che Mattei operava in questa direzione ed era vero che accanto a Mattei c'erano altri personaggi come Fanfani Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri al tempo stesso ed altre personalità della democrazia cristiana che seguivano la medesima linea e quindi esistevano all'interno della DC e all'interno del governo perché la DC era al governo delle forti pressioni per dare un significato diverso un peso diverso soprattutto un indirizzo diverso alla partecipazione dell'Italia all'alleanza atlantica e negli Stati Uniti si temeva che questo avrebbe potuto creare dei problemi avrebbe potuto in prospettiva portare anche ad un parziale sganciamento dell'Italia dall'alleanza e allora nella conclusione del ricordo di Sulzberger per la morte di Mattei venivano sottolineati alcuni aspetti poco belli perlomeno visti con l'occhio di chi scriveva della personalità di Mattei e si diceva che era una sorta di condottiero del rinascimento ma detto senza nessuna simpatia e qui viene il peggio e si comportava come un barone imbroglione la parola è proprio questa un barone imbroglione del XIX secolo un ricordo per uno scomparso forse anche un nemico degli interessi americani ma scomparso in modo tragico nove giorni prima ed era un ricordo su un quotidiano importante degli Stati Uniti forse il quotidiano più importante nel quale la sprezza il discacco non possono essere certamente sottasciuti era quindi questo il sentimento col quale si guardava a Mattei nei ambienti vicini al potere in America si guardava a Mattei con rabbia con stizza e un po' con paura perché Mattei aveva pesato come dice Sulzberger giustamente aveva pesato non soltanto nello sviluppo economico del nostro paese ma aveva pesato anche negli equilibri internazionali tentando di spostare l'Italia su una posizione nuova all'interno dell'alleanza atlantica una posizione di progressivo raffreddamento e di progressivo ristacco e questo si capisce che dal punto di vista americano quindi dal punto di vista di un autorevole influente importante giornale americano dovesse essere giudicato male dovesse essere giudicato con una certa stizza quindi si può si può capire la posizione di Sulzberger e non si capisce invece molto bene il ritardo perché sono tanti nove giorni per ricordarsi di un personaggio scomparso Sulzberger ricordava qualcos'altro di Mattei Sulzberger lo aveva conosciuto bene Mattei lo aveva intervistato e aveva seguito tutta l'evoluzione della storia di Mattei e della storia dell'ente nazionale idrocarpori e aveva seguito anche le deviazioni perché di deviazioni effettivamente era giusto parlare che Mattei alimentava all'interno dell'alleanza atlantica e diceva Sulzberger in una intervista a Mattei realizzata nell'aprile quindi qualche mese prima della morte di Mattei diceva che Mattei insegue una politica sua personale è una politica che in qualche modo neutralista era proprio questa la parola neutralista ed è un'espressione vera reale che aveva la dimensione di come si muovesse Mattei non soltanto in campo petrolifero ma anche nella politica estera ed era una politica neutralista che metteva Mattei in contatto diretto con Franfani ministro degli esteri e presidente del consiglio e che aveva uno sviluppo notava Sulzberger specialmente nel Medio Oriente dove metteva in difficoltà i consolidati rapporti degli Stati uniti in campo petrolifero e non soltanto petrolifero ed era una politica sottolineava appunto Sulzberger che aveva l'appoggio pieno la partecipazione piena di di Franfani ma non soltanto di Franfani presidente del consiglio ma anche di di Gronchi che era presidente della repubblica e che a Mattei era molto vicino e che con Mattei condivideva molti punti di vista e molte linee direttrici della della politica fra le quali c'erano appunto letteralmente idee neutraliste questo fa capire come l'attenzione di Sulzberger e di un autorevole giornale americano nei confronti di Mattei fosse di lunga durata e fosse un'attenzione fondata su fatti reali fondata su motivi di possibile disturbo per gli Stati Uniti che non possono certamente essere sottovalutati una politica diceva Sulzberger che ha una caratterizzazione decisa in senso neutralista ed è una politica contraria alla Nato contraria all'alleanza atlantica queste sono proprie espressioni letterali di Sulzberger e Sulzberger nello sviluppare il suo discorso scopriva una intera corrente neutralista all'interno della democrazia cristiana quindi non si trattava soltanto di Mattei non si trattava soltanto dell'appoggio di Fanfani a Mattei non si trattava soltanto della simpatia e forse dell'appoggio di Lapira ma si trattava di una vera e propria corrente fatta di uomini particolarmente vicini a Mattei particolarmente vicini a Fanfani una corrente che si muove lungo un progetto preciso un progetto a medio termine che è quello di intiepidire la partecipazione dell'Italia all'alleanza atlantica non escluderla ma intiepidirla e quindi cercare di trasformare l'Italia che era ritenuta si diceva allora la Bulgaria della Nato il paese più fedele alla Nato in un paese invece che era il Nato diventava recalcitrante e questo grazie a Mattei e ai suoi alleati politici come Fanfani Giulio Andreotti non ha mai avuto un legame particolare con Mattei Mattei si appoggiava ad altri correnti della democrazia cristiana che non erano quelle di Andreotti ma Andreotti pur non avendo avuto una particolare simpatia nel momento per Mattei pur non avendo avuto nel momento in cui Mattei viveva una vicinanza politica che lo portasse a fare qualcosa insieme ha tuttavia maturato nel corso del tempo una grande stima per Enrico Mattei e questa stima l'ha dichiarata in modo molto esplicito anni dopo la morte di Mattei dicendo quel che è certo sono parole di Andreotti parole del 1988 26 anni dopo la morte di Mattei e quello che è certo dice appunto Andreotti è il crescente rispetto con il quale la figura di Enrico Mattei resta nell'apprezzamento mondiale mondiale proprio questa è l'espressione di Andreotti egli è stato un italiano moderno è bella questa espressione moderno è un italiano che ha capito le esigenze nuove del del paese le esigenze economiche le esigenze di affermazione nei grandi traffici internazionali di affermazione sul mercato delle materie prime ed è un uomo concludeva Andreotti che ha lasciato troppo presto il suo posto di combattimento e quindi Andreotti riconosce dopo tanti anni a Mattei il ruolo di un uomo che ha combattuto per il progresso del suo paese per rendere il suo paese più moderno più grande più importante nella politica internazionale ma questo discorso ci riporta appunto alla tragedia ci riporta a quel giorno nel quale l'aeroplano di Mattei è precipitato e ci riporta a cercare di capire cosa effettivamente sia successo c'è stata una inchiesta giudiziaria relativamente recente che si è conclusa nel 2003 ma è durata nove anni interi è durata era cominciata nel 1994 una inchiesta diretta dal sostituto procuratore di Pavia Calia è una inchiesta che per la prima volta è riuscita a dimostrare la presenza di esplosivo nei resti mortali di Mattei e nei pezzi dell'aereo che si è riusciti ancora a sottoporre ad analisi e ad esami la presenza di una piccola quantità di esplosivo ha potuto dimostrare Calia quindi una quantità di esplosivo che non ha fatto scoppiare l'aereo nella sua interezza ma che è riuscita a influire su organi vitali dell'aereo determinandone quindi la perdita di controllo determinandone l'esplosione in volo e determinandone la distruzione senza che questo lasciasse delle tracce molto evidenti perché il procuratore Calia ha dimostrato che l'esplosivo era stato collocato su organi vitali dell'aereo quindi capace di determinare il disastro senza determinare l'esplosione del intero aeroplano l'esplosione avverrà dopo con l'impatto al suolo c'è costantemente un disegno presente nella attività di Mattei tutti i movimenti di Mattei le realizzazioni le nuove società dell'Eni le nuove iniziative dell'Eni in tanti paesi lontani rientrano in un progetto il progetto è quello di dare all'Italia la materia prima essenziale per lo sviluppo ma il disegno diventa poi anche quello al tempo stesso di dare all'Italia un peso un ruolo nelle relazioni internazionali le due cose sono collegate non è possibile riuscire ad avere petrolio senza essere riconosciuti come una potenza se l'Italia resta un paese sconfitto che deve dipendere dai vincitori per tutto non potrà realizzare alcun programma e quindi l'ascesa che poi effettivamente c'è stata non sarebbe stata possibile dietro questo c'è il progetto il progetto che Mattei realizza a ritmi frenetici è un progetto che lo deve portare non soltanto a trovare il petrolio perché il petrolio in Italia non c'è ma bisogna che il petrolio si trovi altrove e bisogna che si realizzino degli accordi internazionali che si realizzi di una accettazione internazionale del ruolo dell'Italia nel mondo petrolifero per far sì che questo sviluppo italiano sia possibile e questo è il progetto di Mattei un progetto che Mattei è costretto a sviluppare in modo in parte silenzioso e in parte anche clamoroso quando fai i grandi accordi con l'Iran per esempio come abbiamo già ricordato non riesce più a essere silenzioso deve la sua figura emergere deve venire sui giornali e questo gli creerà dei problemi mentre tutto il resto dell'azione dell'Eni viene tenuto coperto finché è possibile un'azione che non si deve soltanto indirizzare alla ricerca del petrolio ma si deve indirizzare anche a dotarsi dei mezzi necessari per cercarlo il petrolio e per raffinarlo e per esportarlo e per trasportarlo e quindi l'ente nazionale idrocarburi diventa una grande complesso che commercializza il petrolio che conquista mercati internazionali che dal petrolio estende i suoi interessi al gas naturale che estende l'interesse complessivo di petrolio e di gas naturale al trasporto di queste materie in paesi lontani che si indirizza quindi a conquistare mercati a conquistare località di approvvigionamento di possibilità di interferire nel grande equilibrio petrolifero internazionale dal quale l'Italia era esclusa e a te invece riesce a infilarcela questa nostra Italia nell'equilibrio petrolifero ed è una gran fatica un gran lavoro un lavoro fatto in buona parte in silenzio ma con risultati clamorosi ed è un lavoro portato avanti da Enrico Mattei presidente dell'internazionale idrocarburi e da Alcidele Gasperi che è il presidente del consiglio e che consente a Mattei tutto questo ed è un lavoro che viene poi sostenuto anche da altri personaggi della politica italiana come Aventure Fanfani a lungo presidente del consiglio e ministro degli esteri e la storia di Mattei l'abbiamo vista in tanti piccoli particolari l'abbiamo vista nei suoi sviluppi l'abbiamo vista nella sua drammatica conclusione ed è una storia che ha le caratteristiche di tante altre storie italiane quelle storie nelle quali l'Italia si costruisce l'Italia si dà un potere ma tutto questo l'Italia riesce a viverlo con con molta semplicità riesce a realizzarlo senza averne una consapevolezza piena nel momento in cui si crea nel momento in cui cresce in cui la realizzazione è in atto c'è una sorta di partecipazione che è una partecipazione che potremmo definire corale e anche questo è un fatto molto italiano corale ma con molto distacco è una partecipazione che nello stesso tempo è critica in qualche modo è un progetto i cui attori non si riescono a identificare e nella storia di Mattesi identifica soltanto la sua figura la sua capacità di costruire la sua capacità di far crescere l'ente nazionale idrocarburi la sua capacità di fare dell'Italia una potenza petrolifera ma i protagonisti politici per esempio restano nell'ombra non hanno avuto la volontà forse non hanno avuto la possibilità di emergere per quello che realmente hanno fatto i protagonisti politici accanto a Enrico Mattei sono due De Gasperi innanzitutto e Fanfani De Gasperi presidente del consiglio quando viene creato l'ente nazionale idrocarburi e Fanfani è presidente del consiglio nel momento dell'apogeo dell'Eni al momento anche della morte di Enrico Mattei ma Fanfani è costretto a appoggiare Mattei senza darlo troppo a vedere il presidente della repubblica Gronchi che segue la medesima linea anche egli si tiene dietro le quinte pur appoggiando in modo decisivo Mattei e De Gasperi che è l'artefice dell'ente nazionale idrocarburi quello che rende possibile la creazione dell'Eni quello che per primo crede nel grande progetto di Mattei e lo appoggia e gli dà la possibilità di servirsi di una legge che consentirà all'Eni l'esclusiva nella Valle Padana consentirà all'Eni il grande sviluppo anche appunto De Gasperi non può uscire allo scoperto perché se uscisse allo scoperto in modo clamoroso comprometterebbe un equilibrio di alleanze creerebbe dei problemi con gli alleati della Nato creerebbe dei problemi con gli Stati Uniti che hanno dei forti interessi petroliferi creerebbe dei problemi con con Ighiterra anche che pure ha grossi interessi e appoggia la linea americana e quindi soltanto Mattei che in qualche misura dico soltanto in qualche misura perché anche egli viene allo scoperto soltanto per quanto è effettivamente indispensabile ma gli altri i protagonisti politici sono costretti a realizzare questo progetto italiano di sviluppo decisivo quello che ha portato l'Italia nel novero delle grandi potenze economiche internazionali hanno dovuto operare tutto questo nella riservatezza senza le grandi dichiarazioni pubbliche anzi cercando dal punto di vista formale quasi di prendere le distanze da Mattei del quale condividevano peraltro tutto condividevano la linea politica condividevano gli obiettivi condividevano la strategia bisogna anche dire che Mattei non è stato particolarmente fortunato col suo internazionale idrocarburi perché è riuscito a mettere le mani sulle zone più ricche dal punto di vista petrolifero ma in quelle aree non è riuscito a trovarlo il petrolio o non è riuscito a trovare petrolio di qualità è una vecchia storia italiana che si ripete anche il fascismo aveva cercato petrolio in Africa cercato in Libia per esempio ma in Libia non l'aveva trovato si è invece visto che la Libia era ricca di petrolio soltanto dopo la caduta del fascismo e dopo che l'Italia non aveva più alcun interesse petrolifero in quel paese la stessa storia si ripete con Enrico Mattei Enrico Mattei abbiamo visto riesce a mettere le mani sulle zone più ricche arriva in Libia ma in Libia il petrolio che tira fuori non è particolarmente significativo dal punto di vista economico mette le mani sul petrolio della Persia e anche lì è un disastro perché rompe un equilibrio internazionale proponendo una nuova regola petrolifera che abolisce il 50-50 e eleva la percentuale di utile del paese produttore lo eleva fin quasi al 75% eppure le zone che riesce a farsi assegnare Mattei per le sue ricerche in Iran non sono le zone più ricche e la ricerca sarà anche lì sarà lunga sarà dispendiosa i risultati ci saranno perché il petrolio veni riuscirà a portarlo via dall'Iran ma non è la ricchezza che ci si era aspettata gli altri paesi le altre concessioni petrolifere sono nelle zone veramente ricche le concessioni petrolifere che è riuscito ad avere Mattei per l'ente nazionale idrocarburi non sono particolarmente ricche e quindi è una storia questa del petrolio italiano che tende quasi quasi a riprodursi con Mattei nella stessa dimensione in cui l'avevamo conosciuta negli anni che precedettero Mattei negli anni del fascismo è una storia che vuol quasi ricordare all'Italia di non far parte del club dei potenti del club dei ricchi del club dei petrolieri ma di dover accettare un ruolo continuamente appartato un ruolo continuamente subordinato alle grandi potenze vere questa sfortuna accompagna Mattei per tutta la sua vita succede che Mattei con i suoi accordi rompa equilibri internazionali molto delicati quindi creando pericoli per se stesso e delle ripercussioni diplomatiche gravi per il suo paese ma senza riuscire ad avere successo nelle ricerche senza riuscire a portare in Italia il petrolio che cercava e dunque la stessa storia che l'Italia aveva vissuto nei decenni precedenti si riproduce con l'ente nazionale idrocarburi di Mattei i grandi successi dell'Eni potente realmente a livello internazionale verranno tanti anni dopo la morte di Mattei Enrico Mattei introduce un elemento nuovo nella storia italiana introduce soprattutto un elemento nuovo nelle relazioni internazionali del nostro paese l'Italia non aveva avuto tradizionalmente un ruolo di punta a livello internazionale aveva sempre seguito alleanze con paesi molto molto forti l'ultima sfortunata alleanza fu quella con la Germania e con il Giappone ma non era mai riuscita a condurre una propria politica internazionale e né una politica economica internazionale il fatto nuovo che Mattei fa sperimentare al nostro paese è appunto questo quello di riuscire a essere perché riuscita a essere protagonista in settori importanti della politica estera e della politica economica internazionale e questo è stato il risultato dell'Eni di Mattei è stata una necessità perché il progetto non era assolutamente questo non era un progetto di rottura di equilibri internazionali consolidati era un progetto soltanto di fornire all'Italia combustibile di cui l'Italia aveva bisogno la materia prima ma nel nel corso di tutta la vicenda di Mattei che noi abbiamo rapidamente attraversato questa necessità è emersa sempre di più e quindi l'Italia è stata quasi costretta ad assumere un ruolo nella politica internazionale dell'economia e nella politica internazionale e questo ha fatto sì che da un lato l'eni di Enrico Mattei e il nostro paese contasse di più nel mondo ma ha fatto anche aumentare di molto le tensioni nei confronti di Mattei nei confronti dell'Italia e questo non si può dire se sia stato effettivamente un successo per Mattei è stato un successo per l'Italia di cui Mattei è stato artefice protagonista realizzatore che ha saputo pagare poi il prezzo duro del risultato ottenuto queste considerazioni a distanza di tanti anni bisogna farle perché un un paese nell'equilibrio internazionale difficilmente specialmente negli anni che hanno seguito la seconda guerra mondiale che arrivano fino a noi riesce a mantenere a lungo un ruolo secondario o conta qualche cosa o ha un peso reale rispetto agli altri paesi oppure tagliato completamente fuori Mattei attraverso l'Eni ha dato un ruolo all'Italia bisogna partire da un dato molto importante l'Italia nel 1974 12 anni dopo la morte di Enrico Mattei si ritrova a essere la sesta potenza economica mondiale è una classifica che viene rifatta ogni anno dai massimi organismi internazionali dell'economia dalla World Bank e talvolta è al settimo posto qualche volta la statistica viene revisionata nel corso dell'anno ma diciamo fra il sesto e il settimo posto dal 1974 l'Italia è costantemente nella classifica internazionale delle grandi potenze economiche la situazione non è più questa è cambiata da qualche anno ma il traguardo raggiunto nel 1974 si può considerare il successo postumo della grande battaglia di Enrico Mattei l'Italia è oramai autosufficiente dal punto di vista energetico ha un importante commercio di metano un metano che non è più soltanto quello del sottosuolo italiano ma è metano importato da paesi stranieri da paesi del nord Africa in modo particolare ma anche questo è lo sviluppo di iniziative dell'ENI di Mattei e anche queste sono attività controllate dall'ENI da quello che Mattei aveva costruito e che aveva dovuto abbandonare nel 1962 con la sua morte quindi il successo vero di Mattei le realizzazioni vere di Mattei emergono nel 1974 con questa consacrazione nazionale a un livello assai notevole nella classifica internazionale delle potenze economiche e questo è il risultato di un paese che ricostruitosi dalle macerie del dopo guerra riesce a entrare nelle classifiche mondiali delle potenze economiche e questi sono fatti da noi molto spesso dimenticati non mai ben tenuti presenti per la nostra incapacità di inorgoglirci della quale abbiamo già fatto cenno in una delle precedenti trasmissioni ma sono dati reali sono dati reali che hanno fatto conoscere meglio il nostro paese all'estero che hanno dato al nostro paese una cifra internazionale che non aveva e hanno dato dei vantaggi che si riverberano su tutti noi su tutti gli italiani si riverberano sulle aziende italiane si riverberano sulla competitività internazionale del nostro paese non è possibile realizzare tutto questo se non si ha una presenza forte sul mercato delle materie prime se non si ha una presenza forte sul mercato petrolifero e questo è quello che Mattei ha lasciato l'Italia e questo è quello che Mattei non è riuscito a vedere perché si realizza molti anni dopo la sua morte ma è il risultato di un di un disegno che ha visto tutto il nostro paese impegnato impegnato anche con una capacità di inventiva con una capacità creativa straordinaria abbiamo parlato anche della capacità che Eleni ha di innovare nel campo della ricerca petrolifera il bisogno iniziale per l'Italia era stato quello della ricostruzione quella di rimettere in piedi il paese devastato dalla guerra accanto alla ricostruzione l'Italia ha fatto qualche cosa di più è riuscita adottarsi di una materia prima importante ed è riuscita soprattutto a raggiungere questa posizione nell'ambito delle potenze internazionali oggi è ancora l'Italia una potenza petrolifera pur non riuscendo a conservare la sua posizione al top delle massime economie del mondo rimane pur sempre un paese petrolifero rimane sempre un paese con la sua capacità di controllare fonti petrolifere con la sua capacità di controllare il mercato tutto questo si realizza con una strategia con una strategia molto complessa molto delicata che si sviluppa nella rapidità dei tempi si sviluppa giorno per giorno ma si sviluppa avendo in mente un obiettivo preciso e questo è il merito principale che Amateva ha riconosciuto a distanza di tanto tempo per l'Italia è tanto perché la storia dell'Italia specialmente nel dopoguerra è stata una storia amara è stata una storia fatta di umiliazioni che erano date al paese sconfitto era una storia di discredito a livello internazionale era un paese costretto a esportare la forza al lavoro era una storia di un'Italia che aveva una grande inventiva ma che si poteva realizzare soltanto nelle piccole cose nei piccoli brevetti ed ecco che invece la inventiva dell'ENI l'inventiva di Mattei si realizza su un terreno ben più ampio di quello del piccolo brevetto nel quale si vedeva la capacità italiana è l'iniziativa che si sviluppa in campo petrolifero che è il campo portante del progresso la vicenda di Mattei e dell'ente nazionale idrocarburi oramai è storia non è più non è più cronaca e questo forse ha consentito anche di togliere il velo al mistero che la accompagnava l'inchiesta del procuratore Calia ha fatto scoprire come abbiamo detto l'esplosivo l'aereo di Mattei scoprire chi abbia messo quell'esplosivo e perché non sarà ormai più possibile e ogni ipotesi è legittima e nello stesso tempo ogni ipotesi è senza significato ma con Mattei è finita una parte importante della storia italiana di questo secondo dopoguerra è finita quella parte della nostra storia che ha portato l'Italia a livello di grande potenza che ha portato l'Italia a essere in qualche modo temuta da parte delle potenze consolidate che avevano dominato e dominano il mondo stiamo per lasciarci e quindi i bilanci sono necessari ed è un bilancio quello che si fa su Leni e su Dico Mattei largamente positivo positivo per Leni positivo per l'Italia positivo per l'immagine del nostro paese nel mondo Leni ha dato una capacità di crescita anche all'immagine italiana e l'immagine si traduce molto rapidamente molto facilmente in consistenza economica per un paese specialmente in un mondo come quello di oggi nel quale l'immagine ha un posto predominante questa immagine di Mattei che si è costruita come abbiamo più volte sottolineato nel silenzio assoluto nel silenzio che era riservatezza per non far conoscere in anticipo le mosse ai concorrenti stranieri concorrenti americani e inglesi dobbiamo chiamarli concorrenti perché l'Italia con Mattei era diventata tanto potente da poter considerare anche le grandi potenze come concorrenti e ha dato quindi al nostro paese un risultato del quale si continuano a vedere i frutti frutti che si sono oramai sviluppati in direzioni diverse che non sono più soltanto quello del petrolio e del metano ma quando un risultato del genere è conseguito da una nazione come la nostra e una nazione europea questo risultato riesce a proiettare delle conseguenze nel tempo delle conseguenze positive oggi forse si pensa a Leni e a Enrico Mattei come al uomo di riferimento di una grande holding petrolifera di una grande rete di distributori di benzina di una rete di motel tutte realizzazioni che erano state delle Eni di Mattei ma che non sono quelle essenziali quelle principali quelle realmente caratterizzanti le realizzazioni caratterizzanti sono state quelle di cambiare la cifra internazionale del nostro paese questo va ricordato ora che ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione e nella ultima puntata vedremo anche le cifre quali sono i numeri nei quali si compendiano questi risultati di Enrico Mattei e del suo ente nazionale idrocarburi alle 22 e 30 del 27 ottobre 1962 con la notizia data dall'agenzia nazionale ANSA si conclude la vicenda di Mattei si conclude forse anche la storia dell'ente nazionale idrocarburi perché l'ente nazionale idrocarburi non avrà più il ruolo che aveva avuto negli anni successivi alla guerra con Enrico Mattei aveva avuto un ruolo di punta nello sviluppo italiano aveva avuto un ruolo di attacco al potere petrolifero aveva avuto la capacità di portare l'Italia nell'opero delle grandi potenze economiche aveva avuto il ruolo di portare il metano nelle case di portare la benzina alla circolazione automobilistica aveva avuto il ruolo di trasformare tutto il nostro sistema di comunicazioni viarie aveva avuto il ruolo quindi di cambiare l'economia di un paese che poteva in Europa forse considerarsi arretrato ma questo finisce questo finisce con la morte di Mattei perché l'Eni dopo la morte di Mattei sarà una cosa diversa nulla in contraddizione con la vita e con la vicenda umana di Mattei nulla in contraddizione con le realizzazioni di Mattei ma qualcosa di completamente diverso una organizzazione che si avvia a diventare privata a competere sul mercato petrolifero ma non più sventolando una bandiera quella del nostro paese che ne deteneva la maggioranza azionaria ma quello di un paese fra i tanti che si accontenta in questa società di una partecipazione azionaria sempre minore aveva avuto il 100% di partecipazione nazionaria allo Stato italiano con Leni di Mattei e questa situazione cambierà radicalmente con la dizio della privatizzazione nel 1995 ma si comincia a preparare la strada molti anni prima cambiano le funzioni del Leni cambia il ruolo internazionale del Leni non c'è più forse la necessità dell'aggressività che Leni aveva avuto Leni i suoi spazi è riuscito a conquistarli forse anche grazie a quella aggressività ma di quella aggressività non c'è più bisogno il mondo è completamente cambiato il mondo si privatizza da tutte le parti in tutti i settori e Leni non riusciva a rimanerne immune anche Leni sarà privatizzato sarà privatizzato per il 69,7% del suo capitale l'operazione è cominciata nel 1995 e lo Stato italiano non avrà più il controllo diretto al momento dell'inizio della privatizzazione nel 1994 Leni dava lavoro a 90.000 operai e impiegati ed era riuscito a raggiungere la terza posizione a livello mondiale per il rapporto fra utili e fatturato la quarta posizione a livello mondiale per utili consolidati e riusciva a garantire il 51% del fabbisogno italiano di gas sono soltanto alcune cifre dell'Eni che danno la dimensione di quello che Leni era diventato una organizzazione di questo genere nel mondo mutato di questi ultimi anni non poteva forse più rimanere nelle mani dello Stato aveva bisogno di passare in altre mani e bisognerà vedere quali sono queste mani perché in quelle partecipazioni che Leni ha ceduto sul mercato forse ci sono anche alcuni di quei concorrenti accaniti che avevano fatto di tutto perché Leni non esistesse affatto il racconto dedicato a Enrico Mattei e all'ente nazionale idrocarburi Leni è finito qui leni è finito Grazie a tutti.